Presidente, noi ci chiamano la mattina alle 5 e mezza, dalle 6 e mezza stiamo giù già alle 6 e 10, 6 e un quarto dentro Poggio Reale, da aspettare, veniamo qua sopra alle 7 e mezza e siamo qui, ogni mattina, scusatemi, ogni mattina ogni udienza è sempre la solita cosa, cioè non è noi, non è che diciamo che voi sapete voi quando dovete venire, siamo chiaramente d'accordo, però voi potreste anche disporre che si venga più tardi, non dico alle 10, però che veniamo alle 9 qua sopra, almeno sono solo due ore che aspettiamo. Ma il fatto è che la speranza nostra è di iniziare sempre alle 9, purtroppo c'è una questione tecnica che non mi consente molto spesso. Sì, ma almeno veniamo portati alle 8 e mezza qua sopra, non certo alle 7. È la questione dell'avvocato di ufficio, comunque praticamente farò in modo che sia alle 9 dalla prossima volta. Vabbè, grazie. Vabbè, altro. Altro? Signor Presidente, c'è la questione di Dicirolamo, signor Presidente, il Dicirolamo al carcere è sorvegliato 24 ore su 24, ha tentato varie volte il suicidio e altre cose. Qui in gabbia lo tengono da solo e fa delle cose come l'episodio di ieri e altre cose. Poi soffre, soffre. O gli mettete, fate il modo di mettergli qualche infermiere lì con lui, oppure potete mettere qualcuno in gabbia con lui, perché questo soffre. Avete capito? Ho capito, va bene. E se può mettermi anche a me in gabbia con lui, signor Presidente, l'ho chiesto anche l'altra volta. E lei chi è? Sono autiero. Poi vediamo. Grazie. Allora, possiamo iniziare? Prego, avvocato. Per favore, una richiesta istruttoria che vorrei mettere a verbale. Sul giornale Napoli Notte del 17 maggio 1985 è pubblicata una lettera del dissociato Melluso. Il titolo è torto e eletto dalla Camorra, punto interrogativo. È tutto quanto vero. E noi chiediamo che l'onorevole tribunale voglia disporre l'acquisizione dell'originale che dovrebbe trovarsi presso la direzione del giornale Napoli Notte. Grazie. Al momento produciamo l'articolo. Allora, pubblico ministero su questo? Non si oppone? No. Il tribunale si risentra. È una lettera che avrebbe scritto Melluso a Napoli Notte. Va bene, il tribunale si risentra su questo. Andrini, il risultato è una cosa. Prego, avvocato. Prima che lei interroga l'imputato Leonardo, perché mi pare che per la prima volta... Sì, mi dà il fascicolo. Sì, sì. Come è venuto con l'ambulanza? È meglio mandarlo via più presto. No, volevo chiedere al tribunale. Prima di passare l'interrogatorio, di contestare o di chiedere se conferma o non conferma, io vorrei che il tribunale chiedesse all'imputato Leonardo, già che interessa la posizione del mio cliente, se intende rispondere oppure non intende rispondere. Ha lo scopo, ha lo scopo di, se egli dice intendo rispondere, che egli risponda poi anche ai nostri interventi quali difensori. Non facciamo quello che è successo con D'Amico e con altri i quali sono venuti. Voi avete chiesto, scusatemi signori, voi avete chiesto se confermava le accuse contro gli imputati. Quando poi noi siamo intervenuti per dire rispondi anche alle nostre domande, perché si chiarisca se quello che hai detto risponde o meno a verità, ha detto non rispondo alle domande dei difensori. Questa risposta non può essere parziale. Allora, domandiamo, lo dice la procedura penale all'articolo 78, ultimo comma, l'autorità giudiziaria, lo leggo a me, o l'ufficiale di polizia giudiziaria, prima che abbia inizio l'interrogatorio in qualsiasi fase del procedimento, deve avvertire l'imputato, dandone atto nel verbale che egli ha la facoltà di non rispondere, salvo quando rispone l'articolo 366 che non ci riguarda, primo comma, ma che se anche non risponde, si procederà oltre nelle indagini sull'autorità. Ora, se egli dice, io intendo rispondere, deve rispondere anche alle nostre domande, affinché chiariamo se quello che egli dice risponde o meno a verità. Se si rifiuti di rispondere, quale mezzo a peco strigge lo? Prego. Quale mezzo a peco strigge lo a rispondere? No, noi gli chiediamo se il Presidente intende rispondere, la legge dice, prima dell'interrogatorio... Allora, a parte il fatto che noi abbiamo già risposto con ordinanza, comunque io gli chiederò questo, però se si rifiuta di rispondere non gli possiamo fare niente. Se ne va senza rispondere nemmeno sulla conferma delle accuse però. No, non lo so, vediamo che cosa è. Lei intende rispondere, Leonardo? Intendo rispondere. Intendo rispondere, va bene. Allora, conferma tutto ciò che ha dichiarato al Pubblico Ministero e al Giudice Istruttore? Lo confermo, confermo. Parli un po' più nel microfono, eh? Sento un po', lei ha parlato di Acquaviva Luigi, se lo ricorda? Chiamato Gicino e Terzigno. Sì. Dice, lo conobbi, appoggio reale dell'anno 80-81 al padiglione San Paolo e con lui chiarimmo alcune circostanze. In particolare mi chiese confermi intorno al fatto se avessi perdonato Targo Maurizio, che mi avrei chiamato in Corriera, una rapina avvenuta il 4 maggio 1977 in Napoli, da un ricetto francese dei quartieri. e poi ha detto, so che gli era dentro, all'era Pite dei tir sull'anno estate. Gli confermai che effettivamente aveva perdonato il tanque e che quello non doveva essere fatto più fuori. Ma Acquaviva era, apparteniva all'RCO? Sì. E' sicuro di questo? Sicuro. Come fa a dirlo? Sicuro perché, a parte che mi fu detto, eravamo in contatto io e lui, per la faccenda del mio poi imputato Tanco Maurizio. Sì. Vabbè, eravamo in contatto, quindi glielo disse anche lui? Sì. E nell'ambiente pure l'ha saputo di questa sua appartenenza? Non ho capito, signor Presidente. Anche nell'ambiente della Ineziole ha saputo di questa sua appartenenza? Sì, sì, anche nell'ambiente della Ineziole. Sì. Dunque, per quanto riguarda poi Astorina, lei pure ne ha parlato. Ricorda se apparteneva all'RCO o meno Astorina Mario. Signor Presidente, non ricordo com'è preciso che non essi di questa Astorina Mario. Lei ha detto, non conosco personalmente Astorina Mario, ma più volte ho sentito parlare di lui come elemento vicino all'NCO, nel senso che egli faceva parte dei Catanissi, anche se non lo è di origine. Egli come tale, non so se è stato legalizzato, però era a disposizione dell'RCO o meglio era disponibile per i compiti che gli affidavamo. Conferma questo? Sì, sì, mi confermo. Comunque non ha presente bene la posizione di Astorina. No, non lo conosco proprio, signor Presidente. Non lo conosce proprio? Solo per sentire lo dire? Sì. Va bene. Quindi non sa altro oltre questo. Poi ha riconosciuto in fotografia Auriemma Ciro. Dice, vedendo la fotografia i miei ricordi si appuntano a Padiglione Genova, dove lo conobbi nel 79, quando mi era detenuto per tentare omicidio. Ora, per quanto riguarda Auriemma, io ho letto questa prima parte proprio per ricordarle, per sollecitare un po' la sua memoria. Lei ricorda se era appartenente all'NCO, Auriemma? Sì, Presidente, non ricordo come si è appartenente. Comunque era molto vicino all'NCO, era questo sì. Infatti, all'epoca doveva essere legalizzato. Non so se poi lo fu effettivamente. Comunque, allora, era già camorrista a voce della nostra organizzazione. Camorrista a voce, nel senso che era... Che significa camorrista a voce? Cioè che è promesso, diciamo, era un promesso che doveva entrare nell'organizzazione. Però non sa se è stato legalizzato o se è entrato a far parte dell'NCO. Esatto, sì. Sa se ha svolto qualche compito per l'organizzazione? No. Presidente, chiedo scusa, che intende quando dice era molto vicino all'organizzazione? Che cosa intende quando dice era vicino all'organizzazione? No, in genere, anche di questo qua. Ah beh, in genere. Quando dice è vicino all'organizzazione, che intende? Perché c'è questa disposizione di qualche cosa. Cioè che è vicino all'organizzazione. Siccome stiamo parlando di fetalizzato, è vicino all'organizzazione. Il fetalizzato è uno che è entrato proprio... Se qualcuno gli chiedeva qualche foro, lui lo faceva per l'organizzazione. Questo è il dentro. C'era insomma un impegno da parte sua, da parte di questo vicino. Non ho capito. Da parte di questa persona che lei assume essere vicino all'organizzazione, c'era un impegno a svolgere attività nel caso in cui... Se c'era qualche impegno da svolgere, lo vuole anche svolgere. Però non lo so se lui ha partecipato a qualche cosa. No, Leonardo, stiamo parlando in generale. Il pubblico ministero voleva sapere, queste persone che voi dite vicine all'amministrazione, vicino all'organizzazione, che cosa significa vicino all'organizzazione? Cioè che cosa facevano insomma? Facevano qualche cosa per l'organizzazione? No, 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 no. Erano solo simpatizzanti? Esatto, simpatizzanti, sì. Va bene. Sento un po'. Poi ha parlato anche di Bifulco Enrico, detto uciniso. Uciniso. Sì. E lei ha detto, posseggo numerose fotografie. E va bene. Ma infatti posseggo delle fotografie, dice che fosse l'NCO. Era dell'NCO anche Bifulco? Sì, legalizzato. Legalizzato, sì. Da chi? Con precisione non lo so, però se non sbaglio da Rattunanza Domenico. E si ha svolto qualche compito per conto dell'amministrazione? Che cosa? No, no, signor Presidente, non lo so. Eh? Dunque, ma chi le ha detto che era stato legalizzato e che era camorrista questo qui? Stavamo insieme, signor Presidente. Stavamo insieme nello stesso carcere? Sì. Per molto tempo? Diciamo qualche... per molti mesi. A che posto, più o meno? Come? In che carcere? A Poggio Reale. Ricorda il periodo? No. Padiglione c'era, ma comunque. Padiglione c'era, ma il periodo lo ricorda? No. Poi abbiamo Bruno Nello. Lo ha conosciuto questo? Personalmente. Ha detto appartiene al clan di Sergio Marinelli, operante nella zona dell'Avellinese e del Nolano. E' certo di questa circostanza? Sì, Presidente, perché siamo stati assieme, abbiamo parlato molte volte di queste cose, siamo stati anche assieme a Pianosa. E lui era proprio... sicuramente apparteneva alla NCO? Sì, ma ha detto che era sicuro che apparteneva alla NCO, era sicuro. Se proprio quello che le ho detto io, cioè che si conosceva nell'attività nell'Avellinese, sono cose su che mi ha detto a me. Ha detto lui? Ma non è che l'hai citito. E lui stesso le disse che apparteneva alla NCO? No, lui stesso no. Già sapeva che apparteneva alla NCO. Lei però già lo sapeva. Campetto Antonio lo ricorda? Non ricordo molto bene, signor Presidente. E dice, conosco personalmente Campetto Antonio, che è un sardo, adesso lo ricorda? Sì, sì. Che ha conosciuto a Novara. A Novara. Sa se fosse o meno cutoliano questo? Non ricordo bene, signor Presidente, perché sono stato pochissimo tempo a Novara. Però l'amico mi disse che era amico nostro. Va bene. Infatti le ha detto, so che è molto vicino ai cutoliani, ma non so se è stato legalizzato. Quindi non saltano? No. E per quanto riguarda Castaldo Carlo, che lei è andato a Porta Azzurro nell'8081? Sì. Stiamo nella stessa stanza. Questo è camorrista? Se vorrei precisare una cosa su Castaldo Carlo. Non so se all'epoca ho detto che era camorrista. Non lo so se l'ho detto. Ha detto che era camorrista. D'accordo. Sto dicendo, non lo so se l'ho detto. Comunque oggi voglio precisare una cosa su questo ragazzo. All'epoca io saprei che lui doveva essere legalizzato da Michele a Fulmi. Poi tutto questo tempo sono venuto a sapere che Castaldo non è stato mai legalizzato nella NCO. Cioè voglio precisare questa cosa perché se devo dire una cosa la voglio essere sincero. No vabbè, lei ha dichiarato che è il comparirlo di Ia Fulmi. Ia Fulmi. Sapevo che lui doveva essere legalizzato da Michele a Fulmi, che poi non è stato mai legalizzato. Ho capito. Perché lei disse che è il comparirlo di Ia Fulmi. D'accordo. Da quale è stato legalizzato. Lei poi ha saputo successivamente che non è stato legalizzato. Esatto. Sa altro su Castaldo Carlo, attività svolta nell'interesse dell'organizzazione, del qualche reato specifico commesso su ordine di conto o di altri? No, no. Niente per il presente. Niente proprio. Comunque lei è stato nella stessa stanza con Castaldo Ciro, con Castaldo Carlo, per diverso tempo. Lui diceva che era capotista o no? No, cioè, stando nella stessa cella, eravamo tutti gutoliani nella stessa sezione, eravamo quasi tutti gutoliani. Cioè, ricordo bene che il ragazzo era anche un po' intimorito nella situazione. Cioè, se parlava in Agoso, lui partecipava, però partecipava anche forzato, non è che erano ben volentieri. Ho capito. Poi ha parlato anche di Cianci Antonio. Cianci Antonio. Cianci, un giovane pugliese. Sì. Che è stato nella sua stessa cella a Pianusa. Sì. E poi è in detenzione per l'omicidio di due carabinieri a Torino. A Torino, sì. Questo Cianci era... L'appartenente alla NCO? Sì. Sicuro? Sicuro. Mi fu presentato da Giovanni Pantico al mio arrivo a Pianusa, come appartenente alla NCO. Sa chi l'ha legalizzato? Non ricordo con precisione, non è precisissimo. Comunque stava con voi a Pianusa? Sì, a Pianusa. Eravamo già assieme. Tra i cutoliani, insomma? Sì. Sì. Antonino è un giovane incontrato a Pianusa. Sì. E questo pure... Cutoliano. Cutoliano. Sì. Sa chi l'ha legalizzato? No. E quando lei ha detto il compare di Guido Catapano, che si dice? Sì, cioè che lui era il responsabile di Guido Catapano. O Guido Catapano era il responsabile? No. Dan era il responsabile di Catapano. Sì. Sì. Sendo un po', è stata in qualche attività svolta da Anna? No, signor Presidente. No. Stava a Pianusa con voi? Sì. E nel gruppo dei cutoliani? Sì. Andiamo poi, Faro Antonino. Come? Faro Antonino. Che lei conosce, ma non personalmente. ne ha sentito parlare come appartenente alla banda dei catanisi? Sa se era legato o meno all'NCO? No, non si è presente. Perché lei ha detto che egli un tempo è stato legato all'NCO e ha reso acquista molti servizi. cerchi di ricordarsi qualche cosa? Non ho capito come ci sono cose che dice. Dice, un tempo è stato legato all'NCO, ha detto lei, ed ha reso acquista, cioè all'NCO, molti servizi. Ricorda perché ha affermato questo, lei? Qualche servizio? No. Di Faro? No. Puoi ricordarlo riferendosi alla banda dei catanesi? Che a banda dei catanesi che compiti aveva? No, signor Presidente, questo mi fu detto da D'Amico Pasquale di questo nome, però io personalmente di lui non so niente. So soltanto che, come l'ho detto, come sta scritto là in fascicolo, di lui non so niente. Quindi D'Amico Pasquale le avrebbe detto che questo avrebbe visto? Sì, perché eravamo, diciamo, si rendeva partecipi a qualsiasi cosa da parte dell'NCO, che è un amico nostro, qualsiasi cosa, se io lo incontravo potevo stare tranquillo con lui. Però personalmente non so niente. Sì. Per quanto riguarda Francese Pasquale, un cacarone chiamato, e questo è camorrista? Sì. Lei l'ha conosciuto nel 79 e 80 al padiglione Italia. Italia. È sicuro dell'appartenenza all'NCO di questo Francese Pasquale? Sì, sì. Aveva qualche ruolo particolare nell'organizzazione? Non lo so il ruolo che vuole dire, che ruolo aveva nell'organizzazione. Che è camorrista, è camorrista, signor Presidente. Gliel'ha detto anche lui? Sì. No, lui non me l'ha mai detto, però qualche volta ci siamo iscritti. Eh beh, iscriversi non significa essere camorrista. Eh no, iscriversi in gergo, diciamo, gergo camorristico, Presidente. Poi c'è anche, non mi ricordo con precisione, la foto della buonanime del fratello ce l'ho ancora, dove lui me la invitò, me la inviò in memoria del fratello. Gli episodi particolari in cui è stato coinvolto questo Francese, lei non sa niente. No, attività svolta per conto dell'NCO, niente proprio. Fusco Giovanni, che lei conosce, Fusco Alessandro, perdone, che lei ha conosciuto personalmente, è un bugliese. Sì, lo conosco. Ed è camorrista anche questo? Sì. Sai chi l'ha legalizzato? No, non lo so, so anche che è sgarrista, signor Presidente. Che? Sgarrista. Ah, vabbè. Di che zona? Di la zona delle Puglie, però non ricordo con precisione, se è Bari, Foggi, non lo so. È sicuro che è sgarrista? Sì. Chi gliel'ha detto? Proprio lui. E anche nell'ambiente si sapeva questo? Sì. I camorristi si sapevano? Sì. E Cangemi, l'avvocato, ha avuto a che fare con lui? Non l'ho mai conosciuto, signor Presidente, però ne ho sentito parlare dell'avvocato Cangemi. Però? Ha sentito parlare. Ha sentito parlare. E che si diceva? Che era Guttoliana. Era Guttoliana? Sì. E che cosa svolgeva in particolare con lui? Non ho sentito. Che cosa faceva in particolare come Cuttoliano? Non lo so, non lo so, signor Presidente. Però le hanno detto qualche cosa a proposito, quando andava a qualche colloquio l'avvocato Cangemi. Mi hanno detto? I suoi amici, diciamo così, altri Cuttoliani, le hanno riferite di attività svolta dall'avvocato Cangemi quando andava a qualche colloquio. Delle ambasciate che portava dal cancere all'esterno. Questo gliel'hanno detto? Sì, sì, questo sì. Uno o più persone? Più persone. Mi sa fare qualche nome? Sì, Michele Afulli, D'Amico, tanti di loro, sì, questi sì. Quindi si servivano dell'avvocato Cangemi e portavano i ambasciatori? Giacobbe Antonino, pure l'ha conosciuto, è un calabrese. Ma non è che l'ho conosciuto che ci siamo presentati, l'ho visto così sfuggito dalla sezione. A passeggio? Sì. E' caporista questo? Ma non ricordo bene, signor Presidente, non lo so. Vabbè, ha detto poco perché dice che era persona anziana, di origine calabrese, il quale prese parte a sequestria e omicidio di una ragazza in Viemonte. Graziano Pasquale Raffaele? C'è il sindaco di Cosmano? Sì. Ma con precisione, non so se, però sempre attraverso voci, non lo so. Attraverso voci? C'è che faceva parte la NCO, pur che era amico, ma con precisione non lo so. E le voci da chi le sono giunte queste voci? Sempre nella persona della NCO. Ricorda qualche persona che gliel'ha parlato? Soltanto di loro, signor Presidente. Tanti di loro, ma in particolare qualche di loro che ha parlato qualche volta. Comunque le cose che io sapevo spesse volte erano da amico, perché da amico ero il mio compagno, diciamo, e lui mi informava di tante cose. Ah, ho capito. E Guarneri... Alfredo, mi pare che sia? Alfredo, sì. Guarneri e Alfredo, lei l'ha conosciuto dove a Pianosa? Ah, a Pianosa. Che cosa faceva a Pianosa come attività? Lavorava? No. E stava nella stanza di qualche d'uno? Sì, era in cella con Pantico. Con Pantico. E chi era il segretario di Pantico? Questo non lo so se era il segretario di Pantico. Che era camorrista e con Mariello dello stesso Pantico. Questo è vero. Però, se ero segretario di Pantico, non lo so, signor Presidente. So che gli per Pantico era avuto molte notizie per l'esterno, che aveva avuto molti incarichi. Sa di questi incarichi che Pantico gli aveva dato? No. Però ha detto, so che aveva avuto molti incarichi per lo stesso Pantico, al momento in cui sarebbe stato liberato. Non so però qual è il vostro oggetto. Sì, che lui se usciva Pantico gli aveva dato qualche direttivo, però non so quale direttiva doveva svolgere fu. Ma chi gliel'ha detto che Pantico gli aveva dato queste direttive? Lui stesso. Stesso qualsiasi, però non sa quale fu. E nacque proprio nell'occasione che Pantico si pentiva. Che lui, lui diceva le parole, diceva, guarda il po', chi lo faceva i servizi, chi lo fa, 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 chi lo fa. L'avvocato Madonna lo ha conosciuto, non conosco personalmente l'avvocato Madonna, ma lui so che serviva fedelmente l'organizzazione. Allora, che cosa faceva in particolare? Cioè la stessa cosa di Gangemi, cioè portare delle lettere fuori qualche imbasciata. E questo, siccome non lo ha conosciuto personalmente, lo ha saputo, da chi lo ha saputo? Stiamo sempre su un po' di discorsi, signor Presidente. No, ma purtroppo deve dimmelo, perché c'è chi gliel'ha detto? D'amico. D'amico, solo d'amico? D'amico e tante altre carbonistiche, ma adesso non ricordo, signor Presidente. Non lo conosci proprio. Lei non è mai stato difeso, allora. Vai. Senta, ha parlato poi di Marandino. Marandino Giovanni. E che ha conosciuto personalmente, l'ha incontrato a Poggi Reale. Mi sa dire se fosse camorrista questo. Che era camorrista, era camorrista. Oggi non lo so se è ancora camorrista. Perché svolgeva qualche attività particolare, attività lavorativa, dico. Beh, come attività lui aveva una berga all'ora. Dove? E non ricordo se è presenza, sa, so questo, però non so, cioè non ricordo come esistono. E sa se per conto dell'NCO ha svolto qualche attività, qualche... No, non lo so. Aveva questo albergo, nell'albergo diceva qualcuno, le risultano... E crede che qualche attività va svolgere. Qualche attività della NCO, dico. Esatto, sì. Lei crede, ma non lo sa. Crede perché era camorrista, signor Presidente, non era camorrista. Era un camorrista di rilievo oppure un camorrista così, non so, un biciotto, come si chiama? No, no, era abbastanza elevato. Gli ho l'ha detto lui o l'ha saputo della mia? L'ho saputo. Sempre dalla stessa fonte, c'è... Tante persone, signor Presidente. Tante persone, più anche D'Amico. Anche? D'Amico? Ma diciamo anche D'Amico, chissà, sempre assieme. D'Amico, stavamo sempre in contatto, non ti chiedevo. Un attimo, un attimo solo. Una lettera? Aspetti, aspetti, dopo. Allora, lei è? Lei è? Marandino. Vabbè, dopo, vediamo un attimo. Allora, ha parlato di una lettera di 10 milioni, una lettera, ha fatto una richiesta di 10 milioni a lui. A chi? A Marandino. A Marandino? Vabbè, dopo lo chiamiamo, io a Marandino. Vabbè. Comunque, conferma. Avvocato, chi abbiamo messo? Avvocato Visone. Mi dispiace vedere che cosa, per qualche domanda eventualmente, perché altrimenti facciamo il colloquio a distanza. Ah, già c'è stato? Ah, grazie. Allora, abbiamo poi... Raccolgo la voce di un assistito di ufficio, il quale richiede che lei, nel momento in cui formula il nome della persona accusata, cortesemente, non dia i riferimenti su questa persona, che sia il dissociato. Io relatarei per lo signor Presidente. Avvocato, lui già ha confermato tutti gli atti, quindi a un certo punto è soltanto, se ricorda, è così obiettivo... Perché uno mi diceva... Se le ricorda, avvocato, non aspetta loro stabilire come vanno interrogati. Io ho solamente riportato la richiesta... Va bene, grazie. C'era, no, c'era soltanto Marandino il quale voleva dire qualche cosa. Sento un po', poi... Signor Presidente, per quanto riguarda quella richiesta di 10 milioni, ha già formulato lei la domanda? Forse non si è afferrata bene a distanza, se glielo chiede, per favore. No, ma dovrebbe andare lì, perché altrimenti se facciamo... Eh, avvocato, si avvicini un momento alla gabbia e poi dopo gli facciamo la domanda. Allora, sento un po', abbiamo Marinelli, lo ha conosciuto, no? Come? Marinelli e Sergio... Non mi ricordo, se lo ho conosciuto personalmente. Lei conosceva personalmente Marinelli e Antonio. E ha sentito parlare del fratello Marinelli e Sergio, dice... Ha sentito parlare di questo fratello come camorrista, oppure ne ha sentito parlare come persona per bene? No, ho sentito parlare come camorrista, però voglio pensare una cosa. Marinelli e il fratello come si chiama? Antonio. Antonio, non ricordo anche se questo Antonio, se l'ho conosciuto personalmente. Non dico che non l'ho detto questo, l'ho detto. Potessi pure, però adesso... Infatti ha detto che non conosco personalmente. Quindi questi sarebbero tutti. No, no, perché io ho visto che ce n'erano altri qui. Ah, ecco qui. Dunque, per Matrone Tommaso mi sa dire niente. Tommaso? Matrone. Sì. Lei ha incontrato a Pianusa, no? Sa se era camorrista. A me non mi risulta che era camorrista. Ma non mi risulta, anche allora ha detto questo. Ma Matrone... Eh, questo era Matrone Tommaso, ho parlato io. Vediamo un po' Matrone Franco. C'è anche un altro Matrone. Conosco personalmente Matrone Franco. Sì. Che mi sa dire? Sì, è camorrista. E sa di quale zona? Di zona del Vesuviano, però non so quale è il zona del Vesuviano. E chi glielo ha detto? Sì, lo conosce personalmente. Lo ha conosciuto personalmente? Sì, personalmente. Dove lo ha conosciuto? A Porta Azzurro. E mi dica una cosa. Sì, a Porta Azzurro. Dunque, sa chi l'aveva legalizzato? So. Chi l'aveva legalizzato? No, non lo so. Chi le ha detto che era camorrista questo? Già lo sapevo, che poi quando ci siamo presentati a Porta Azzurro ci si muoverebbe un finito meglio. Va bene. Sì? Dunque, senta, a proposito di Pagano Oreste. Signor Presidente, posso fare la domanda che mi è stata formulata? Sì, subito, subito dopo. Avvocato, io non posso non interrogare, no, per forza devo fare il nome di... No, 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 era una domanda nell'interesse di Marantino. Sì, no, questo per rispondere a... Lei purtroppo mi ha vulnerato di un compito al quale non posso... Ma lei se la cava sempre bene, quindi... Prego. Non dà lei, se la cava sempre bene. Posso, Presidente? Prego. Se è vero che il signor Leonardo nel luglio agosto dell'83, successivamente al blitz del 17 giugno... scrisse una lettera a Marantino chiedendo il versamento di una somma di 10 milioni, pena la minaccia, minacciandolo in caso contrario della non corrispondizione di questa somma... Ma dove c'è sta la lettera? Un momento... Non mi dica se c'è la lettera. È allegata agli atti la lettera, signor Presidente? No. Perché dice l'imputato... Sì? ...che poi successivamente avrebbero fatto una perquisizione gli agenti della Guardia di Finanza e avrebbero anche sequestrato questa lettera. Avrebbero? Lui non sa se questa lettera è allegata o meno agli atti. Ma dove gli scriveva se era la lettera? Prego? Dove gli ha scritto? In casa sua, in latitana, anche un domicidio, perché non è che è morto in latitana. Quindi lei vuole sapere se è arrivata la lettera... No, io voglio sapere se lui l'ha scritta questa lettera dicendo... No, che sai che sei sequestrato. ...mi devi dare 10 milioni, altrimenti farò il tuo nome come camotrista. E sarebbe stata sequestrata poi dalla fidanza? L'imputato assume che questa lettera... Allora, ha mai scritto questa lettera? No, ma stumare comunque chi? Marantino. Marantino? Eh, mai. Mi prende il fascicolo di Marantino, vediamo se ci stavo anche per cui ci c'è la fidanza. Va bene. Sento un po', ma lei... Da quanto tempo sta in carcere? Io, da otto anni. È stato sempre in le parti in cui si trovavano dei gutoliani, si intende, dopo... Prima del... Presidente, lei sta andando avanti? Sta andando avanti? Ah, sì. Ha mai chiesto soldi a Marantino? Ha mai chiesto soldi a Marantino? Mai. D'altra parte? Marantino era fallo del sedici. Quindi soldi non gliel'ha mai chiesti. Va bene. Sento, volevo chiedere una cosa. Lei, ovviamente, prima del primo interrogatorio, prima del settembre 83, stava in carcere con gutoliani, le parti... Sì, a Novara. Solo con gutoliani? Gutoliani e altri detenuti comuni, però la maggior parte erano tutti gutoliani. Sempre da quando questo? Con i gutoliani. Da quando che cosa? È stato con i gutoliani. Io da quando tempo sono... Da 78. Da 78, sì. Dunque, stavamo parlando di Pagano e Oreste. Oreste o Pagano, sì. Che lei mi parla che non ha conosciuto personalmente. No, non lo conosco personalmente. Sa se è camorrista? Sì. Che attività svolgeva nell'interesse dell'organizzazione? No. Però, ha detto, è un caporista meridionale, di origine, ma operante... Ricorda dove operava? In che zona? Ma, se non sbaglio, lo andavo sopra, verso Verone, sti zona loco. Ah. Vabbè, ha detto, tra Brice e Verone nel campo. Sai in che campo? Sì, a Droga. Droga? Sì. Grazie. Anzi, adesso che ricordo bene, se io pitevo, Oreste Pagano l'ho conosciuto anche personalmente. Ah, l'ho conosciuto personalmente? Quando l'ho conosciuto? A Poggio Reale. In che periodo? Sanno l'82 e l'83. 82 e 86. Al padiglione Milano. Sempre il padiglione in cui stavano cutoliani? Sì. E lui si presentò come cutoliano, oppure glielo dissero altri? No, no, il padiglione Milano erano tutto cutoliani. Erano tutto cutoliani. Esatto. Come una palazzina di carabinini, solo i carabinini vanno da silenzio là. Va bene. Abbiamo poi parlati... Sì, ma non me lo do qui. Eh no, non è giusto. Ah, ecco qui. Parlati Antonio. Lo ricorda questo? Non mi ricordo bene, se io pitevo. E infatti lei ha detto, non conosco personalmente, ma ne ha sentito parlare. Dice, non lo ricordo bene, ma ne ha sentito parlare di questo. E non mi ricordo neanche adesso, non mi sembra che ne avevano sentito parlare. Va bene. Comunque disse, adesso vediamo un po' cosa è la sua memoria. Non conosco personalmente, ma ho molto sentito parlare di parlati Antonio, che è un giovane camorrista nella zona del Salernitano. Quindi noi diamo atto che lei non ricorda nulla di questo. Adesso che io l'ho letto ricorda qualche cosa. È un giovane camorrista del Salernitano. Se non sbaglio, ho fatto già un verbale su qui, su parlare di Antonio. Eh, nel verbale, così? Eh, l'ho fatto proprio in quest'aula, già l'ho confermato. Ah, ho capito. Sì. E cioè, che cosa ha detto in quest'aula? Sì, che era camorrista. Che poi, se non sbaglio, sei quella persona che ricordo bene a Novara, che lui si dissociò dalla camorra. Comunque non ricorda bene? No, no, non mi ricordo bene, sì. Va bene. Pedicini, di Pedicini ricorda niente? Sì. Che mi sa dire? Che è camorrista. È camorrista. Sì. E da chi era stato legalizzato, Pedicini? Lo ricorda? Sto cercando di ricordarlo. No, con calma. O da Salvatore Imperatrice, quello che si è imbiccato, o da Amedeo Murra. No. È stato insieme con Pedicini, lei? Sì. Ricorda qualche episodio tra Pedicini e Imperatrice? Sì, ricorda che fu picchiata da Imperatrice. Perché? Non ricordo. Perché lei, il derogato del giudicistruttore, ha detto conosco solo Pedicini. Luinci che è stato con me decluso a Pianosa. Egli fu legalizzato nell'NCO, ha detto, da Mario Incarnato. Sì, era detto da Mario Incarnato, ma comunque non era Mario Incarnato. Siamo stati insieme per un paio di mesi, ricordo che a Porta Azzurro fu percorso da Salvatore Imperatrice, che lo aveva scambiato per un esponente della NF, della nuova famiglia. Dall'emisodio mi fu raccontato dallo stesso Pedicini, ma non avvenne quando io mi trovavo lì distretto. Quindi le fu raccontato questo episodio da Pedicini e Imperatrice. Sì. E Pepe Francesco, l'ha conosciuto? Non mi ricordo se è presente. Vediamo un po'. Non conosco personalmente. E ricorda niente di questo Pepe. Io posso aiutare, dicendo che è del Salernitano. Per aver sentito dire. No, no, non mi ricordo niente in questo momento. Perché lei ha detto, ho sentito parlare di lui come camorrista. Se l'ho detto così sarà semplice. Però adesso non ricordo niente. Procida, l'ha conosciuto Procida Antonio. Roberto Antonio. 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 Sì. L'ha conosciuto, se l'ha incontrato a Novara. Era camorrista questo Procida? Sì. Aveva qualche compito specifico nell'organizzazione? No, non lo so. L'ha conosciuto? Ma se io voglio presentare una cosa. Non è che il camorrista ha un compito specifico nell'organizzazione. Specialmente in galera. In galera, cioè, la cosa è per tutti uguale. All'esterno, poi non lo so. Sendo che sono da molti anni in galera, non lo so. L'organizzazione all'esterno come che filava. Ma in carcere, sapevi solo che era camorrista? In carcere che il Cesare è camorrista e basta. Domani che può servire, si chiama, come deve parlare? È solo questo. Ho capito. Poi ha conosciuto personalmente Radunanza Giuseppe. Sì. L'ha incontrato sia a Poggio Reale che a Caldarelli. Sì. Ha parlato della sua appartenenza all'NCO. Che cosa sapeva in particolare di Radunanza? Niente particolare, signor Presidente. Sì. Appartenenza all'NCO. Siamo stati assieme a Paglione, a Cardarelli, dove lui veniva dall'esterno che era stata sparata, anche a un occhio. Comunque che era camorrista, è camorrista. E già lo sapeva da prima o no? Sì, sì. Sempre dalla stessa fonte? No, non è sempre dalla stessa fonte. Si sa da molte persone, quando una persona non si conosce e si parla, e non è che c'è sempre la stessa persona. Si sa comunque. Sì. Romano Giuseppe lo ricorda, Romano Giuseppe. Lo ha visto in foto e dice che l'ha conosciuto a Poggio Reale. Non mi ricordo, semplicemente. Lei lo conosce come Pipparella? Sì, lo conosco, sì. Adesso lo ricordo. Sì. E mi dico un po', questo Pipparella era camorrista o no? No. A me mi fu detto che era camorrista, da Clemente Perna. Stavamo nella stessa cella assieme, lui Clemente Perna, Marandini, tutto sta accendendo a lui. All'avete, al padiglione Avellino. Quindi glielo disse proprio Perna e Clemenza. E stavate tutti insieme. Poi ha incontrato e ha conosciuto personalmente Rossi Maurizio. Sì. A Pianusolo ha conosciuto. Sì. Sa se era camorrista questo? A me mi fu presentato che era camorrista e che veniva dal braccetto, dall'isolamento, non so da dove, mi fu detto che era un nostro, diciamo, un nostro bombare. Non c'è altro? No. Sa che se quando eri in libertà dove lavoravo questo come camorrista? No. Lei ha detto Perone è camorrista della zona di Milano. Di Milano, sì. Adesso lo ricorda? Sì. Abbiamo poi Saccone Francesco. Lo ha conosciuto? No, personalmente no. Era un camorrista? Sì. Che era anche capo di zona del Beneventano. Sa qualche episodio riferibile a Saccone Francesco e a Saccone Vincenzo? No, niente, niente. Sa anche Vincenzo. Di Vincenzo ha sentito parlare? Saccone Francesco, Vincenzo. Ed erano camorristi? Sì, sì. Come l'ha saputo così genericamente? Perché erano stessi discorsi di prima, c'è preso. Non lo so. Purtroppo dobbiamo parlare. C'è preso, io sono da otto anni in Calera, mi ho conosciuto gente. Non è che ne abbiamo conosciuto uno e due, ne abbiamo conosciuto tante e tante cambroniste. Ci sono anche persone che non ho verbalizzato, però si è Vighe che si chi le è cambroniste. E di Saccone Armando avete sentito parlare? Sì. Pure lui? Di Saccone. Saccone Armando, questo voi avete parlato di Saccone Francesco e di Saccone Vincenzo. Poi c'è pure Saccone Armando, che è un fratello, un altro fratello. Ma io so che tutti i Saccone, cioè tutti i fratelli che erano tra cambroniste. Sì, come io so. Poi... Quindi anche Armando, praticamente. Sì. Sì. No, no, però dice Saccone... Non conosco personalmente i fratelli Saccone Vincenzo e Saccone Francesco, ma so che sono grossi esponenti della LCO per la zona di Berendoro. E gliel'ho detto, sono capozzoni della zona di Berendoro. Sant'Anillo Angelo. Sant'Anillo Angelo. Sì. L'ho conosciuto personalmente pure questo. Una volta di sfuggito, signor Presidente, io venivo dalla Pianosa e passavo per transito di Porta Azzurro e lui era sopra la finestra, ma così di sfuggito. Sa se era caporrista? Sì, era caporrista. E Sgambati? Domenico? Sì. Non ricordo bene, se mi chiede Domenico Sgambati. Comunque ne ha sentito parlare, se sa il nome. Ho sentito parlare? Io ho chiesto Sgambati e lei mi ha aggiunto Domenico, quindi lo conosce, insomma. Sì. Anche l'ho conosciuto di persona? E non ricordo se l'ho conosciuto di persona. Ma sa se era caporrista? Sì, si è caporrista. Sa di quale zona? No. E l'istruzione ha dichiarato della zona dell'Avellinese. Si è dichiarato nell'Avellinese? Adesso ricorda di... Adesso no, signor Pesecchi. Io vado quasi tutti i giorni a Processe. Bisogna c'è la camera che mi stava calma. Ma se ricorda? Sì. Infatti ho visto che sta qui. Va bene. Senza un po'. Poi abbiamo Sassolino Pasquale. Com'è? Sassolino Pasquale. Ho sentito spesso parlare di Sassolino Pasquale. Sa, sei la caporrista. Sessolo ricorda bene. No, no. Non ricorda niente di lui. Subito, Avvocato. Comunque praticamente ci sta la perquisizione effettuata il 17 giugno dalla squadra mobile. Dalla finanza non risulta niente. Questa era tanto per chiarire. Comunque, signor Presidente, avrei precisato una cosa. Potrei dire una cosa. Il signor Barandini dice che io l'ho fatto un'estossione, in poche parole. L'Avvocato lo conferma. L'Avvocato è un'Avvocato. No, perché non ci vorrà l'Avvocato a questo qua. Perché non ha fatto nessun'estossione. L'Avvocato è di ufficio. L'Avvocato non ha fatto altro. L'Avvocato è di ufficio. L'Avvocato è di ufficio. La difesa chiede un confronto su questa città. Vediamo se è necessario, mettiamo a verbale se è necessario. Pare che già l'hanno fatta a distanza. Va bene. Quindi Sassolino già mi ha risposto. Per quanto riguarda Terracciano Bernardino. Signor Presidente, l'Avvocato deve rispondere. L'Avvocato, io lo scusa. Lui ha detto che se mi hanno denunciato in estossione, e l'Avvocato lo sa, io denuncio anche l'Avvocato. E io gli ho fatto presente che si trattava di un'Avvocato di ufficio che adesso è a conoscenza di elementi forniti al Marattino. Più di questo. Allora, Terracciano Bernardino, non lo conosce personalmente, ha detto lei. Sa se apparteneva... No, non mi ricordo. Non ricorda proprio niente di questo? Neanche per sentito dire? No. È Trocciola. Giuseppe? Sì? Sì, lo conosco. Personalmente? Sì. Era pure lui caporrista? Sì. Mi sa dire di quale zona di Napoli, forse... Siccome l'ho detto il seno, comunque nei baraggi di Forcello, San Giovanni e Craunale, ci sono loro. Mi risulta se prima Trocciola faceva parte della nuova famiglia? No, non mi risulta. Non mi risulta. Dal condomino non ha mai fatto parte della nuova famiglia. Che io sa che poi se lui ha fatto parte della nuova famiglia... Ma questo è un oggetto che mi risultava a voi. A me non mi risulta che ha fatto parte della nuova famiglia. Senta, poi nel corso del studio di lavoro, lei ha parlato anche di Vallanzasca Benito Renato. Vallanzasca? Vallanzasca Renato. Sì. Lei non l'ha conosciuto personalmente. Non lo conosco proprio. Però ne ha sentito parlare di questo? Ho sentito parlare come, signor Presidente? Sempre come... Come caporrista. Come fatto di appartenenza alla Camorra, insomma. Che apparteneva alla Camorra, non lo so. Che era molto amico di Raffaele Cutolo quando stavano assieme. Questo sì. Poi se era caporrista non lo so. No, va bene. E per Ventre Alfonso. Come? Ventre Alfonso. E... Gli hanno parlato i suoi compagni di Camorra. Anche di Ventre Alfonso. Però, se lei ricorda personalmente... No, no. Se questi suoi compagni le hanno detto che questa era caporrista. Sì, Ventre Alfonso. Sì, camporrista. Però non lo conosco personalmente. Non lo conosco personalmente. Questo gli hanno detto sempre... Sì. Nell'ambiente. Non ne abbiamo altre. Un attimo solo, Avvocato. Un momento, un momento. Per la ragazza di qualche richiesta. Ha detto che nell'ambiente non lo ricorda. Ricorda chi ne ha parlato di Ventre. No. No. Mi deve scusare perché... Prego, no. ...e una volta vengo qui, Presidente. Quindi non... Perché c'è qualche domanda da fare. No, non solo questo, Maurizio. Ma le possiamo fare dopo, comunque. E abbiamo terminato con... Va bene. Se mi dà la parola... Trocciola, vorrei chiedere... All'imputato... All'imputato Leonardo. E non ricordo con precisione, comunque tra l'81-82, quando stavo a Porta Azzurra io, Avvocato. Va bene. Conosce personalmente. Vorrei sapere fin dove questa conoscenza personalmente. Perché il Trocciola gli contesta questa conoscenza intima. dice di averlo conosciuto solo di vista. Conferma questa circostanza. Sì, sì. Una conoscenza... Sì, ci siamo incontrati a Porta Azzurra. Lui era di transito e mi ha mandato a chiamare. Va bene. E perché la mandò a chiamare? Perché a Porta Azzurra, Presidente, quando passavano i transitanti, cioè che venivano di passaggio per Porta Azzurra, ci mandavamo il mangiato. Sente che lui voleva conoscermi, mi mandò a chiamare giù e sono sceso giù a incontrarci e ci siamo salutati. E l'abbiamo avuto anche il modo di... Poi, va bene, comunque poi quando verrà a confronto il signor Trocciola racconta altre cose. Va bene, anche il modo... Mi dica, se lui insiste... No, 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 Leonardo, rispondete al Presidente. Leonardo, racconteremo altri episodiosi. Va bene, allora l'ha avuto anche il modo di... Come? Lei stava proseguendo. Dice là, quando si è incontrato, comunque ha avuto anche il modo di... Non so. Non ho capito. Stava aggiungendo qualche altra cosa a Porta Azzurra. Sì, qualche episodio. E l'ho avuto anche il modo di fare che cosa, non so. Quando l'hai incontrato? Ci siamo salutati e ho avuto anche il modo di... Ha detto. Sì, che lui in compagnia di... Il mio coibutato ha fatto picchiare a Rai, Francesco, a caccia di Volterra. Lo suo coibutato chi era? Tango Maurizio. E chi gliel'ha detto questo? Chi me l'ha detto? Eh. Questa è una cosa che si sa, ci sono stati noi, si dicono queste cose. E si sa, non è che non si sa. Va bene. Signor Presidente, non finisco. E ho altre cose da dire, non tracciala. Per adesso no, signor Presidente. Per adesso non lo stiamo facendo. No, perché non sappiamo noi se facciamo i confronti. Si faranno i confronti, no? Non lo so. Per quando si faranno i confronti vedremo se mi conoscono o non mi conoscono. Va bene, ho capito. Vorrei chiedere ancora a Leonardo, in quale momento... Ha perduto un foglio, avvocato. Prego? Ha perduto un foglio. Non importa, me lo ricordo, Presidente. Ah, va bene. Grazie. In quale momento il trocciole è diventato camorrista? Questo non lo so, avvocato. Questo non lo so. Quindi non sa nemmeno chi lo ha legalizzato? Per adesso no, non mi ricordo. Va bene. Nella NCO che attività svolgeva? Ecco... Ma questo già l'ho precisato prima al Presidente. Io ho detto al Presidente che in galera non ci sono attività. In galera ognuno... In carcere, in carcere non sa più. Signor Presidente, io rivolgo questa domanda. Quale attività svolgeva in seno alla NCO? Prego Leonardo di rispondere al Presidente. Io l'ho detto. Ci hanno precisato, comunque ripeto. Allora, quale attività svolgeva? Quello... Io l'ho detto proprio che devo fare. C'è? Non è che ci stanno un compito specifico. Si può fare un compito specifico. Vogliamo dire che chi va a faticare, ad esempio, all'ortaggio, oppure a fare un scupino, oppure a fare un magazzino. No, no, no. In galera, attività, non ce ne sta. Ci sta solamente qualcuno che è più anziano e si porta un po' di rispetto. e dà un po' le direttive, pure su tutto quanto è uguale. Quando si afferma, signor Presidente, è un camorrista, bisogna anche dire quale attività camorristica svolge. Va bene, lui non lo sa quale attività. Non lo sa. Però che comunque, quando si riferisce a voi, io non lo so, però ci sarà anche qualcuno che lo sa. Io non riesco ad afferrare le risposte, Presidente. Va bene, non lo sa l'attività svolge. Ma prima non ne aveva. Sa quando fu arrestato la prima volta, Trocciola? No, avvocato. Non lo sa, va bene. Ma che interessa, quando ero arrestato, avvocato? Non ho altro da chiedere, grazie. Va bene. Allora, possiamo... Potremmo farvi una domanda? Sì, come, avvocato. Avvocato Noce, era un momento che le viene la... Sa che ruolo svolgesse il ventre in questa organizzazione? Allora, il ventre che faceva nell'organizzazione? No, non lo so. Che ruolo? Non lo so, avvocato. Non lo so. Non lo so. Era camorrista comunque, già l'ha detto. Sì. Va bene, grazie. Ma, per esempio, prima che me ne vado, vorrei fare... vorrei dirle qualcosa. Dica. Cioè, vorrei che sia lei che gli altri presidenti prendessero un qualche iniziativa per noi, diciamo, i cosiddetti ventini, come noi veniamo chiamati, no? Di fare qualche sollecita ai signori un po' più alti di voi di vedere un po' per avere qualche aiuto alle nostre famiglie. Ognuno di noi ha i suoi problemi. Incominciando da Melluso, che ha perso un fratello e che viene ancora perseguitato con minaccia. Ia c'è avuta una bomba a casa. La famiglia di Ricci non vuole fargli vedere la bambina, la figlia, se non ritratta. Ma l'incarnata ha avuto un frate acciso e tante altre persone. Cioè, la cosa che noi chiediamo, se gentilmente, se lei vuole un po' interessarsi, di farci avere qualche cosa, cioè, di farci fare qualche famiglia a favore. Perché ci sono ragazzi che Ricci non vuole venire, l'incarnato non vuole venire, perché ci hanno paura di venire a testimoniare. Io non legano, non tengo paura, sono venuto perché è il mio dovere. Vabbè, quindi il copito è verbale, poi... Sì, sì, penso che ufficialmente il Tribunale le può mandare copia di questo verbale al Ministro di Cazzo di Justizia, al Ministro dell'Interno, perché questa situazione... A giorni con i competenti. ...viene pubblicizzata ogni giorno, però mi sembra che poco o niente si faccia per questa situazione. Quindi noi lo stiamo dicendo da moltissimo tempo, ma ci dicono che siamo i protettori. Quindi... Va bene. No, no, chiedo scusa, c'è l'Avvocato Baccioli che voleva fare... No, no, un attimo. Allora, ci sono ancora delle domande da fare. No, no, lasciamo. Allora, l'Avvocato Baccioli, ecco. Se al momento dell'affiliazione in carcere l'affiliato veniva sempre assegnato a una qualche zona, oppure se certe volte veniva assegnato a una zona e certe altre non veniva assegnato a nessuna zona. Se al momento della... Al momento dell'affiliazione in carcere... Della affiliazione. In carcere. Avveniva sempre l'assegnazione... Non ho capito la domanda. Al momento dell'affiliazione. Cioè, della legalizzazione. Cioè, al momento che veniva legalizzato un detenuto, diciamo, no? Cosa c'era? Allora, veniva assegnato, non so, questo alla zona di Castellammare, alla zona di Bologna, alla zona di Venezia, alla zona... Avveniva sempre questa assegnazione a una zona. Ma con questo hanno risposto sempre tutti gli altri. E praticamente c'era un rappresentante. Sentiamo se lui risponde dello stesso modo degli altri. La domanda è proprio per questo. Allora, Ha mai assistito a qualche legalizzazione? Sì. Allora, al momento di questa legalizzazione, colui che veniva legalizzato, veniva assegnato anche a una determinata zona? No. Va bene. Quando veniva assegnato a una zona, con che criterio veniva assegnato a una zona? Ha detto che non veniva assegnato ad una zona. Ossia, ha detto che in carcere... Ha detto che non veniva assegnato... Nel momento che veniva affiliato. Leonardo, come ha detto, veniva assegnato ad una zona? No. Mai. Non accadeva mai. Non ha risposto, scusi. Sia un po' più attento. Io insisto sulla domanda perché gli altri hanno detto in modo completamente... Lui ha risposto no. Prego, Avvocato. Un'altra domanda che la faccio per conto di Fusco, mi ha pregato di farla. Cosa intende lui... Un attimo. Un attimo. Tecnologia. Allora, Avvocato Baccioli, mi aveva pregato Fusco di fare la domanda che si riferisce a lui, che cosa intende Leonardo per sgarrista e quali erano gli obblighi precisi dello sgarrista. Sa che cosa era lo sgarrista? Cioè, il terzo regalo, signor Presidente. Il terzo regalo. Che combiti specifici aveva l'organizzazione? Cioè, combiti specifici, diciamo, se la zona che lui appartiene, no? C'ha un po' di potere sulla zona che dove appartiene. Però se c'è un altro all'esterno, che ha lo stesso regalo, è sempre lui che ha le direttive. È sempre lui che ha le direttive? Sì, che comanda sempre lui. Vabbè. Altri, Avvocato? Altre domande? Non c'è ancora linea. No, c'è, c'è. Quali pensiero di ufficio di Castaldo, l'imputato riferisce che successivamente ha potuto apprendere che non era stato più legalizzato. Ci può spiegare questo accertamento in che termini e in che misure si è fatto? Allora, da chi ha appreso che Castaldo, che in un primo tempo sapeva che era stato legalizzato, successivamente ha saputo che non lo fu. Da chi lo ha appreso? Signor Presidente, l'ho appreso da altre persone, altri venditi come me. Da Tassini e altre persone. Va bene, da Tassini e altre persone. Quindi ha avuto contatti con gli altri. Sì, stiamo insieme, non è che stiamo divisi. Conosce lui l'istituto del Camorrista Adonorem? Conosce him? L'istituto del Camorrista Adonorem? Non sa se esiste il Camorrista Adonorem. E che cos'è? Adonorem. Ha già risposto. Va bene. Non sa neanche come si. Non lo so. Va bene. Altro? Quindi non sa se... Avvocato no, abbiamo messo a me, ma è lui che prendiamo la parola. Non sentite la parola, non sentite la parola. risulta a lui che la NCO operava anche al nord. Sì, sì, mi risulta, avvocato. E sa specificatamente in quale città del nord? In quale città? Per favore, il calabiniere mi divido in chi è che fa il chiasso là dentro. In quale città del nord, avvocato? In quale città del nord? In Milano, Verona, tutti sono, quasi tutta l'Italia comunque la parola estiva, avvocato. Torino, su Torino, ha detto quasi tutta l'Italia. Su Torino specificatamente la NCO. No, non lo so, su Torino. Prego? Su Torino non lo so. Su Torino non lo so. No. Altra? Avvocato di domanda... Ti può dire la donanza a Giuseppe da chi sarebbe stato legalizzato? Mi pare che già ha risposto. Sì, ho risposto già la donanza a Giuseppe. Sa se è stato legalizzato da qualcuno. È legalizzata. È camorrista a tutti gli effetti. Da chi è stato legalizzato? Non ci sono. Non lo so. Va bene. Cominciamo a farlo. Allora, portatemi Marantino per fuori. No, 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 voglio dire il telefono. Che dicevi? Sì, sì, per un altro resto. No, no, lasciatelo, lasciatelo pure qui. Anche Marantino. Un po' più... Eh, grazie. Sì? Che cosa vuole se... Capozzona e sgarrista sono la stessa cosa. Vabbè, eh... Allora, sgarrista e capozzona sono la stessa cosa, Leonardo. Sgarrista e capozzona? È la stessa carica, io... Ma no, signor Presidente. Sono due cose diverse. No. Perché ci stava Mario Savio che non era sgarrista e era capozzona dei quartieri. Chi era? Mario? Mario Savio. Non era sgarrista ed era già capozzona dei quartieri spagnoli. Sì. Quindi sono due cose distinte, insomma. Va bene, potete portarmi allora a Marantino. Se mi dai un momento di tempo... Non ho finito. No, in modo che dopo mi elenco i carabinieri di portarmi. Devo vedere poi quelli che ci sono. Sì, dopo ci facciamo l'aria. Per fuori mi fa dare il fascicolo di Marantino. Grazie. Grazie. Allora, l'Avvocato è arrivato. Allora, diamo atti che vengono posti a confronto. Leonardo e Marantino. Marantino Giovanni. Allora. Marantino, lei voleva contestare qualche cosa a Leonardo? Eh? Che cosa vuole dire? Parlate nel microfono, se no non ci sentite. Si sta parlando nel microfono. Significamente. Eh? Appoggio reale, quando è stato anche il momento che io ho dichiarato anche con voi. Mentre steve al padrone Avellini e fu imbotato alla prima associazione, quando è stato il momento lì. E steve, insomma, tutti quei erano la stanza 22. E c'erano tutti quanti con me, insomma, per lo stesso processo. Lui ci dice che mi conosce e lui non l'ho mai conosciuto, dice il signor Leonardo. E mi conosce. Poi quando è stato il momento del 17 giugno del blizzo, io mi sono allontanato di questa situazione. Quando il mese di luglio, il 28 e il 27 di luglio, mi riferisce il mio ragioniere con mio fratello, mi dice che è arrivata una lettera del signor Leonardo, che chiedeva 10 milioni se non che mi inquaiava. Allora dissi questa lettera, conservatela, ho datela all'avvocato e vediamo il momento, che ci può andare il momento perché io non conosco nessuno. C'è una lettera, c'è questa lettera. C'è questa lettera. Ma senz'altro non mi ha detto che c'è la lettera, perché non ti confesserei una cosa per un'altra. Sì, d'accordo. Di questa situazione. S'accordo, io ne ho già sentito una lettera. Come? Facciamo la verità di greffia e veniamoci alla lettera del mio. Ma senz'altro non mi ha detto che c'è il vostro rispondere del vostro. Siamo coronati di questa situazione. Ma che cosa è venuta fuori? Quando è stato il momento, è arrivata la finanza che ha seguitato l'hotel Parco delle Quelce, insomma, hanno seguitato tutti i documenti. Allora disse ai ragionieri, anche ai commercialisti, si faceva legare anche questo documento di questa situazione. Ma io con l'avvocato di Salerno, con il commercialista, non ho avuto contatti. Non mi direi che lo disse anche a Deano, cosa a Arcelle che si mettevano in contatto per questa situazione, oppure credete che era gli atti di questa situazione. Ma lei questa lettera personalmente non l'ha mai vista? Ah no, non l'ho vista personalmente. Personalmente non l'ho vista, però è stato riferito a Leonardo Francesco che faceva questa lettera. D'accordo, d'accordo. Quando sarei il momento che lei presenterà la lettera del Presidente, allora non le corrisponderò io. Comunque, da questo momento, poi, il ragioniere come si chiama? Il ragioniere come si chiama? Diamo atto. Come? Il ragioniere vostro come si chiama? Il ragioniere, cosa? Spinzo, Spinzo. Vabbè. Spinzo. Comunque, diamo atto che rimangono sulle ispezioni. Così ci vuole. Lui la lettera non l'ha scritta e lui non l'ha neanche vista tutto e tutto. No, comunque, Presidente, non perché non l'ha scritta, la mia famiglia mi dice delle fesserie, le fesserie non me le possono dire, non me le direi. La lettera è arrivata là, insomma, con il nome di Leonardo. E lui dice che non l'ha scritta. Va bene, comunque, insomma, se la lettera sta agli atti, insomma, che vuole essere... Agli atti... Non ci sta, non ha dato l'avvocato. A manco la finanza, quando ha fatto tutto quanto... Non c'è neanche nel verbale di perquisizione. Manco nel verbale di perquisizione. Va bene. Comunque, allora, sinceramente, mi riserva. Grande, una lettera dalla quale può dipendere la vostra libertà, non mi siete fatti fare una fotocopia. Non lo capire. Una lettera dalla quale può dipendere la vostra libertà, non mi siete fatti fare una fotocopia, dal ragionito. Vabbè, poi se la compagniamo. No, ma io quando è stato il momento, io non pensavo proprio a tutta questa situazione, questa lettera, io potrei essere pure qualcuno che ha mandato una lettera così. E così. Poi, dentro la situazione, quando è stato il momento, rinviato il giudizio, mi sono reso conto che era questo Leonardo, di queste cose che mi ha accusato a me, a riguardo che era caporista, era chiesto e era gallato. Io non l'ho mai conosciuto a lei. A Poggioreano l'avete conosciuto? Sì, 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 ho preso. Avete conosciuto a Poggioreano? Va bene. Potete andare. Va bene, grazie. Allora, può fare venire... Presidente, c'è Fusco Alessandro che chiede il confronto, non so se adesso è il momento, ma... Facciamo tutti. Allora, diamo soltanto il po' Alessandro, chiediamo... Sì, se non lo so se è in elenco, quello che... Datemi un momento il terreno. L'ho dovuto dare un po' di affronto. Allora, dici. Una richiesta di confronto di Fusco Alessandro. Non so se lei li può disporre adesso, comunque, eventualmente c'è una... una formale... richiesta della difesa. Bocchini, chissà... Bocchini, chissà... Già gliel'ho detto, quello che mi dico, devo fatturare il vino. No. Non c'è... Maresciallo... Maresciallo... No, maresciallo, Trocciola è assente. Assente per rinuncia. No, gliel'ho detto io. Se viene qua, gliel'ho detto io. Tutto come me. Ma chi è questo signore qui? Lo conosce? No. Allora, come si chiama? Non lo conosce? Sicuro? Non lo conosce, ma... Cagnate fisonomisi, io, Presidente. Ah. Allora, come si chiama? Le ho detto, non... Vabbè, ho capito. E come... Chi siete voi? San Danilo. San Danilo Angelo. San Danilo Angelo. Allora, che cosa volevo dire? Avete detto, ma avete visto la Coppa Ubarcuna. Non avete visto la Coppa Ubarcuna a me. Prima cosa, non vi ho capito. No, nessuno ha detto. Calmate. No, non vi ho capito. Non vi ho capito senza niente. Ma come va? Io sono la vita in galera, ma te la lascia aperta a me. Ma te la lascia aperta a me. Ma te la lascia aperta. Stai a messi di poco a me. È nudo che ha l'uccoato e ha percazzato. Che se vuoi l'uccoato e percazzato, non è che ha vincito la causa. Com'è, ecco, ecco... Ha vincito la causa. Ha vincito la causa. Ha vincito la causa. Questa Coppa quando ha già fatto il transito di Michele Fulla e altre persone. Signor Presidente, per cortesini, fate un sopralluco a questo Porta Azzurro. Come vi ha visto la Coppa Ubarcuna a me questa? Signor Presidente, per cortesini, fate un sopralluco a questo Porta Azzurro. che ha fatto la Coppa Ubarcuna a me questa, sta andando lì. A me questa, che cosa? Che volevo cercare le posizioni, ha fatto la Coppa Ubarcuna a Porta Azzurro. C'è la Coppa Ubarcuna a me questa, sta andando lì. Ma decidici che è il brui di voi, Presidente. No, no. La corte vede e propede di sopire la cosa, no. Che mi ha contattato l'associazione è passata zitta? Ah, chi è l'associazione? Ma io sono troppo... Oh, ma non mi ha di fatto... Sono troppo sofferto per capire questa cosa. Tu hai avuto capire 30 di Tarantella, non ve lo fate capire prima queste cose qua. Non mo. Va bene, volete contestare altro, San Daniello? Ma che ci devo contestare? Non l'ho mai visto. Va bene. Vedete, vedete la sua portata, se lui può conoscere una persona, no. E' tutto così, mi accusano sta agendo a me, tutto così. Che volevate dire, Renato? Che cosa, Renato? Ho visto che volevate intervenire, no? Basta. Va bene, accomodato. Si chiama San Daniello Angelo, eh. Basta, non si possono fare questi interveni a distanza. No, io ti ho fatto. Lei come si chiama? Lei pervene il suo avvocato. Non sono l'avvocato. E allora, per favore, avvocato Visone. Io non posso fare i colloqui con loro così. Allora, sentiamo di atto che però San Daniello i capelli completamente rasati a zero. E' tutto un po' è. Leonardo, questo signore qui lo conosce? Se no, io se ricordo bene, è Auriemma. Ma no, mi ricordo pure. Allora, chi è Auriemma? Eh, Ciro, no, no, così. Che cosa volevate dire, Auriemma? E capito, vabbè, una passeggiata dall'acqua... Ma io l'ho detto, no? Questi papà di io non c'è. Eh, e qui? Avete chiesto il confronto per quale motivo? Io ho cercato il confronto. Avete chiesto? No. Io ho detto che conoscevo l'Eulano. Va bene. Io l'ho detto. Allora non c'è niente, nessuna contestazione. Vabbè, potete accomodare. Questo signore qui lo conosce? Sandro Fusco. Allora, come si chiama lei? Alessandro Fusco. Alessandro Russo. Fusco. Fusco, Fusco. Allora, Fusco. Allora, che cosa voleva contestare lei? Io vorrei sapere, come fai a dire, cioè, che io sarei uno sgarrista? Il fatto che sono pugliese, questo è un fatto di saputo. Basta stare nel carcere insieme, non ci vuole niente a sapere dove uno è nato. Però come fai a dire che io appartengo a questa organizzazione e sia uno sgarrista? Cioè, in base a cosa lo dici? Ma l'hai detto tu stesso. In base? Ma l'hai detto tu stesso. Te l'ho detto io stesso. Eh. E quando te l'avrei detto? Come quando l'hai detto? Eh, forse l'altro. Ma di ciutato che si scema abbiamo sassato? Sì, ma santo. Eh, a Vapia Nosa noi e due abbiamo parlato di queste cose. E di divino. Ma come facevamo a parlare di queste cose? No, 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 cioè, questo lo dici tu che noi abbiamo parlato. Cioè, ma si vuole tocca per fare una ghiacchierata perché io... No, io sono venuto qua. Perché se si vuole essere detto, se si è camorista, lo dico, si è da vola. No, no, si è camorista. Perché io sono camorista. E c'è qualche testimone... C'è qualche... C'è qualche testimone che... In sua presenza io ti abbia detto vicino a te che io sarei un camorista. E dimmi una cosa. Quale è la testa che ti ha chiamato? C'è che oggi sono ancora camorista perché ti chiesto io. Chi l'ha nascita e chi le dici quello che dico io? Adesso quello che dici tu è normale. Ma tu eri un camorista? Chi? Tu eri un camorista? Sì, sì. E chi lo dici che eri un camorista? Eh? Chi lo dice? Cioè, lo dici tu? No, io ti porti il provo che eri camorista. Cioè, tu porti le prove che eri un camorista. Che eri camorista è che sei camorista però tu. E dove stanno? Ma fino adesso non l'hai portato. Cioè, fino adesso tu stai dicendo... Il provo a me, il provo a tu. Senti un po', senti un po'. Tu stai dicendo, no? Cioè, dici e parli, no? Dici questo è camorista. Dici Fusca è il garrista. Questo così, questo così. Cioè, ma di male solo così. Cioè, è solo la tua parola. Cioè, tu non vuoi accusare la gente che conosci. A me mi hai visto in un blocco. Eh? Tu c'hai le manie di persecuzione. E te che manie di chi? Ma per questo... Scusate, Presidente, no. Quello che sto dicendo... Stiamo castellando. Quello che sto dicendo... Sandruccio... Stammi a sentire un'attima vita. Scusa un po', parliamo una volta. Parla tu, dai. La prossima volta che vengo qua in aula, io vi porto l'ultima cartolina che mi hai scritta tu. Franco, sempre in gamba. Non ci fai prendere collera. Gli dà la botta la cartolina, che non me l'hai scritta tu la cartolina. Signor Presidente, chiedo che venga mostrata questa cartolina. Perché io a Leonardo non l'ho mai scritta. Se esiste questa cartolina, allora vuol dire che quello che lui sta dicendo sul mio conto è vero. Se lui porta questa cartolina... Sei tranquillo che la porti. Poi, signor Presidente, vorrei chiedere una cosa. Che venga fatto un sopralluogo nei vari carceri dove Leonardo è stato detenuto. Ed è dimostrabile che Leonardo soffre di mania di persecuzione. Perché in barecchi carceri lui se n'è andato alle celle... Quali vari carceri? Prima di tutto la pianosa. Prima di tutto la pianosa. Se è arrivato la pianosa ti sei buttato alle celle. E sono venuto io e qualche altro amico... Tu non ci fai venuto. Per spirito... Per spirito... Tu non ci fai venuto. È dimostrabile. Non parlare, non parlare. È dimostrabile. Siamo andati tre persone a parlare con una direzione per farlo salire da giù le celle. Perché si era impressionato senza motivo. Ma non che siamo andati e siamo andati tre camorrista per far salire un camorrista. Siamo andati tre detenuti. Perché tra noi detenuti c'è un simbolo di fratellanza. Fratellanza di sofferenza. Allora giustamente quando un carcerato lo porta alle celle o sceglie di andare alle celle si cerca di farlo ritornare in sé. Cioè si cerca di riprenderlo nella comunità. Quindi questo è dimostrabile. Ti sei fatto rosso-rosso perché sto dicendo la verità. Sto dicendo la verità. Sto maniera di seguizione l'avete pigliato a pianosi? Che cosa? A pianosa c'è stata maniera di seguizione. No, no. Già l'avevi preso in un altro calcio. Adesso non ricordo. È dimostrabile. Basta vedere i calci che si stanno. Scusate, Presidente. Non ha importanza i figli del corso. Scusate. Poi tu hai dichiarato in istruttoria. Hai dichiarato. Hai dichiarato in istruttoria che io sarei il capozona su pani. Invece qui adesso hai detto che io sarei uno scarrista. E adesso hai specificato quando il Presidente te l'ha chiesto che il scarrista è una cosa e il capozona è un'altra cosa. Hai detto che il capozona può essere anche un camorrista se non va derrato. Insomma, allora, posso sapere? Io quel cos'ero, secondo te, tu dici che io sono un camorrista. Quel cos'ero? Un camorrista? Uno scarrista? Ero scarrista. Ero uno scarrista. Quindi non ero il capozona su pani. Chi era pure un capozona che si aveva? Cioè, posso sapere? Cioè, ero scarrista ed ero anche capozona. Sì, prima mi ha precisato una cosa. Non ti ho fatto i tarandelli. Quale è il suo tarandelli? Qua stiamo parlando di giocattamente, no? Capozona ha detto che fosse scarrista? No. Potremmo riusci contro la cola. Questo non lo so, lo stai dicendo tu, io non lo so. Perché Mario Savio, così quanto regalo faceva un capozona in compri quartiere? Ma maestro Mario Savio, non lo conosco. E tu sto precisando io, vuoi sapere questo? E tu sto dicendo. Ecco, quindi io vorrei sapere quello che a me mi interessa. Cioè, l'accusa che tu mi fai. Cioè, io sarei uno scarrista e in più sarei capozona su pani. E il mio compito, cioè, quale sarebbe stare? Insomma, cosa facevo io con questo capozono? Cioè, mi avevo qualche guadagno? Guadagnavo qualcosa? E non come prima dici a me, ora ogni 12. Ma un copozona cosa guadagna? Cioè, prende dei soldi, non lo so, fanno delle estorsioni, fanno degli... Ma questo, questo... No, eh no, signor Presidente. Eh no, signor Presidente. Ha detto che sapeva che lei era sgandista su questo. E basta. Ma sapeva che lui ha detto che glielo ho detto io? Scusate, Presidente. Presidente, Leonardo ha detto prima, ha precisato, ha detto che gli risultava perché glielo avrei detto io. In più ha detto che questo fatto si sapeva nell'ambiente. Ma per sapere questo fatto nell'ambiente, signor Presidente, uno deve pure sapere, insomma, non è allora che sgarrista a nome, o capozona a nome. Avrà degli introiti, insomma, avrà dei vagli, non lo so, farà delle estorsioni, che ne so. Cioè, dire una cosa è facile. Lui può affermare pure che io facevi il Presidente a libertà. Eh, lei sapeva di particolari su... No. Su Fusco. Va bene, si può accomodare. Ma no. Chi è? Ma è un'altra cosa che mi chiede per lui. Cristo. Allora, diciamo lui. Per favore, chi è che sta intervenendo lì? Ma chi è che interv... chi è per favore? Allora, per favore, allontanate Catapana, su. Diamo atto che disturba. Allora, diamo atto che disturba e viene allontanato Catapana, su. Allora, portate un altro. Signor Presidente, vorrei pensare una cosa, ma i confronti è anche per dare tutte queste esplicazioni. I confronti servono solamente a conoscere la persona. Deve dare qualche chiarimento. No, non è soltanto per riconoscere. Deve anche affermare e dare dei chiarimenti. Una condensazione, una risposta. No, ma se lo dice lo sono, non ho mai... Sono tutta tarandella, signor Presidente, che si chiama. Non faccio niente, non faccio niente. La prima volta che è allontanato, però con silenzio, deve essere in silenzio, eh? Va bene. Può rimanere allora? Diamo atto che ha chiesto formalmente di rimanere in aula. Ma che ha fatto? Se n'è andato allora? Ah? Dice che ha chiesto formalmente di rimanere. Potete portarlo un'altra volta? Ah, va bene. Sì, ma Catapano è la prima volta, quindi... Eh, appunto, ha chiesto di tornare, quindi può tornare. Però forse i carabinieri non hanno sentito la nuova. Se viene allontanato poi la seconda volta non può più tornare in aula, questo è chiaro. Allora, i carabinieri, bastano riportare Catapano. Allora, Leonardo, qua abbiamo un altro signore, lo conoscete questo? Pedicino Luigi. Che volevate dire, Pedicino? Il tuo microfono, il microfono. Vabbè, è inutile. E' altro signore? Calma. Io volevo dire a questo... A chi sta? Come vuoi? N'amunnezza, a chi sta? N'amunnezza? Tu stai in da l'auto, qual è l'amunnezza? Mi stai in da l'auto, qual è l'amunnezza? Eh, c'è, c'è. Allora. Stanno a sentire. Io penso che sono proprio toccato per fare i confronti, non ho avuto da questi individui. Quindi, mantenetevi nei libri, con correttezza. Avanti. Siamo nei libri. Eh, con correttezza. Sì, vorrei sapere da questo signore, diciamo così, sei un signore, diciamo, com'è il fatto lì? Sarebbe stato legalizzato da imperatrice, da incarnato? Non mi ricordo pure, comunque. Da quante persone sono stato legalizzato? Non mi ricordo bene. La NCO, se esiste questa NCO, da quante persone sono legalizzate? La risposta, non ce lo ricordo bene. Avanti. Che altro? Non te lo ricordi bene. Che altro, vuoi sapere? Dice che mi conosci, non te lo ricordi bene. Perché? Non te lo conosci? Dice che mi conosci, io te lo conosci. C'è conosci, mi è te? Penso di sì. Ah no, c'è conosci, ma si camorriso, tu che dici? Io? Eh. Io non sono mai stato camorriso. Mai che è stato camorriso? No. Mai stato? No. E dico che si camorriso. Tu dici che sei camorriso? Sì. Lo dici tu per affermare qua? No, no, si camorrisi si è stato legalizzato a base o speciale a Puceriano. A Puceriano? Eh. Da qui, da che persona non lo so? Da c'è tu non mi ricordo più. Eh. Poi... No, no. Moletto, rovi tu, Moletto. Se no non si sente. Moletto, rovi tu, Moletto. Allora il microfono, per di sì. Allora il microfono, se no non si sente. No, come me, no. No, fai sentire all'altro, perché non è meglio? Fai sentire pure la c'è. Ma, beh, non fa... Stiamo a sentire, se tu dici così che affermi che avevi avuto questa discussione, poi te l'avevi detto a te, sapresti anche dirmi, diciamo così, se è vero, se c'èvi tu che te l'ha detto, io non te l'ho detto. No, io non ce l'ho detto, però mi è stato detto. Da una persona, in più me l'ha detto proprio tu. In più te l'ho detto io? Eh. Cato che è buscato a Imberatico o transito a Porta Azzurri, che è buscato a Imberatico, che puoi sapere più? Ma, come vai se non c'è una cosa che dice che io ho avuto questa discussione con Imberatico? Eh, non puoi sentire la situazione, che Imberatico deve scagnare pure la nuova famiglia. Quindi qua la gente dice, ma viene prima maltrattata e poi viene inserita... Ma tu sai che in Dacca ora si è fatto questo, sono da città gente per senza niente. Per senza niente? Per senza niente sono morta gente. Come sei un po' raggi. Va bene. Se è stato, io non puoi riuscire a fare a me, ma non sono rispetto a me, ma non sono rispetto a me, ma non sono rispetto a me. Tu dai, non è ciò che io non puoi fare, ma non è ciò che io non puoi fare. E' la prima di seguire Luigi. Ma, mi stai papazzino. Ma non è salato. Non è da nanzo, io non fa paura di nessuno, per favore. Grazie, no. Che risposta da noi? Chi è? Noi abbiamo nelle difese... Ma siccome c'erano le posizioni di contrasto, è ovvio, no? Ma l'avevano chiesto per questo del... Comunque, se non vuole sottoporsi al confronto, non è necessario. Ne abbiamo solo un altro, va bene. Ma hai chiesto tutti nel corso dell'interrogatore? Quando sono stati interrogati, ognuno ha chiesto genericamente i confronto, senza specificare con chi. Comunque. Allora, si accomodi, questo qui lo conosce... Sì, Castanto Carlo. Ah, Castaldo Carlo. Carlo. A posto. Castaldo Carlo. Allora, che cosa voleva dire? Presidente, ho chiarito già la posizione del Castaldo, no? Sì. Ho detto una cosa. Non so, se vuole dirmi... Che cosa voleva dire? Parli del corso. No, diciamo che ci rapporto azzurro. Eh. E basta. E basta. Carlo, ma c'è chiarito la posizione tua. In primo momento c'è sì, te l'ammetto, ho detto che c'è camorista, ma ora c'è c'è il tuo presidente. Ma tu sei molto bene che non sono un camorista. C'è c'è il tuo presidente. Sì. Va bene. Quindi non ci stanno potendo... A me, se uno è camorista è camorista. Se uno non è camorista, non è camorista. Va bene. Può andarlo. Fermi. Come gli altri, non lo so. Guardi, lo conosci? Guardieri. Guardieri? Ci vorrei dire solamente... Guardieri è al freddo. Sì, sì, è al freddo. Dove cos'è da questo signore? Dico, ma senti un po'. Ma te li hanno detto, hai fatto? Chi è che te l'ha detto tutte queste cose? Chi è che te l'ha detto? L'hai saputa te? Guardi che io ti hanno fatto... Ci hanno confronto, no? Eh, io no. Dove? Nella caserma della piazza Carità? Eh, dove? Ma chi te l'ha detto incarnato? Pantico che io sono capo di schede che te l'ha detto? Di che cosa? Eh sì, perché eravate cinque o sei di voi là dentro. C'è io che... Che cosa? Chi me l'ha detto? Senti un po'. Ehi. Quando sono venuto io a fare i confronti in caserma. Sì. Quando mi hanno portato. Sì. Quando sono venuto. Bene. Quanti di voi eravate in quella caserma? Ma dai, dentro quella stanzetta quanti c'eravate di voi? O eri solo te? Da stanzetta. Dentro quella stanza dove c'era il giudice, quanti eravate di voi? Sì, ma solistica. Ma vai a farti quattro ore di sonno, vai. Sì. Ehm, signor Presidente, questo vai di voi. Sento, signor Presidente. Ma non vuole rispondere a nessuno o più. Quando sono otto. Perché se me portò per fare i confronti e poi per essere insultato da qualche individuo. Aspetta un po'. Come questo. Perché sei un mezzo l'estofanza, non parlare di individuo che sei un mezzo deficiente. Vabbè, allora dall'altro. Eh. Ha preso d'atto che Guarneri ha... Signor Presidente, non riesco più a rispondere. Signor Presidente, è aggressivo nei confronti di Leonardo, il quale... Signor Presidente. Ha fatto di voler rispondere, data la scorrettezza dell'altro. Accomodatevi. Eh, vabbè, signor Presidente, lei non è che può fare questa cosa così. No, io posso fare... E allora lui mi parla, mi parla, scusa. Ma se lui mi parla di individuo... Non ci fanno proprio, andate. Che va fatto, avvocato? Signor Presidente. Non ci fanno proprio, andate. No, ma le parolacce no. Fin quando... E allora si accomodi... E si comporti da bene. Allora? Si accomodi e si comporti da persona per bene. E allora si accomodi. Solo che non vuoi dimostrare. Eh. Senza aggressività, si ha qualche cosa da chiedere e lui può rispondere. Educatamente. Senta. Beh, ha soltanto aggredito. Quando... Quando sono stato portato alla caserma di Piazza Carità... Quando sono portato alla caserma di Piazza Carità... Sì, c'era il signore qua presente. C'era il signor Pasquale Barri. Il signor Pasquale D'Amico, il signore incarnato. Da dentro la stanzetta. Stammi a sentire un po', mi hai detto D'Amico... Che sciroppavano, che sciroppavano... Whisky, sigarette Malboro, le colazioni prelibate... E via discorrendo. I Malbori fumo tutt'oggi. I Malbori fumo tutt'oggi. Cosa? Lei Malboro, le fumo tutt'oggi. Aspetta un po', aspetta un po'. Tutte le sei sempre potute permettere. Vai, vai, vai. Dentro la stanza c'erano tutte queste cinque persone. Questo signore qua... Ha cominciato a insistere dall'inizio. Dice, ma perché devi fare così il fesso? Dice, parla, dice, non fermare i verbali. Questo signore qua. Lui, l'incarnato e tutti gli altri. A Pianosa, questo signore qua. D'Amico pure. Sì. Questo signore qua è stato messo nella stanza con Giovanni Pantico. Le ha fatto appena appena la voce grossa. Il Pantico è questo qua. E se ne è scappato alle celle, lasciando bigliettini dentro le bilancette, dicendo che lui non ce la fa a resistere queste cose. Se le sono andate a prendere alle celle a questo signore qua. E ritornato dalle celle, il signor Guido Catapano, il signor Guido Catapano, le ha fatto la voce grossa al passeggio. Non è uscito dalla stanza per un mese e mezzo, fino a quando non è stato trasferito, insomma, non lo so dove si è andato. Adesso si permette l'illusso, quella è cavorrista, quest'altra è cavorrista. Vai insomma, basta, NCO. Ma guarda, 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 hai detto, non vuoi fare i fessari, no? Vado di cura prima. Sì, sì. Sì, sì. Poc'anzi lui ha detto che in Caserma c'era il signor Tamito, o no? Sì, sì. Ha pensato che c'era Tamito? Non parlo più, d'amico, non esisteva in Caserma. Senti un po', senti un po', senti un po'. Quando sono venuto io, quando mi hanno portato a me, dentro la stanza dove abbiamo fatto questi... Se di confronti si può parlare, perché di tutto si poteva parlare, meno che di un confronto. In quanto era una persuasione a portare la stessa strada che stai facendo te, quale io, non era possibile farla. Allora, chi c'era, su? Eh? Chi c'era? Eh, c'era, questa signora è qua. Eh, io lo ripeto un'altra volta. C'era Pasquale Barra, incarnato, e ricordo bene che c'era Tamito. Da picco. Cioè, te lo ricordi bene che sei Tamito? Sì, sì. Va bene, signora. Va bene. Maggi che vengono messi per fare qui. Sì, sì. Che poi io a Tamito l'ho visto solamente qua, quando è stato interrogato. Cioè, tu dici... Io a Tamito non è che mi sono mai incontrato come magari mi sei incontrato te, dentro le caserme. Io non mi sono potuto incontrare. Tu dici che quando eravamo in Casermo che sei venuto in Casermo a fare ricontronto. Ascolta, va bene, dopo quattro di lui e solo tu. Ma tutto il resto non è importanza. Lei dice che non è caporrista, che gli vuole contestare qualche cosa. Che cosa gli vuole contestare? Le voglio dire, siccome prima ho sentito, quando lei le ha letto i verbali che ha scritto, ha detto che lui era al corrente, che a me il pandico mi avrebbe dato degli incarichi. Insomma, qua, quando viene qua il pandico, non fa altro che dire, che per quanto riguardava in particolar modo, dico, l'uccisione di Tortora, che era una cosa che aveva fatto un consiglio di volpi, lui, con altri. Ma è arrivato a un certo punto, signor Presidente. Ma consigli di volpi con altri, altri chi sono? Ma l'abbiamo parlato di questo. Altri chi sono, altri. Ascolta, ascolta. Il pandico, il pandico, quando è stato interrogato qua, ha detto che per quanto riguarda, in particolar modo, l'uccisione di Tortora, che aveva fatto un submit ristretto con quelle che lui giustamente riteneva, non so, le teste più grosse, insomma. Ma lui non ha proprio parlato, ha parlato su un incarico generico, non sapeva neanche di questi incarichi generici. Non sapevo quale incarico. Ecco, bene. L'ho detto. Signor Presidente, abbi pazienza. Come fa questo signore qua a sapere di incarichi? Quando questo signore è stato, se ne è andata alle celle, proprio per colpa di panni, perché gli ha fatto la voce grossa. Ma santi Dio, ma è possibile mai? Che se uno deve fare una cosa si mette a dirlo a tizio, a caia, a sembronio. Se io dovrei fare una cosa, me la tengo per me. Se questo magari lo posso ritenere un amico, se questo lo posso ritenere un amico, perché lo posso ritenere un amico per qualche maniera, lo rifiuto perché... non può essere mai stato un mio amico. Lei permette che le cose me le tengo per me. Ma non perché magari a un amico non gliele dico. No, non gliele dico per non responsabilizzarlo. Quindi, come fa questo signore qua a dire che lui era corrente, che io dovevo, dovevo... o quell'altro aveva detto che... come fa? Come fa? Era proprio nessuno. Gli hanno fatto la voce grossa, se ne è andata due volte alle celle, insomma. Due volte alle celle, tra le quali una volta è stato alle celle proprio là, l'ha sottobuttato. Un'altra volta non è uscito dalla stanza per un mese e mezzo. Cioè, non è uscito dalla stanza per un mese e mezzo per che cosa? Sì, perché stavi male magari. Ma no, fammi dire, per che cosa? Stavi male magari. Ora non stai parlare a Giotto Pagli, finiti parlare. No, ma stavi male forse. Hai finito di parlare? Sì. Per che cosa non sono uscito dalla stanza? Ma forse perché stavi male. No, lo voglio sapere da te. Prima hai detto che Guido Catapana ha fatto la voce rossa. Guido Catapana sta qua. Sì, sì, ma lo possiamo far venire anche qua. Guido Catapana è qua. Questa mi interessa. Ma mica te lo potete solo Guido Catapana a te. Comunque, in conclusione, Leonardo, lui vuole sapere come ha fatto a dire che lui aveva avuto degli carichi. In base a quale è l'elemento? Ma lo disse stesso lui quando Pantica si è pedito, signor Presidente, lui disse che l'era un compagno mio e c'era un favore di soffizio. Io te lo venivo a dire a te. No, proprio a te. Voi siete stati una banda di sacchia pure all'NCO. Ma questo furbo dell'NCO chi era? Poi dimmi come te. Era un primo sceme di te. Ah, il primo sceme di te. Ma dove scemo eri te? Ma è da vigno. Va bene. Ma è terminato, su il confronto. Guandardo. Ci serve chiacchia. Allora, Guandardo è anche Leonardo, se non abbiamo altro. Potete ritradurlo. Sì. Calma, calma. Leonardo, calma. Ciao. Grazie. 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 Sì, è velocissima, brevissima. Nell'agriterma dei Carabinieri, in quella stanza, oltre Leonardo, chi altro c'era? Questa è la domanda. Ero solo io. Grazie. Allora sospettiamo. Guardi, purtroppo, l'ho detto la volta scorsa, c'è problema per passare un pacchetto di sigarette a quelli di Ariano? Un attimo, tu, c'è qualche problema per Ariano? Bisogna aprirle, però. Va bene. Mi potete portare Pantico? Sì, sì. Sì? D'accordo. Altro? E chi è, Presidente? Eh, va bene, lo so, è questo signor qua. Va bene. No, no, guarda, ora ci diamo dopo. E' a Franco, chiedo scusa, nella tasca della giacca mia ci sta una lettera che mi ha portato l'ascolta. la giacca mia si ha preso lì dall'armario, io l'ho messo dall'armario e... C'è l'Avvocato Misono. Dopo, dopo. L'Avvocato Misono che voleva dirmi? Già ho fatto vedere... Chi? Adesso chiediamo un attimo. Andrè, ha rinunciato la duranza alla presenza? A presenziare? No, no, che io mi andavo a guardare, mi andavo a guardare. Ah? Sì. Se l'ha andato? Ha rinunciato? Va bene. Perché loro dopo ci danno la comunicazione. Piuttosto devo dare atto che ci si è prevenuta una lettera da parte di Catapano. Tramite scorta, lettera che viene acquisita agli atti. E si tratta di una lettera, carissimo, compagno Pasquale firmata da Peppe Trocciola. Poi eventualmente lo sentiremo su questa... Comunque, ora qui siamo e poi dopo vediamo. Prego. No, lo chiameremo per sapere, non sanno neanche chi è che gliel'ha scritta. Chi gliel'ha scritta sì, ma chi è diretto non lo so. Presumo soltanto. Eh, in possesso di Catapano. Allora, Pantico, lei conosce questo signore qui? Signor Presidente, vorrei fare una piccola precisazione prima che entri in materia dei fatti. Ora che stavo nella gabbia, camminavo avanti e indietro e mi dicevi a me, ma vedi in quale trappola si sta accadendo? Quale trappola? Il Leonardo che non conosce a quel tizio, quell'altro che dimagrisce, come anche il Chiariello Gennaro negli ultimi tempi aveva i baffi. Se io ricordo, se non ricordo male, che una volta durante il periodo di detenzione è il detenuto in attesa di giudizio. Entrava per dire quei capelli lunghi, rimanevano quei capelli lunghi. Entrava quei baffi, rimaneva quei baffi fin quando lo faceva il primo grado almeno. Parecchi di questi si stanno camuffando, chi si taglia i capelli, chi si dedica a una cura dimagrante, se è il caso. Noi prendiamo, si può vedere, si può vedere dalle fotografie agli atti. Nel processo, il Chiariello sta che i baffi, nel altro processo senza baffi, nel altro processo si baffa la moglie. In quale processo mi ha trovato con i baffi? Aspetta, ora sta facendo... Sto facendo un esempio, sto facendo... Signor Chiariello, non si calmi, sto facendo un esempio. Io sto calmissimo. No, non si calmi, siamo tutti calmi, però ogni tanto se vogliono vedere dalle staffe. No. Quindi, la preghiera che vi faccio, perché, veda, io innanzitutto, se portavanti questo compito che mi sono preso, è un compito che mi sono preso con me stesso, è controcutolo. Io ho detto in altre occasioni, oggi, a servo e servo la giustizia, con lo stesso ardore di quando prima serveva a cutolo. Anche a costo che mi tagliano la testa, le ultime mie parole sono sempre quelle che ho detto nel corso istruttorio. Ho da precisare un particolare, perché sono stato indirettamente chiamato in causa, anzi, del confronto, ricordo benissimo, che fu unicamente e assolutamente tra me il guarniero sulla Pastrengo a Napoli. E' preciso, primo, che il confronto si svolse secondo i dettami posti dalla legge, ossia solo tra me il guarniero. Un motivo, un secondo o quell'altro, che mi pare che il guarniero abbia detto, è preciso, che sulla Pastrengo c'era anche il D'Amico. Mai stato il D'Amico in Pastrengo, fatta eccezione, che ricordo un pezzo televisivo, quando lo chiamarono per un confronto e basta. Terza cosa, sono stati tutti addestrati, se voi fate caso in particolare. Vengono tutti dalla, direi, dalla scuola tortoriana. Chi soffre la mania di persecuzione, chi stava sempre alle celle, chi era un quacquara qua, chi era un scemo, chi conosce il camorrista Donoreme, eccetera. Ebbene, signori, io vi invito, vi consegno delle lettere che sono state sequestrate nella cella di Roberto Cutolo dai carabinieri nel lontano 81-82, lettere copie di cui si possono prendere le originali che stanno, che io dovevo mandare ad Ottapiano, se è qualche camorrista, ad eccezione di Cutolo, di Guarnieri, è un po' cianci, perché i cianci prima dovevano essere legalizzati da me e che io non volle accettarlo, perché i figliocci erano come i coccodrilli, prima andato dovevano andare a morte. Sono all'altezza di decifrarvi, eppure parla di nome e cognome in queste lettere, di un morto avvenuto e di morti che dovevano accadere intestate da Roberto Cutolo. e per dimostrare addirittura che non sono lettere da me, come qualcuno possa illudersi, precostituite, c'è, su una lettera di questa, un pezzo di grafia dello stesso figlio di Roberto Cutolo, che è sottolineo in particolare. Per quanto riguarda il camorrista Donorem, era una specie di sismi della camorra, era una specie di camorrista segreto della camorra, cioè non era un camorrista dove era a conoscenza di tutti niente. Io vi ho detto, voi prendete a qualsiasi camorrista, ad eccezione del Guarnieri, perché gli imparai la chiave, di questi riducibili che stanno nelle gatti, gli dato queste lettere in mano, se loro sanno decifrare queste lettere, allora io gli dirò, va bene, stanno a conoscenza di camorra, sanno fatti di camorra, li dimostrerò. No, signore, questi si saranno tenuti sempre imbranati, non si è fatto capire mai nulla, mai nulla, si è sempre confusi. E ricordate un particolare che non si dimentica, che qualche camorrista che non fa altro che ribadire, Carmela, Carmela, non è che mi urto, Carmela in codice era il figlio di Gutolo, perché la madre si chiamava Carmela, lui faceva di cuore prima di cognome, lui nel settant'anno se l'ha legittimato. Il codice, non lo sapete il codice della camorra, buttate, sproposite, fatti fuori, che non vi rendete conto. Come esempio pratico, una lettera scritta di Fugno di Cuto, chiedo scusa, eccellenza, che mi parla delle sei mosche. Vedi, figliocci, una mosca già stata uccisa, altre cinque mi danno fastidio, che si deve fare? Sapetemi decifrare questo. Se siete all'altezza di decifrare questo linguaggio, se siete all'altezza di decifrare queste lettere, e allora io qua vi nomino camorristi effettivi. No, se tutto me non zaglia, sapete quella cosa quando si spezza i maccheroni che rimane sotto? E non si mette a foto se tarandella a chiedere, solo guardieri, è un po' cianci, è Cutolo, è il figlio di Cutolo, è all'altezza di decifrare queste lettere. Se volete ve le consiglio. Va beh, andiamo avanti con, già l'ha riconosciuto, no? Sì, va beh. Chiedo scusa, non vorrei fare una morale. Gennari, voi siete stato una spina nel... Va bene. Ma mi deve chiamare, non Gennarino, perché non gli ho mai dato questa confusione. Senta, signor Chiariello. Paddico, mi dica prima di tutto chi è. Senta, signor Chiariello. Lo devo comunicare, su, mi dica chi è. questo è Gennaro Chiariello. Chiariello Gennaro. Detto Gennarino. Va bene. Allora, che cosa volevo contestare? Io tante cose, signor Presidente. Dica. Fino ad oggi non ho avuto mai l'opportunità di poter contestare al Pantico, adesso devo contestare tante cose. Tante, ma di tante di quelle domande. Innanzitutto, lui ha riferito in quest'aula, durante tutta l'udienza, che ad Ascoli Piceno c'erano solamente chiusi i cancelli principali. Visto che erano chiusi solamente i cancelli principali, noi dovevano essere aperti dalla mattina alla sera. Voglio chiedergli questo. Se mi sa descrivere la sezione di massima sicurezza, come è fatta e quante cellule di isolamento ci abbiamo, come sono ubicato le cellule di isolamento. Primo. Sei Pantico che mi vuole rispondere su questo? Scusa, rispondo alla prima domanda. La prima domanda la trovo quando mai fuori posto, perché io... Fuori posto? Lei l'ha dichiarato in un sacco di morte. Io l'ho ascoltata, ora per cortesia mi ha dato anche del bastardo, se per questo è bravo. e io ho fatto finta di sentirlo dall'orecchio di cui sono solto. Io non scendo a tante cose, non scendo così basso. Ho fatto finta, anzi l'ho ascoltata, dall'orecchio di cui sono solto. Quindi per quanto riguarda la prima domanda che io ho detto ad Ascoli Piceni erano solo i cancelli principali chiusi, l'ho detto nel senso figurativo, per indicare che lei era una barahonda, che se arrivavano e aprì quei cancelli succedeva che un giorno non si trovavano neanche i guardi più là, uscivano anche loro e carcerati e tutti. Per quanto riguarda la perimetria della sezione, fuori posto, e la ciappa di... ci ho vissuto otto o nove mesi in questa sezione. Io gli ho fatto una domanda specifica. Come è fatta... Deve descrivere al Presidente, al Tribunale, come è fatta la sezione di massima sicurezza. Le celle di isolamento dove stanno e quante ne sono? Ma le celle di punizione o di isolamento? Cellulo di isolamento. Punizione e isolamento sono sempre quella... Se si parla di celle di isolamento già non si può parlare più, si parla di sezione. La sezione è a senistra. No, 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 no. Non esiste. La sezione del carcere almeno dove stavamo noi. Il signor stanotto l'hanno addrizzato questo perché tutto è possibile ad Ascoli, anche addrizzare le gambe ai cani. La sezione è a semisfera di cui si divide con due cancelli in mezzo. Questo cancello crea una cabbie con questi due cancelli con l'ingresso da un corridoio di cui ha luogo un posto di guardia e in questo posto di guardia c'è la cassaforte dove stavano le chiavi delle sezioni, dove stava un figurifero e altri generi così. ci ho vissuto nove mesi in questa sezione. Ma lei, io ripeto la domanda, lei ha detto che ad Ascoli Picena solo i cancelli principali erano chiusi. Ha detto per quale motivo? Signor Presidente, mi scusi, signor Presidente, lui ha detto che ad Ascoli Picena erano solamente i cancelli principali chiusi della conteneria. Signor Cariello, ciò dimostra che lui dicendo questo dimostra che ad Ascoli Picena era aperto in tutto e per tutto. Signor Cariello, lui poteva andare sia lui come gli altri detenuti poteva andare in qualsiasi posto. io parlo della sezione di questa maniera. Lei mi deve lasciare parlare. Lei mi deve lasciare parlare. A questo punto signor Presidente, ad Ascoli Picena quando parla lui deve essere accettato pure lui. Addigo, lo lasci parlare. Io ho detto così, lui ha dichiarato che ad Ascoli Picena solamente i cancelli principali erano chiusi della portineria principale. ciò dimostra detto da lui che potevano camminare liberamente tutti i detenuti. Eh beh. Allora io chiedo che lui mi descriva che cosa mi va a ricordare. Sì, sì, io le ricordo tutto. Cosa che si può constatare. Mi ricordo che addirittura a due o tre celle distante da quella di Cutolo dopo la partenza del Cutolo ci fu un tentativo di evasione. Da parte di chi? No, questo, un attimo, lo devo dire. Lei, ci fu un tentativo di evasione in questa stanza allora era occupata da Amedeo Morra che sarebbe proprio questa Amedeo Morra quello che ha legalizzato per voce di Saccone a Pedicini nello speciale che avvenne che questo Morra voleva fare l'evasione servendosi come scudo come copertura il termosifone che lo faccio mondare il termosifone e le spaccone un lato lo lesiono tutto e se è quel termosifone e se non sono sono accorti là risulta il termosifone è cambiato che voleva servirsi a togliere il termosifone che si levavano dietro il termosifone a farci il buco poi torse dei perni lunghi sempre dopo la partenza di Cutolo quando la cosa stava in campiana già stava a manifestarsi anche in altre parti torse dei perni che mantenevano degli armati no dei tavoli signor Presidente devo interromperlo a questo momento devo interromperlo perché un attimo torse dei perni lunghissimi straticò dal muro questo tavolo murato per servirsi da farsene per scarpelli da punterù per rompere dietro il termosifone va per montare il termosifone chi sa come fece lui perché mi raccontò questo fatto e poi lo vedi il termosifone ma come anche se vuoi fare il buco il termosifone è piccolo devi fare il buco più piccolo del termosifone per passarci se no si vede e da là mi ricordo questo particolare che ci deve essere se non l'hanno cambiato ci deve essere ancora questa lesione anzi io disse amore se ormai noi qui ce ne foste stiamoci zitti perché stiamo quasi per partire tutti non facciamo neanche presente questo particolare perché se un domani accendono il termosifone che facevamo un altro inverno o accendevano che andavano sotto pressione là usciva l'acqua e si notavano questi fatti vabbè ma comunque non ha risposto a quello che dice signor Presidente adesso devo risponderlo io a questo fatto se c'erano soltanto i cancelli d'ingresso e come facevano non ci stava nessun controllo tra di voi ma senta Tascoli Piceno in effetti è questo che vuole dire il controllo il controllo Pantico senza che c'era di arrambicarsi sui ventri perché si scivano io vado piano però lei non deve sulle carte c'erano scritte da Scoli Piceno il controllo sulle carte era tutto scritto controllo qua controllo là controllo avanti addirittura si può dire questo senza tema di essere smentito è quasi portato a cutolo bisogna vedere è venuto è venuto casillo ha mangiato ha mangiato nella stanza con noi oi latitante ma che le devo dire anche questo che le devo dire il fatto di fiste non tiriamo in mezzo tanta particolare ma lei può tirare quello che vuole lei può tirare quello che vuole basta che Pantico il fatto di no no il fatto di fiste di un amico il fatto di un amico lo dica lo dica lo dica il fatto di un amico che ma lei certamente che disse a voce fate passare a Tizio fate passare a Cain cioè invogliò prima quel poveretto tra virgolette di Cosimo Giordano quale il direttore di Ascoli era di fare entrare a questi camorriti insomma passava chi volevate voi insomma ma passava tutto guardi che cosa vuole dire per me non ha risposto alla domanda che ci ho rivolto d'accordo andiamo avanti Pantico ha dichiarato più di una volta sempre per il fattore di Serra qui si apre un altro capitolo questo fattore Serra e per prima di parlare di questo fatto come hanno sempre ribadito i pantiti per l'ingolumità dei propri familiari e cose io purtroppo malauratamente sempre per le loro di posizione sono tre anni quasi tre anni che mi trovo in carcere essendo sempre le solide accuse la mia discorpa è stata sempre quella di rivolgere il tribunale che si rivolgesse alla procura di Ascoli Picena per il suicidio Serra Pantico ha detto una volta ha dichiarato una volta in istruttoria che io l'avevo tirata per i piedi lo confermo non mi deve interrompere lo confermo ha dichiarato in quest'aula addirittura che io ci abbia tolto il termosifore dai piedi no signore io non sono un multosio no 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 in quest'aula ha tirato il termosifore da un multosio voi avete le braccia e buoni ma i cervellini sono un po' no lei mi deve far prima parlare poi nello stesso momento ha detto che ci stava il medico che contestava dei segni al collo e cose a questo punto a questo punto io chiedo al Presidente di mettere a verbale e citare il medico di servizio di quel giorno perché non mi ricordo chi era è la guardia infermiera è la guardia di sezione che c'era di servizio Pantico a questo punto mi deve dire cosa è successo all'agente di servizio in quel reparto dove è venuto il suicidio ma mica il direttore del carcere come fa a sapere scusate signor Presidente lui accusa come fa a sapere se da dove stava lui in sezione dove stava Serra c'erano ben otto cancelli blindati in una sezione a sola solo in Serra insomma Pantico vuole sapere se sa se c'erano degli agenti in servizio no c'era l'agente di servizio chi era l'agente e cosa ha subito dopo dei provvedimenti contro di loro questo si contro l'agente e contro l'impresiva vediamo all'onorevole tribunale per quanto riguarda il no perché lui ha tirato in mezzo a forza questo omicidio Serra ho tirato lei mi sta accusando continuamente confermo 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 sì ma lei mi deve dare le risposte aspetta un attimo qua non sta facendo la causa all'omicidio Serra confermo tutti i particolari che il chiariello ha detto sull'omicidio Serra solamente che l'ha messo a tipo suo a modo mio il fatto del medico quando lui dice che è il medico di servizio che venne lui e ci riferì lui? lui personalmente a chi lo riferì? in carne ed ossa a chi lo riferì? in carne ed ossa ma lei sa dire che era di servizio sa dire che ci stava di servizio per cortesia sa dire che ci stava di servizio e cosa è successo la mattina la mattina che c'era di servizio ma noi sentivamo tutto ciò che lei ci veniva a dire da quella sezione io andavo a dire a lei andavo a dire che cosa le disse? chiedo scusa mi voglio ricordare un altro particolare senta tanto lei ha particolare allo tuo ospetto guarracino lei si arrampica sui vetri con me no 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 con i vetri si sta arrampicando con i vetri sui vetri si sta arrampicando al suo ospetto il marshalo guarracino in galandumo perché? perché non si è mai permesso per nessunissima voglia motiva al mondo di chiedere la morte di un altro suo collega ciò che lui ha fatto arriviamo anche a questo con il brigadier San Paolo con il brigadier di Sappato non deve tragiversare le mie domande lei non deve tragiversare le mie domande man mano andiamo a prendere signor Presidente a questo punto per me non mi risponde alla domanda ma su altri fatti io mi devo difendere mi sono sullo stesso argomento ma io mi devo difendere man mano gli facciamo le domande allora a un momento non il momento che cosa accade accade per quanto riguarda il lecchiariello è vero il fatto che il medico disse quello è vero il fatto del termosifone no no c'è il fatto del termosifone del termosifone no il serra il serra dove si impiccò c'era una finestra di cui sotto c'era il termosifone quando venne il chiariello ci disse a noi queste testuali frasi anzi meglio dire le dissi a Cutolo disse compà disse che è una generale un medico va a trovare una paglia per cento di cavallo disse perché perché dice perché è che cosci è morto l'hanno trovato due graffi questo particolare che è da verificare questo si può verificare dall'autopsia del serra se le ha detto la fesseria allora non ma credo di no questo non l'ha detto nessuno il fatto di graffi alle gambe non l'ha detto signor giudice l'ho dichiarato in un altro campo ogni momento cacci la parola ogni momento saliva sul termosifone il serra per arrivare a questa finestra perché al punto tale che fu terrorizzato dal chiariello che si può ricordare un altro particolare pure sempre del serra che il Dabigo si isola da una lettera da una lettera da farla consegnare al direttore del carcere e questa ce la porta a noi in questa lettera io voglio collaborare con la giustizia non voglio ostacolare la malavità più stimo sempre acuto cioè ritornando ora alla alla questione dell'associazione a delinquere prima cosa lei un giorno pretendeva nel modo più categorico la morte l'eliminazione totale del brigadier di sabato da noi chiamati il vigile si stava mettendo in pendola questa sua richiesta Cutlo quasi quasi perché spesse volte quando Cutlo va in crisi c'è il vizio di fare così o di strofinarsi vicino alle tempie quando avrei il tuo mono che abbiava a bollare dissi ma aspetta andiamoci un attimo piano gli fece questo ragionamento di Cutlo perché Cutlo è un tipo che se uno ci fa capire una cosa va sulla strada disse secondo te è fessa a urpo chi ha proprio questo ragionamento disse lui è fessa a urpo che si fa pigliare quindi dove qua c'è dura quindi di sabato non ha nessun torto perché se è di sabato senza ospettire su Chiariello vuol dire che lui commette degli errori al punto tale da farsi per così di importunire tutte queste cose quindi il torto qua non ce l'ha di sabato perché di sabato sta facendo il suo dovere il torto ce l'ha di Chiariello Chiariello che si fa scoprire dopo questo tiramolla si può chiamare di sabato io per salvare di sabato perché sarebbe stato morto inutile come tanti altri morti proprio ha fatto tutto un brodo veniva fatto mi ha andato a chiamare di sabato io stavo nella stanza io Marco Medda mi sembra palillo e cutolo una cosa del genere e gli disse a di sabato queste testuali frasi di sabato venne tutto sbattuto disse ma non è poco di sabato tu quant'anni hai servizi a fare gli disse prima ti andano un po' ma come ma perché su queste cose su queste domande ricetta è stretta ricetta è già farvi gli anni ricetta è sentita ma buona cerchete un'impensione in Grazetti non le fanno in Danuta ho avuto questi due anni ma vattene in Grazetti di certe cose fa fin sta con me non ti metto troppo in urta certo non ti metto troppo a fare il vigile era da noi denominato il vigile che poi la medesima richiesta la medesima richiesta quasi anzi lui parlava di trasferimento la feceva tra Santini perché una volta fu trovato con delle fatture in Tascana una perquisa delle fatture erano 60 70 mila lire lui le modificò a 350 a 400 mila lire certa roba cioè è lui ma il guarracino su questo lo posso dire davanti all'opinione pubblica intera il guarracino non si è mai permesso di dire questo e quello addirittura nella sua stanza dormiva con lui nella stessa caserma il brigadiere San Paolo un bravo ragazzo un ragazzo puro un ragazzo che faceva il suo mestiere e basta perché c'era da apprezzarlo e questo brigadiere San Paolo più di una volta si lamentava che voleva cambiare stanza ma io dicevo il perché e lui diceva che capì in sostanza che San Paolo che San Paolo aveva intuito qualche cosa del chiarirlo e io lo consigliai non so se può lo seguire quel consiglio cambia stanza in modo che non viene responsabilizzato beh paddico comunque attiviamoci soltanto alle contestazioni che fa lui senza girare è camorrista fatto tacutolo in ascoli piccoli allora che cosa vuole dire ancora adesso io in questo momento dalle sue deposizioni che ha fatto ancora adesso che ha fatto già precedentemente riguardante che io abbia decretato la morte sia di San Paolo che di di sabato come lui stesso ha riferito in questo non ho detto di San Paolo lei mi deve far parlare paddico non ho detto di San Paolo ho detto di San Paolo tentando di cambiare stanza signor Presidente lui stesso adesso a questo momento ha dichiarato e anche in precedente che io abbia decretato la morte del brigadier di sabato e del brigadier di San Paolo che poi sono andati da lui a non mandarsi perché venisse fatta questa cosa in questo momento in quest'aula in qualità di imputato dovrei chiedere l'incriminazione del brigadier di sabato e del brigadier di San Paolo in quanto loro ufficiali di polizia e giudiziari dovevano immediatamente denunciare alle autorità e non rivolgersi al denuncio ma non potevano denunciare un putoliano sono pure infamie un putoliano lo potevano denunciare allora pure di sabato era stato chiamato io non lo so era stato chiamato dal vertice all'attenzione di sabato non lo so che denunciava è stato chiamato da lui a questo punto sono muri innanzitutto signor Presidente non voglio essere chiamato da questo signore come io sto facendo io devo parlare e discolpare una parola già non riesco più a capire niente perché io mi devo discolpare dalle infamie di questo signore lo dico e lo ripeto si sta arrampicando sui vetri con me i 10 milioni i 10 milioni è tutto da verificare un momentino è tutto da verificare signor Presidente mettere a verbale tutto quello che ha detto riguardando il brigadier di sabato e il brigadier di San Paolo è tutto registrato è tutto registrato è tutto registrato tutto anche il loro scatto della macchina fotografica Pantico io devo parlare Pantico Pantico io devo parlare io mi devo discolpare Pantico non posso stare sempre dietro le sue parole ricordo e non ricordo i particolari dimmi i fatti mi sto discolpando i 10 milioni adesso arriviamo a questi 10 milioni il libro Camorri il libro poesia e pensieri di Cutolo che mi manda proprio lui Cutolo con il biglietto non volevo taglielo con la tetica mia sopra signor Presidente io devo parlare non devo parlare io devo discolparmi questi 10 milioni già su un altro processo Pantico sta bene amato 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 allora sull'altro processo è un selluta Pantico è un onorevole è un onorevole è un onorevole è un onorevole in Italia signor Presidente a questo punto già non c'è il mio obiettivo allora sull'altro processo l'ho richiamato avvocato l'ho richiamato avvocato sull'altro processo sull'altro processo allora sull'altro processo con la stessa accusa di questi 10 milioni rivolta la domanda a questo signore chi mi ha dato questi 10 milioni non sa chi me l'ha dato il castello risponde alla corte il castello io non so se sto castello risolto o meno i 10 milioni gli sono stati dati adesso sicuramente mi tirano fuori quant'altro non lo so gli furono dati gli furono dati dalla sete madre cioè dal castello dalla Rosetta Cutolo o da Caruglia cioè gli furono dati perché c'è questo particolare come uscì a fine il fatto dei 10 milioni come uscì da fine l'ha spiegato il fatto dei 10 milioni l'ha spiegato gli furono dati da chi gli sono stati dati o da Rosetta gli furono dati per oltre di Cutolo gli fu mandata la richiesta è sicuro di questo signor Presidente ho assistito a questo dialogo signor Stitico lui parlava di una casa che doveva coprire non so dove rialzare e che serviva anche questo e ho assistito a mia presenza a questo nome ha ottagliato alla mia presenza alla presenza di Cutolo e alla presenza del Palillo ma questo mi hanno dato 10 milioni nella stanza ha chiesto in presenza sua di Cutolo si fu fatta la procedura di versamento pur da là da Ascoli si mandò Ottaviano l'impasciato di fargli dare questi soldi vabbè che voleva dire gli sono stati dati i soldi che devo dire signor Presidente se questo non mi fa parlare io non posso dire io devo dire ho tante cose da dire ma non mi fa parlare come faccio ma io sto calmo è tono di voce chiedo scusa a questo ma è tono di voce non è che io sia alterato sempre ritornando al fattore di questi 10 milioni come già ho detto all'altro processo ha dichiarato al castello adesso mi ha tirato fuori il nome di Cutolo il castello è rappresentato da Rosetto da Carolina quando si parla non è quel castello il muro il castello si intende è come io dico Pantico noi qua stiamo facendo stiamo facendo un processo il tribunale deve citurare una persona vabbè l'abbiamo capito il tribunale deve citurare la posizione di una famiglia si dà la decima sezione chi sta a capo del tribunale se non possiamo andare avanti che cosa volevo contestare ha spiegato che cosa si intende adesso poi vorrei chiedere al Pantico che ha dichiarato sempre in quest'aula se può essere più preciso il giorno o il mese di quando io sono stato ad Ottaviano con il prete e con quale furgone se può dare anche la targa di questo furgone e questa mia è andata ad Ottaviano per cortesia ho preso un verbale di 70 mila lire che poi volevo farmi ripagare da lui può dirmi il giorno e il mese abbiamo capito allora l'ha detto un attimo per quanto riguarda la sua andata in Ottaviano purtroppo stavamo detenuti non sappiamo con la targa e il colore del furgone è dichiarato ho preso 70 mila lire ho parlato che si è andato con un furgone che ha accompagnato dichiara questo furgone si è parlato perché doveva andare si doveva mandare il prete ad Ottaviano perché il prete ma si doveva mandare il prete o io col prete non lo so qui da prima signor signor chiariero per cortesia si doveva mandare il prete anzi il prete disse vicino a me disse vicino a me vicino a quello disse guardi 80 parrocchiani fuori gente che hanno bisogno vabbè è stato mandato il prete con lui e con chi altro quindi il prete che disse a un certo punto disse ma la strada non la so non la so per andare a Ottaviano e lui disse va bene parliamo con lui e fu accompagnata lui e questo furgone mi ricordo che anche in quella circostanza al prete gli fu regolata a lui personalmente un televisore e questo furgone fu riempito dire furtiva delle rapine di etif dalle scarpe alla biancheria tutto era un roba di battaglia si cita la roba che tutta questa roba qua a chi la portai questa roba a chi la portai questa roba di punti scarpe e te le vi non è tornata ad Ascoli questa roba e dove andate vuol dire a questa roba che il servizio faceva oltre al giorno anche che il servizio faceva il prete ce ne fece richiesta per una riposta per una riposta che non posso nemmeno concentrarmi a dargli una riposta il prete ci fece questa richiesta per questi suoi parocchiani come anche un altro ci fece una richiesta di una veste da sposo da 5 milioni di riservi la roba gli fu consegnata lui le fece da autista e ricordo sto parlando quindi poiché andiamo nel mese di di dicembre novembre dicembre la fine o la fine novembre o la fine dicembre dell'81 perché 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 ricordo ma se lei neanche c'era per cortesia tanta cosa quando fu morto di mattina neanche c'era di servizio parlate poi gli hanno trovato l'orologio a casa sua questo dopo risponde l'orologio che era morto voi voi si identificate il piacetto toro la nuova camorra organizzata quando Pantico non esisteva ancora come si succede io fu identificato e da chi signor giudice dal giudice di lucia e dal giudice Pantico signor giudice quanto venne lui signor giudice io non sono mai identificato appartenente alla camorra non mi ricordo io ho sempre vissuto con lo stipendio di mia moglie e lo stipendio del ministero di creazione e lo stipendio della camorra tre stipendio entravano tre dopo andiamo avanti dopo andiamo avanti faccio rispondere ancora poi vediamo un pochettino avvenne questo poiché prima del fattore del prete una serie e lui ebbe una piccola discussione mi sono dimenticato che errore fece di carattere camorrese così no e io lo chiamavo e dice vieni poco a casa e entra e gli dissi queste parole gli dice ma io sono una persona per bene una persona ci sentiamo buono le persone per bene in mezzo a noi quando non vanno come noi o stanno in dalle chiesa o sotto terra la mattina mi chiamavo Cutolo di questo fatto c'era circa mezzo che quello ha voluto da me Cutolo è palillo c'era proprio palillo ha voluto da me tutto sbattuto così così cerca di farci pace cerca di addolcire di sorriderci quando lo vedi queste cose qua vabbè quando venne la sera col furgone venne da me stavamo facendo mi pare socialità quella serie Cutolo con palillo con dei fondi imperatrici eccetera mi chiamavo mi chiamavo da parte mi chiamavo che si tratta mi chiamavo tutto è stato dopo la morte serra perché io ci ricordo ma tu mi avevo 12 milioni che ho fatto cercando in 70 mili dopo la morte serra quindi dopo la morte serra perché perché le contestate questo a lui lui viene tutto sbattuto tutto sporco le mani di roba di grasse ma c'è tagliato una multa per Ottaviano di 70 mila io mi chiamavo di mettere la sacca mi chiamavo di leggere che non mi avevo tutti i soldi dove ho preso questa multa a Ottaviano nei paraggi di Ottaviano vuol dire a questo tribunale chi me l'ha fatto i carabinieri o la polizia non lo so ho parlato di una multa e come non lo so io venivo prendo a dire a lei che mi deve dare la multa non lo so chi l'ha fatta io l'avrei dovuto dire pure chi me l'ha fatta io gli ripati ricetta mi occupo vorrei portare i 70 mila che appunto tra 4 giorni fa giorni prima gli erano stati dare 10 milioni e addirittura un altro particolare eh sì tutti i particolari ti ricordo no 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 sono fatti ma fami fa dove stanno sono fatti sto chiedendo io sto venendo io sto venendo con delle prove sto chiamando con citando al tribunale prove fatti non chiacchire talmente che aveva consumato la strada di Ottaviano che noi a un certo punto il chiariello incominciava a preoccuparci a mandarla a Ottaviano perché lui stesso ci riferiva mentre camminava nella macchina con due tre latitanti ho cacciato il tesserino garantito e mi hanno fatto passare cioè stava diventando per i carabinieri di Ottaviano per la polizia di quella zona una faccia abbastanza nota e là si pensava addirittura di non mandarlo più perché lui stesso veniva o mi hanno fermato portato a chi sta latitando tutto caccia la resta mi hanno fatto passare ci sono tutti colleghi faccio questo garante ma riguarda poi sempre il fatto signor Chiariello questo non è detto da me lo sentire perché sono imputato in questo processo è seco come post processo senza appunticire mi pare se non vado errando che il dissociato esposito abbia detto che durante il suo arresto del Brizio noi adesso stiamo facendo il confronto tutti e due non c'erano altri venditi quando poi ci saranno altri venditi a posto suo possiamo farci confronto anche con gli altri venditi per il momento non abbiamo discusso tutti e due bar signor Presidente a questo punto dovrei solamente alzarmi perché non sta rispondendo alle mie domande integralmente confermo alto per punto quando ho dichiarato nel corso ma confermo che cosa che cosa confermo e ma signor Presidente io gli ho chiesti i determinati particolari io purtroppo a lui mi sono presentato con la multa e voglio voglio sapere da lui chi me l'ha dato dove l'ho presa ma lei non lo ricorda ma che servizio facevo che giorno era cioè che io quasi quasi avevo un po' signor Presidente non può ricordare se si ricorda minimamente i particolari non può ricordare in questo momento non mi ha risposto per niente ma non mi ha risposto per niente io ho chiesto il giorno di servizio ma adesso andiamo anche su quell'altro là mi metteva nella stanza di Iacone nella stanza di Coccuta all'una delle due di notte ma io io non mi sapevo guardia qualche notte si è lamentata ma io mi devo rispondere solamente alle mie domande non fare i raggiri non deve fare i raggiri lei sta dicendo signor Presidente per me non mi ha risposto sta facendo solamente i raggiri sta facendo solamente i raggiri adesso lui ha detto adesso che io gli facevo fare la socialità di notte all'una alle due di notte mi può dire che servizio facevo io bandico tutti i servizi quali servizi io ho solo il mio compadre il mio servizio io non dormivo insieme a lui forse mi vede una bella donna ma se quello mangiava ufo con noi stava pure la notte con noi stava se ne andava addirittura la morte di Matteo signor Presidente la morte di Matteo un attimo un attimo un attimo una cosa la morte di Matteo il 19 aprile lui non era in servizio ci serviva il suo con l'uomo signor Presidente e si prese l'orologio del morto ma lei è convinta che io sono ma lei è convinta che sono solo in sezione in pantaloncini e maglietta in pantaloncini e maglietta io stavo là non ho convinto allora a questo punto mi lasci è camicia con maglietta pantaloncini lei ha detto in quest'aula l'altra volta in quest'aula l'altra volta ha dichiarato alla corte che mi sono presentato sul reparto in pantaloncini e maglietta pantaloncini Pantico mi lasci parlare mi lasci finire di papà a questo punto signor Presidente io cito dico cito per essere soddisfatto ci dà cutolo ci dà cutolo anche voi il tribunale di voler sentire il sostituto procuratore della Repubblica di Ascoli Piceno il dottor Grincoli ed il maresciallo comandante fallavollita volete a forza la testa di quel vecchio di questo maresciallo comandante un attimo signor Pubblico io devo parlare o non devo parlare se io devo parlare se non mi ando e me ne vado il maresciallo comandante fallavollita il giorno del suicidio di Di Matteo innanzitutto voglio sapere prima da Pantico se ero o meno di servizio ero o meno di servizio io non avevo chi era il brigadino di servizio non avevo il brogliaccio del servizio Pantico le persone descritte che il carcere di Ascoli Vicente era più del direttore stesso la sera dell'omicidio di Matteo omicidio lo sta dicendo lei omicidio Kudlo aveva deciso questa squadra per andare in questo particolare anche dell'orologio Kudlo aveva deciso questa squadra doveva ucciderlo Medda Imperatrice D'Amico Medda Imperatrice D'Amico e Vincenzo Capacotta infatti mi ricordo che Kudlo partì di domenica è l'ultimo colloquio che ebbe di Matteo col Kudlo fu verso le nove e mezza verso le otto e mezza le nove di domenica mattina Kudlo parte Kudlo quando è partito? è partito il mattino mattino di domenica del 18 aprile Kudlo è partito a mezzanotte no 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 sì sì no no dagli assi può verificare il tribunale no no per cortesia è partito il mattino di domenica del 18 aprile verso le nove le nove e un quarto e la sera dopo il 19 il 19 poiché la socialità non era almeno sulle carte consentita a più di cinque persone e poiché per eliminare il Di Matteo non ce la facevano trovo quattro perché era abbastanza grossa e poi si poteva sospettare qualche tranello stesso là dentro perché perché Capacotta era un amico di reati di furi di infanzi del Di Matteo il catapano disse beh si deve farlo facciamo però se si potrebbe sparagnare e quindi il d'amico stava nella stanza con il Di Matteo e non si sapeva al momento del fatto se gridasse o pregasse qualche altra iniziativa e doveva andare l'imperatrice ci ricordo che io sostituì sostituì l'imperatrice con Amedeo Morra perché perché quattro cinque ore prima del delitto Salvatore nel parlarmi avanti e indietro lo vedevo tutto euforico tutto esaltante il presidente questo per me sembrerebbe nuove accuse da poter sentire in camera di consiglia è fuori strada completamente io ho detto a Pantico se c'era un po' meno di centante sul fatto quella sera del servizio della morte di Matteo perché voi volete vi devo portare perché voi vi siete fregato l'orologio l'errore fatto che il popolo lo contestare si fregato e cortesino ma non c'è la straparcia di stare con Matteo vi siete fermati c'era un orologietto mi sono fermato a un certo punto io non mi chiamo Pantico guardi vedo questo imperatrice tutta euforica avanti e indietro tutto contento lui come si stava allenando chissà chi mi dice ma Salvatore c'è noi posta si c'è tanta calcio in faccia ma stai perdendo la capa la deve apparire il suicidio la parli dei calci in faccia ma stai dando i numeri no ma ma Dio lo ha secondato chiama a Matteo e gli era presente a questo fatto io gli ho chiesto un attimo un attimo c'è un telegramma spedito di quel giorno là della non dalla sera del 19 del verso il 21-22 io che ho fatto una domanda chiamma a Matteo e ti voglio al Medda aspetta adesso rispondo e ma sta dicendo cose che non esistono se io non ci sono chiamma al Medda io gli dico Marco disse fammi una cortesia l'imperatrice non deve partecipare a questo fatto disse perché dice non deve partecipare fa un'imperazione di Medemur o Bruzzese mi disse ma io non l'ho visto mai lavorare c'è l'ho 45 c'è un cavallo che se lo vedi e infatti poi Marco mi fece tutti gli elogi di questo Bruzzese la sera ora poiché la socialità iniziava dalle 6 alle 8 e per legge e più di 5 per legge si parlava sempre là delle carte scritte più di 5 persone non si potevano andare infatti in quella stanza si entrarono a 6 e se ne uscirono a 5 che succede l'omicidio doveva apparire avvenuto dalle 7 e mezza alle 8 in quello spazio di tempo poiché la stanza dove stava il di Matteo era una stanza a B posti il di Matteo dormiva sotto la finestra vicino al termosifone e il demico davanti stavano giocando a carte il piano era già tutto fatto il medico si portò due corde e gli dissi pure portate la pistola e si portò quella sera una 7 e 65 perché l'attendennamento del capacotta l'incertezza del demico se partecipasse o no e il comportamento del catapano se in quel momento poteva prendere un'altra decisione e se in caso che tu vedi qualcosa che non quadro incominci a sparare su tutto e si capisce che l'omicidio spara su tutti coloro che si ribellano contro di te infatti andò tutto lì e il di Matteo è morto con il re di tenare in mano perché la mattina quando hanno preso tutta l'Europa queste carte me le portano a me e la vedo una carta unghiata proprio unghiata forte e gli dissi Marco ma questa carta mi spiegò tutto il fatto come si era svolto tutto normale e la carta che lui stava giocando a carta gli dissi guardi che cosa gli dissi questa espressione gli dissi non potendo dire che se la madre era morta con una carta così bella in mano che è accaduto l'orologio ora durante l'impiccagione poiché era un piacetta a batteria a batteria era come una centolire mi è stato sequestrato in una perquisizione per cortesia mi faccia mi faccia quando forniccio di lunediera lui stava sulla sezione stava l'ho visto stava a pochi passi dalla mia stanza perché dopo che il Di Matteo era stato impiccato dopo un quarto d'ora ancora uscì il demico e fece la sceneggiata si è impiccato il Di Matteo si è impiccato eccetera lui c'era lui venne lui c'era il brigadiere di servizio e mi ricordo che anche il Vito Pesce fu Vito Pesce a staccare il Di Matteo dalla corte e lì me lo raccontò lui con il coltemberino con la lametta come fece io ero gli da riusso anche un po' la cosa venne il medico che si simulava che il Di Matteo era vivo perché Marco Mette dietro la testa lo muoveva così che lo manteneva tutto veniva muo la testa il medico è vivo è vivo addirittura si era creata quella confusione che lui pronto a giurarlo no a calore era vivo ancora la quarta discezione confinta si era vivo era morto ma queste cose qua signor Presidente se io non ero di servizio come lui stesso sto riferendo come avrei potuto farle queste cose qua senti io le dirò anche questo quando ci torsero i vitti da mezzo dal ministero i vitti cotti i vitti cotti ci torsero ce li fece passare io mi devo discapare signor Presidente i vitti addirittura io mi devo discapare ci sta un contrasto enorme va beh non posso andare perché adesso chiedo scusa ma se mi lascia parlare si se no me ne devo andare poi questo purtroppo voi date anni di caverno non date caramelle volevo dire come lui stesso ha detto che io non ero di servizio no un attimo un attimo signor Presidente devo chiarire le brogliacce del servizio non le avevo io ma io devo chiarire come mi sono trovato là sopra io non sto negando ah prima non c'eravate ma io non sto negando io devo chiarire come sono arrivato là sopra va bene chiarisca io sono arrivato sul reparto comandato dal sostituto procuratore della repubblica non è vero è venuto dopo aspettile non è vero è venuto il sostituto procuratore ma se non mi so parlare io non posso parlare è venuto dopo un'oretta dopo un'oretta allora signor Presidente io questo che sto dicendo è cosa comandante io l'ho trovato all'ingresso dell'istituto perché io venivo da fuori non ero di servizio ero libero mi dicono a me io saluto il comandante saluto il magistrato con la mia educazione che ho sempre avuto mi dice a me il marescial guarda il brigadier vada su a dare una mano al brigadier di servizio si è impiccato di Matteo io dico marescial ma sto in borghese come faccio ad andare sopra dice vada vada non si preoccupa sono andato sopra in sezione ho visto i detenuti che stanno tutti quanti chiusi e ho chiesto al collega dico di cui ma che è successo dico guarda che si è impiccato di Matteo allora ho telefonato su giù al marescial dico marescial può venire con il sostituto procuratore è tutto a posto si è preso il morto dal letto no non è stato maestro io devo parlare l'ho fatto ma nel letto l'unico letto ha visto quello di terreno poi il di Matteo e basta signor Presidente si è preso il morto dal letto con le guardie e si è portato giù questa è la sopra io ci sono stato sulle pavimenti ma comandante al sostituto procuratore della coperta e dal marescial vedete volete vedere che tipo un attimo che lui sta il fatto dell'ora oggi è portato in giù volete vedere il fatto del procuratore che lui cita il fatto dell'ora oggi come lui ha detto che è stato per l'asera alle 8 l'asera oggi gli oggetti di valore quando detenuti viene suicida vengono presi e fatti i verbali sono state consegnate ai familiari lei ha fatto il verbale il comandante l'ha fatto no io perché non è nemmeno di servizio ma lei chiedo scusa la sera in cui è stato trovato ucciso Di Matteo secondo le più elementari di una matricola in giurisbile signor Presidente qua ci abbiamo l'intermissima andava sigillata la stanza del Di Matteo no la stanza questi sono problemi della direzione non sono problemi miei che non sono nemmeno di servizio quando ha detto poteva salire tutto a posto che ha voluto chiudere tutti lui già stava lui già stava prima che venisse il procuratore già da tre quarti d'ora un'ora sopra perché lei l'aveva visto l'ho visto con i miei occhi io vi ho citato un magistrato signor un magistrato io ci dava è che il morto dove fu appesa aveva delle salsicce delle salsicce morral che è stata di fronte alla mia disse dice a me ho fame la stessa salsicce e dice ti faccio non ci ho pensato in quel momento e la mattina signor Presidente un'altra cosa cosa che si può costatare la mattina del 20 del 20 tutta la roba del morto è stata data ai familiari solo i pigiami qualche vestito è tutto verbalizzato la mattina ci sono i verbali la mattina pandico tutta la roba più essenziale è l'orologio signor Presidente a questo punto per questo fattore di Matteo mi riserverò di rispondere all'altro pendito che mi accusa di Matteo al fattore di Matteo al fattore di Matteo specifico al fattore di Matteo mi riserverò a confronto con l'altro pendito perché l'altro pendito mi accuso passate parole passate parole che a me ripeto ci sono tutti gli incartamenti alla direzione sono tutti i verbali fatti che io non ero di me adesso c'è troppo il incartamento ma bisogna vedere quale vale a questo poi sta alla corte di stabilire quale è quello che vale e quello che non vale no io devo ancora contestare altre cose signor Presidente non mi ha risposto a me il fattore della multa sulla multa già risposto e vabbè purtroppo voi a me mi giudicate per gli anni di galera non mi giudicate per l'innocenza con decisione stas circostanze già risposto se non sa di più ma chiedo scusa mi deve le posso fare una domanda a lei signor Chiariello no io non l'accetto perché lei non dico potermi fare la domanda io mi devo solamente rispondere alle mie domande e basta chiudiamo il capitolo mezza domandina volevo farla e basta sei inerente al processo inerente al processo Gudro l'ha dato male dal scema su un processo a lei a me ci pensi le posso portare il naso perché le ha dato dello scema perché io mi sono sempre fatti i fatti miei no come no ha detto ha detto no chi ha detto chi ha detto ha detto sei un scema cumpà fatti no sei un scema che non sai difendere queste sono cose che si possono dire gli atti dell'altro processo ma su su un reggio dei porti ci l'ha chiamato cumpare e cumpare io mancano porti che non ti dava il terzo regalo queste sono altre calunie che sta cacciando altre calunie che sta cacciando è l'unico che perdiamo il tempo così e non ci stiamo vorrei ancora chiedere al pandico che ha dichiarato in quest'aula che avrei preso al direttore hanno forzato al direttore per farsi dare una lettera di D'Amico una lettera di dissociazione una cosa del genere che hanno forzato il direttore a farsi dare questa lettera il direttore ha dato a me questa lettera a me al maresciallo che poi abbiamo consegnato non è vero non è vero un attimo mi devo a parlare la lettera signor Presidente chiedo scusa a questa corte che cosa accade che dopo una quindicina a chi è stato dato la lettera il D'Amico Siso la dice che vuole collaborare con le forze dell'ordine stando all'oscuro di questo Bacchino Brigadino Brigadino ditemi portate questo direttore vabbè anziché di portare il direttore non l'avete portato signor Chiarino signor Presidente in aula signor Presidente da noi signor Presidente questo è stato riferito in aula che hanno forzato la mano del direttore a farci dare questa lettera ma quanto male poi negli interlocutori successivi ha fatto fare un gine norma speciale ha fatto fare un gine norma questa lettera per le mie mani voglio una cosa da dire ieri ieri al maresciallo quando gli ha contestato che lui pretendesse di essere chiamato per nome dalle guardie e chiamato per nome alle guardie ma è una barzelletta è una barzelletta all'altro processo al dottor Caracciolo come ha risposto con la mia domanda sì scherzavo ma è una barzelletta esenzione allora non è barzelletta esenzione un'altra cosa signor Presidente un'altra cosa signor Presidente se vuole confermarlo una sera ero di servizio mi fa chiamare dalla guardie di sezione voleva essere portato all'ospedale mi chiedo il motivo di essere portato all'ospedale dice che c'aveva la corrente addosso mi stava mandando al manicomio io col cercavase lo toccavo veramente c'aveva la corrente chiamo il medico e dice che non era di sua competenza faccio scendere il comandante perché è una barzelletta questo non lo so è arrivato un altro brigadiere è arrivato un altro brigadiere è una barzelletta forense è una barzelletta forense io cito il comandante e io chiamavo il brigadiere chiamavo il brigadiere per farmi portarlo all'ospedale testimoni ma signor Presidente questo non so barzelletta il maresciato comandante potevo fare cazze e cucchiare ma all'esterno non puoi facevo fa uscire oramai tutti i punti ci voleva il direttore ce ne sarebbero ancora signor Presidente ce ne sarebbero e poi vediamo e non diciamo in appello di valutarli in appello facciamo altri confruttos in appello anche ebbè non sappiamo che stavano in appello che è questo fa è l'occhio e qui te lo sta la sinara ma qui te lo sta dove sta e iam iam chiedo scusa dottor Sanzone io che si è messo i giochioli scusa voi me l'avete chiamato alle tre e lo so ma perché domani lei non viene sono tre ore di viaggio ma domani non viene lei eh sì neanche dopo domani meglio per la martedì martedì prossimo ma speriamo che non mi chiamano siccome l'altro è venuto con l'ambulanza quindi abbiamo evitato che tornassi ma speriamo che non si fanno i tarantelli tutti i barzoletti era quello più difficile questo lei risponde soltanto sui singoli elementi di contestazione senza ma chi lo vorrebbe intanto ormai già se l'ha detto tutto ma lei vede il fatto di eh vabbè lo so a novembre non ci arrivate figlioli carissimi calma calma a novembre con la scadenza non ci arrivate calma e che le sa no non sono un profeta leggo anche io qualche giornale i giornali sono abbastanza conformisti i giornali sapete danno vabbè noi cerchiamo il conto di coli vuoi vengono a caffi di barzoletta presidente chiedo scusa un attimo un momento solo avvocato facendo abbia facendo signor presidente in questo momento abbiamo visto che è passato un biglietto signor Pandico c'è un biglietto ma non è bello io non ho fotografito un trefunto ogni tanto me lo guardo a chi lo parla avvocato chi ha visto io in questo momento vedo che ci avete avuto chi è che ha passato il biglietto mi dica chi ha passato il biglietto avvocato chi ha passato il biglietto si assume la responsabilità presidente in questo momento ha consultato un biglietto avvocato ma che stanno gli stanno parlando con le ha mostrato un biglietto ha mostrato non è che ha passato il biglietto ha preso un biglietto e per favore ieri ha sentito la responsabilità di quello che dice avvocato ammettiamo a verbale allora l'avvocato mi sono riaffermati a questo punto chi è uno dei carabinieri no io ho detto chi ha passato il biglietto avvocato presidente avvocato sono tre carabinieri chi ha passato il biglietto io non ho detto chi ha passato nessun biglietto io stavo dicendo che il signor presidente volete scrivere quello che volete voi no quello che lei ha detto io sto dicendo presidente che lui prima che venisse la persona da interrogare ha estratto dal taschino un biglietto procuratore datemi atto che io vi ho pure guardato avvocato vi prego avete detto ha passato un biglietto per favore la registrazione è in grado di registrare un attimo quello che stavo detto qualche bingo fa un attimo solo però fermiamoci qua chiedo scusa no chiedo scusa io tengo un attimo sospendiamo un attimo vado a sentirmi la registrazione avvocato poi mettiamo per favore questo è un presidente io sto tutto qua andiamo avanti si può spegnere la registrazione ma non c'entra risulta è passato un biglietto e questo è il comico il carabinio non passa il biglietto vabbè mettiamo a verbale che l'avvocato non si provo dopo 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 risulta che è passato un biglietto i carabinieri non passano i biglietti e questa è la questione presidente ma io non mi sono permesso avvocato si accoputi per favore no presidente io ho il dovere adesso io ho il dovere di illustrare quello che è il mio pensiero e io non posso tollerare queste cose perché già ieri si è insinuato che si andava lì e si andava a prendere disposizioni adesso è passato il biglietto io questo non lo tolgo se devo pagare lo scotto di quello che è avvenuto stamattina allora vorrà dire che daremo di un'idea avvocato si accoputi per favore io sentito la registrazione lei mi ha affermato che ha detto il biglietto che era successo presidente io ho detto sta passando un biglietto quando Pandico ha estratto dal taschino il bigliettino io ho guardato il procuratore della Repubblica e ho detto e stavo guardando il procuratore perché pure lui aveva notato questo gesto avvocato si accoputi allora la registrazione è a disposizione di avvocati è passato un biglietto abbiamo il dovere di controllare io non guardo tutti gli avvocati comunque indipendentemente da questo chiedo scusa presidente è passato un biglietto questo risulta la registrazione è per soddisfazione l'avvocato si bisogna se vuole c'è la possibilità di sentirla quando vuole avvocato se potete riportarmi io chiedo che sia inserita verbale questa questa precedazione che cosa che è stato passato un biglietto non ho detto che è stato passato un biglietto io ho detto che è passato un biglietto dalla tasca dell'imputato non l'ha detto avvocato dalla tasca non è passato proprio niente ha detto che è passato un biglietto ma era questo che stavo dicendo no avvocato lei poi ha dato successivamente un chiarimento e comunque quello che risulterà anche dalla registrazione avvocato si assuma le sue responsabilità per favore Presidente ma io me le assumo le mie le ma non mi devo assumere le responsabilità che non devono andiamo avanti poi vediamo il biglietto che è passato non si preoccupi io dalla registrazione ricavo tutto potete portare la rettifica possiamo andare avanti Presidente io chiedo la rettifica di quello che ho detto e la parola eventualmente ha tradito il pensiero perché io ho detto va bene rettifichi pure avvocato che questa è la verità di cui tutti si accomodi la rettifica e venga l'altra Presidente chiedo scusa non è passato non è passato nessun biglietto la fotografia che il il Pantico ha tratto dalla tasca ma successivamente a tutte le contestazioni è la fotografia di un defunto e dietro c'è scritto soltanto il nome e cognome è praticamente un'immaginetta che ha tratto dalla tasca ma successivamente dopo le contestazioni dell'avvocato penso che non sia il caso di darne lettura penso che la possiamo restituire anche all'imputato no diamolo all'avvocato Visione in modo che può essere più tranquillo poi dopo sarà restituito allora è una fotografia no per favore avvocato queste cose qua non le posso portare è una fotografia di Francesco Francese nato il 29649 morto il 19482 è uscito dalla vita ma non dalla nostra vita come potremmo credere è morto colui che è tanto vivo nei nostri cuori requiem e c'è stata una specie di cicletta sotto che non so di chi è quindi penso che gliela possiamo restituire non lo so Pantico per piacere gliela possiamo restituire Presidente per me si è l'avvocato Visione non so se vi dire che quello è il biglietto che è passato allora allora si d'atto che dopo le contestazioni che hanno dato Luca l'interruzione Pantico ha estratto dal taschino al territorio sinistro della giacca una fotografia relativa a francese si ho fatto così calma calma a francese lui mi ha detto ha passato così calma poi non guardo sempre Pantico perché poi non è una perdita io non lo stavo guardando qualche volta guardo qualche volta no non l'avevo visto questo movimento comunque non è un problema francese come si chiama va beh mettiamo pure Francesco qual è l'annotazione che risulta te lo mettiamo e viene verbalizzato allora Pantico con calma dimentichiamoci dell'incidente allora questo signore qui lo conosce si chi è Vincenzo Andraus allora è camorrista questo signore camorrista mercenario mercenario vedete Andraus basta basta che cosa voleva dire Andraus anzi ho conosciuto anche un fratello suo che non è camorrista Marco Andraus allora che cosa voleva dire cose attinenti alla sua persona tutti i resti non ne cogedito forse si si volevo dire a Pantico che ieri ero qua in aula e ho sentito che ha detto a chi ti parlando di quelli che sono al braccetto delle vittime che hanno fatto io posso soltanto dire che è vero che come dice lui ho ucciso e sgossato la gente non dico mica di no e dico anche che tre anni e mezzo sono talmente evidenti non si può negare lasciami finire di parlare lasciami finire di parlare tre anni e mezzo che sono in quelle condizioni però ti posso dire anche una cosa che sono disposto a farne altri tre e mezzo per un profeta come te per un per un profeta come te no non sto minacciando tu hai minacciato ieri hai minacciato te ieri a questo punto Andraus se ne vada su non ho consentito minacciarti no no non ho minacciato anche se posso fare altri tre e mezzo non sto allora si calvi per favore che cosa gli vuole contestare vorrei sapere da Pandico quando sono stato federizzato e da chi lo ricorda questo questo è un mercenario della camorra è stato assortato sull'ovicinio Turatella su tanti altri fatti questo è stato uno addirittura sulla morte Turatello mi pare che il telegramma a lui le fu indrezzato o all'altro amico suo il telegramma da Davide Quenza che poi ci si è decaduto nella trappola con il telegramma da Ottaviano perché i telegrammi dei sentenzi di morte partivano da Davide Quenza tutti i restanti erano fasuli anche se erano in codice vabbè vabbè basta allora allora intanto la corte chiedo che siccome io ero nuoro sottoposto all'articolo 90 tutti i miei telegrammi erano fotocopiati vabbè perciò io non ho ricevuto mai nessun telegramma d'accordo con il signor Pandico non mi sono mai scritto e non ho mai ricevuto posto da Pandico se non sbaglio 5 milioni che ha detto basta guardare signori carissimi mi pare che consegnate se non vada errando una lettera del 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 carnefice qui presente ha detto lui non ha ucciso tanto non si può negare come anche io ho ucciso che ho ucciso sto pagando e pagherò del carnefice qui presente tra Marco è uno appartenente alla Nuova Camorra però cagiva sempre a colpa di denaro le ha detto 5 milioni dopo la morte Duratello dopo la morte Duratello ebbero anche 5 milioni loro vabbè vuole contestare qualche altra cosa dica Pandico ha detto che io dall'asinara ho scritto una lettera a Marco Meda no dall'asinara non ricordo da dove va bene da qualunque è all'asinara comunque io faccio presente della corte che sono stato all'asinara sei mesi completamente isolato giuridicamente per un altro omicidio successo ha già risposto non ricorda se dall'asinara no no ma glielo confermo io dall'asinara ricorda da dove l'ha scritta la lettera no ricordo il passo della lettera che devo fare un processo d'appello speriamo che esco così da altre facce queste cose qua stava senza scusi mi si descrive normale ecco appunto Pandico dice che io avrei chiesto dei soldi a Marco Medda perché ci ho scritto ti mando una lettera col bollo normale e non con l'espresso io faccio ancora prego la corte di interessarsi perché io proprio in quei giorni sul libretto del carcere avevo sei milioni e non avevo nessun motivo non è possibile no signore non è possibile perché quando vi pare a voi ci attacchiamo le cartuscelle che appendono il carcere quando non vi sembra a voi sei milioni non si possono tenere sul conto corrente comunque signor Presidente lei ha la facoltà all'articolo 90 non si possono tenere ero all'asinare e non al fraccetto ero all'asinare e non al fraccetto comunque lei sa di questi sei milioni io no 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 ma già vi faccio che non si possono tenere che nei speciali io prego la corte di interessarsi pura una certa cifra non si può tenere a disposizione questo è un altro come anche mi si dimita di spesa vorrei sapere Pandico dice che sono camorrista così ha detto ecco allora io ha detto che è mercenario 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 camorrista ma non vuol dire che sono camorrista mercenario questa è l'interpretazione che poi eventualmente questa è un problema giuridico più che un problema allora diciamolo facciamo finta che mercenario come dice Pandico vuol dire anche camorrista no 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 non facciamo questo va bene la domanda che deve fare deciderà la corte io ho detto mercenario che oggi la nuova camorra per dirle da 5 milioni uccide a Tizio domani Caio le dà 20 milioni uccide a Zimbronio allora andiamo quindi al migliore offerente e noi lo troviamo scatato per un mercenario dunque Sabino Faico chi è Sabino Faico ma scusi a lei che l'interessa ma a lei che l'interessa e allora non c'è problema Sabino Faico è stato ammazzato a San Vittore da fare un tonino se io nel gennaio febbraio 82 avete fatto la bravata grazie che allora dovete intervenire l'inicio grazie grazie avete fatto la bravata su quel ragazzo che cosa vuole sapere no no le faccio presente che questo Sabino Faico era dell'NCO io e Faro Antonino perché c'ero anch'io a San Vittore in quei giorni ammazzando Sabino Faico cosa ammazziamo un nostro pamorista ma signore questa è una lasciami finire chi è parlato di mercenari mi lasci finire lasciami finire chi è parlato di mercenari lasciami finire non mi mostro di essere un mercenario lasciami finire a tu l'atello contro l'NCO di un ucciso per denaro Sabino Faico un appartenente all'NCO assordati dalla mafia siciliana da Luciano Leggi uccidere a Faro uccidere a Sabino che cosa vuole sapere ecco il mercenario comunque questo è per Sabino Faico sempre dopo Sabino Faico Barra Pasquale Giginiello Riccio l'ha messo in quest'aula si isolavano carcere per carcere e queste due persone sappiamo che erano figliocci di Cutulo avevano paura di essere ammazzati sempre D'Andraus no è vero come l'ha messo in quest'aulaccio ho da precisare un attimo perché lei sta tirando le morte l'ho detto poc'anzi parliamo solo che bene l'ha tirata Sabino Faico in mezzo fu un diritto che è vero il fatto dell'isolamento del Barra e del Riccio però non deve parlare da quando è venuto l'isolamento del Barra e del Riccio è avvenuto l'isolamento del Barra dopo il 15 maggio 82 dopo il 15 maggio 82 quando è successo Sabino? sa chi? già l'ho detto quando è successo Sabino no no ma risulta dopo va bene altro cioè il 15 maggio 82 il Barra fu condannato a morte e da loro incominciò a isolarsi ma prima di quella data prima di quella data del 15 maggio 82 diciamo quello che è Barra ci avrà tutte le sue strambanerie tutte queste cose Barra vi ha fatto sempre isolare va bene altro Andraus sappiamo la questione come stai perché si sono isolati avanti quindi lo tiriamo in mezzo eh Barra cacciati di oggi d'accordo sì ha parlato prima dell'omicidio Turatello sì che in pratica io da buon mercenario avrei ammassato Turatello per conto di Futuro no? sì allora faccio presente che io sono accusato da Angelo Epaminonda Salvatore Parisi Francesco Miano superpentiti della mafia di avere ammazzato Turatello per conto di loro primo per conto di? di queste persone di questo Angelo Epaminonda che è mandante dell'omicidio Turatello però prima lasciami finire lasciami finire allora che dopo dopo dici particolari dopo queste persone dicono che io avrei ammazzato insieme a Faro Turatello per loro primo faccio presente leggo voi lo sa c'ho i mandati di cattura ah va bene io sono imputato per mafia in tutta Italia io sono imputato in permesso Italia per mandati di cattura di mafia i quali dicono che io e Faro sempre con Faro purtroppo sono testa di ponte in Milano e in Catania da prima dell'81 e dopo l'omicidio Turatello salito in gerarchia secondo queste persone perciò io mi chiedo sono camorista o mafioso e lo facciamo dire a panico ma lui può dire quello che sa lui è quello che vuole lui la valutazione non va fatta da lui signor lui riprende ha detto che Turatello lei le ho detto Turatello all'omicidio Turatello lei lo sa benissimo che i primi colpi ce li ha tirati Salvatore Maltese non è vero e l'ha riconosciuto anche qui per contezione non è vero ce l'ha tirato non è vero salvatore Maltese i primi colpi non è vero e mi pare o lei o un altro è stato ferito al braccio perché stava dando la seconda cortellata la cola sì ma questi sono particolari che non interessano per quanto riguarda lei se mafioso drangatista camorrista nappista brigadista sì sì è un mercenario non so camorrista no è camorrista se oggi serve a noi diamo questa cifra e ci serve è un mercenario se mi date il mercenario mi sta anche bene signor Presidente a me se lei mi date il mercenario che lo sia o non lo sia mi sta bene ma non camorrista ma non camorrista ma non camorrista lo dimostro la morte turatello è il cappino faro io sono di Catania due pari opposti lo dimostra da Catania a Napoli c'è di mezzo il mare signor Presidente uno stretto non mare ecco il mare ci sono tante cose ci sono tante cose ma mi pare che stanno andando sempre più in abita abbiamo capito c'è uno stretto non mare vogliamo sospendere un po' va bene allora Pandico vuole sospendere un po' no 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 si no no non se la vado a fumare ha scritto che è proibito fumare andiamo andiamo a fumare fuori allora sospettiamo 5 minuti vabbè dove volete voi noi ce ne andiamo a fumare a me l'indresso è proprio mi servava del microfono che lo sento l'abbiamo fatti tutti fa in giro delle aule delle gabbie com'è? benissimo allora Pandico possiamo restituire la fotografia di chi è francese Francesco possono portare lo successivo sta lì Pandico lei deve soltanto rispondere alle contestazioni e basta facciamo molto più presto è inutile girarci intorno tanto l'amai ha già parlato in abbondanza signor presidente per favore no no non perdiamo la cosa che servirebbe alla corte mi pare se non sbaglio Landraus ha detto che durante il periodo di quella lettera aveva sul suo conto corrente in caccia ammesso che sia vero 6 milioni ha detto 6 milioni si fa l'accertamento da dove proviamo questi 6 milioni ho capito la vedete hai chiesto scusi i Vidaliano chiedevano di non fare il confronto oggi perché no è perché se è possibile terminare con Pandico e non c'è il loro difensore 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 quindi di rinviarla a Marte ma tanto per Vidaliano non credo che sia necessario fare il confronto se non è necessario altrimenti mica ha detto che Vidaliano li conosceva lui ha detto che conosceva la famiglia Vidaliano per sentire lo dire mi pare o no? mi pare? non lo so non mi ricordo se non ce l'ho non sono 250 non ricordo allora signor Presidente volete dare atto cortesemente che sostituisco l'avvocato Trofino benissimo per Catanzarini Masetti Santini e Guarracino va bene mi ha dato incarico di questo allora Pandico c'è un altro imbutato qui presente che lei probabilmente conosce sì è vero chi è questo? è Valanzasca Renato di Maria allora Valanzasca Renato d'accordo? vabbè no devono mettere il nome su ogni verbale allora Valanzasca lei ha chiesto il confronto con Pandico che cosa vuole dire? lo dica eh signor Presidente siccome si rivolga a lui no 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 è una premessa che faccio al tribunale sentiamo eh dato che ho visto che c'era Vincenzo Andraus quello che è venuto precedentemente e praticamente è stata buttata in risso la cosa perché Vincenzo Andraus aveva parecchie contestazioni d'altre da fare al signor Pandico sì a questo punto dico se si vuole far parlare prima me o se diversamente vuole parlare il signor Pandico che però che nel suo non c'è bisogno che Pandico parli lei deve no no è d'accordo però se parlo avrei gradirei di non essere interrotto perché lui ha la sua buona abitudine ormai l'ha dimostrato reiteratamente che ha una domanda mette mille precisazioni mille ricordo mille puntualizzazioni quindi se mi si dà l'opportunità di parlare vorrei avere la compiacenza da parte della corte e del signor Pandico nel caso di la pregherei di farlo di azzittirlo di potermi far andare fino in fondo senza interruzione se è pertinente può anche andare avanti no 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 vediamo un po' che cosa gli deve contestare perché poi ben poco ha detto di lei eh? ben poco ha detto di lei ha detto le stesse cose più o meno che li guardavano si si ma ci sono cioè lui ha detto poche cose di me ma e sono tutte cose che sono contestabilissime vediamo quindi io a differenza io ho potuto avere questo pezzetto di carta mi sono scritto i punti propriamente per ricordarmi perché io non ho la memoria di picco della mirandola del signor Pandico e quindi per forza inevitabilmente mi devo prendere degli appunti facciamo così lei fa una domanda e Pandico risponde senza intervenire nella fratella eh buono perfetto si se pertinente si si no volevo precisare che la memoria del signor Pandico che nessuno gliela contenga lei non ce l'ha e va bene un attimo Presidente la prego è una vita che aspetto di parlare una volta che ce l'ho davanti mi faccia dire quello che devo dire ma non lo so Diego lo aiuta indiscutibilmente viene aiutato dalla sua forte memoria a cementare le tre verità che dice le dieci verità presunte alle alle trenta sentiti dire e alle cento enormi fesserie che io poi parlo per quello che mi riguarda degli altri non mi interessa non li calcolo ieri combinazione Presidente qua non è il fatto di dire che ho sentito prima la discussione ha passato il biglietto non ha passato il biglietto combinazione ieri avrete fatto una specie di sorteggio questo signore qua uno dietro l'altro non ha riconosciuto tre imputati una addirittura l'ha chiamato Turci invece di chiamarlo Chichi che è un personaggio abbastanza noto perché spesso e volentieri è tornato sulle pagine dei giornali e là si vede là si vede che uno lavora lavora così di memoria senza bigliettini sta facendo delle considerazioni invece l'avvocato sta parlando ma che non si era troppo considerata la cosa poi che cosa voleva contestare Valanzasca eh niente volevo dire che siccome Presidente il fatto stesso che io sia seduto qua per rispondere davanti a voi è il fatto che Pandigo ha raccontato una storia quantomeno credibile nel suo insieme e non voglio discutere appunto discuto per quella che è la mia parte però per quello che è la mia parte dico semplicemente una cosa che anche quello che potevano essere gente come Perrol che ha fatto le fiabe ha raccontato qualcosa anche al limite che c'era un fondo di verità e un qualcosa di socialmente corretto Pandigo non ha fatto altro che raccontare le stesse cose perché ha raccontato fiabe comunque veniamo al punto io me li devo parliamo della lite presunta che c'è stata si dice presunta fino a che non è stata accertata dunque il signor Pandigo dice non è assolutamente vero io non avevo sentito che il tribunale aveva disposto un determinato accertamento presso la casa circondariale di Ascoli Piceno allora io se ne vuole parlare lui perché diversamente io posso dire in quale situazione e perché è successo dunque allora parlo io signor Pandigo è logico allora la situazione è molto semplice e qua nessuno ancora ne ha accennato evidentemente o non se ne sono ricordati o non ne sono a conoscenza gli altri coimputati il signor Pandigo in una situazione che adesso non mi ricordo neanche più precisamente quale sia comunque era da poco venuto al piano di sopra si è andato a lamentare con Marco Medda perché in genere la banda Vallanzasca ma in particolare Renato Vallanzasca non aveva quel saluto cerimonioso che lui penso non so avrebbe preteso tengo a far presente che non era tanto una questione di indisposizioni proprio così di pelle del momento era il fatto stesso che lui parlasse e come lo dimostra parla tutti dando del voi io non sono meridionale sono nato al nord e sono quasi svizzero quindi mi trovo a disagio a parlare dando del voi alla gente e poi onestamente vederlo viaggiare con questa cartellina sotto il braccio come io l'ho visto ad Ascoli non mi era assolutamente simpatico e fatto sta che un giorno nel passeggio il giorno che si dice della discussione il signor Pandico in compagnia con Marco Medda io sono sceso al passeggio al pomeriggio non mi ricordo le date non sono bravo come lui e Marco Medda che è mio fratello tengo a precisare Marco Medda lo conosco il signor Pandico sì senz'altro era nato perché ha l'età del dattero però dico senz'altro non era nata neppure l'NCO perché io sto parlando del 66-67 mi ha chiamato e mi ha detto Renato vieni un attimo per favore ci siamo messi a camminare io il signor Pandico e visto che lo chiamo signore dico il signor Marco Medda e al che Medda mi ha detto ma Renato ma come mai dice questa è una brava persona dice è un amico vedi sta con noi insieme a noi quindi dice per quale motivo dico ma guarda che non c'è motivo un motivo personale c'è solamente una questione che lui per abitudine a tutti quanti e qui le ha dato riprovo a date il voi io parlando con gente come Cutolo che magari mi risultava così qualcosa più di lui dovesse contare gli ho sempre dato del tu mi riesce persino difficile dare del lei alla corte per intendersi propriamente per una mia concezione di modo di rapporto di vivere al che lui ha cominciato dice vabbè ma voi siete giovani non avete comunque se è per questo per togliervi dall'imbarazzo possiamo anche darci del tu però se aveste avuto e praticamente mi voleva dare una lezione di vita al che siccome io ricordavo un fatto che il signor Danè Daniele Lattanzio un altro mio fratello che qua ovviamente non è imputato mi ha detto dice mi aveva detto in precedenza ma chi è questo qua non è quello che ha fatto la denuncia a Volterra nei confronti di una tv privata perché trasmettevi i pornografici al che questo è andato avanti un po' a farmi la sua morale per il fatto che dava del voi che non voleva essere un segno di distacco ma anzi un senso di rispetto ti ho detto ma senti un po' ma dico paesà dico ma vai avanti a ungere dico parliamoci di chi ma tu non sei mica quell'elemento che si è permesso di denunciare le tv private perché trasmettevano i pornografici a Volterra prima se l'è negata ha detto non è vero poi gli ho detto guarda che qua c'è gente che era con te o quantomeno che c'è stato poco dopo che ci sei stato tu tipo Daniele Lattanzio che era andato per un processo e c'era quel gran cornuto di pandigo voce di detenuti di Volterra che ha fatto la denuncia al non so se sia il pretore che si si va a fare una determinata denuncia scusa per favore no deve dire se sono voce o fatti certi perché io volevo dire un po' più corretto nei confronti della sono voce o fatti certi perché io devo contestare questo fatto non ho capito non mi sembra di aver offeso nessuno lo sto chiamando signor bandico sono voce o fatti certi quindi se vuole fare un confronto si si ma io sto semplicemente esponendo esponendo dei dati di fatto mi sta ricordando Pasolini allora vabbè ma sono tutte rettoriche le tue mi fai venire di parlare a questo punto intervenuto dice esatto e dirò una cosa lui mi dice è stata fatta una denuncia questo le chiede un momento sto dicendo lui mi ha posto una domanda alla mia domanda mi ha posto la sua dicendo sono veri sono fatti certi o sono voci io non so se siano voci io non ho vista certo la denuncia un fatto un fatto un fatto sono dichiarazioni che sta facendo sto parlando sono dichiarazioni non genusciamo chi sente male chi vede storto qua sono dichiarazioni signor Balanzasco lei fa parte di quella banda questa è un uomo di tratturale non è un cacchiericcio di caso se vuole rispondere il proposito risponda altrimenti se ne può andare ma qui bisogna per forza farli così insomma se parlo non va bene sono stato ditto bisogna fare le contestazioni lei su quelle deve rispondere è inutile io devo rispondere lui a me mi ha posto una domanda sulla mia domanda questo sta giocando a questo gioco da quando è iniziato questo processo lui mi ha chiesto sono vero io la denuncia non l'ho vista lui con me però ha confermato prima dicendomi non è vero poi ha detto beh ma lì era una cosa veramente sconcia si vedevano cose assurde atroci al che io a Marco Medda mi sono rivolto con questi termini questo è un gran scusando il termine è un gran pezzo di merda e gli ho detto va bene Marco Medda dicendo e quando lo sarà un domani mi dovrei dare ragione questo è stato il mio primo ed unico rapporto diretto con il signor il signor il signor il presidente quasi sta dando politicamente il fornuto dal pezzo di merda non abbia pazienza io le devo raccontare fermiamoci un attimo a questo punto perché lei e il caro Valanzasca andrà avanti fino all'infinito con queste barzolette alla milanese per quanto riguarda il rapporto che lui ha detto in Ascoli Picene che da parte mia c'è stata una particolare differenza da avvicinarle è vero perché perché Gudlo mi parlò del suo trascorso quale di tossico dipendente del suo e di Marco Medda e che Marco Medda riuscì nel 1976 nel braccetto del manicomio di Sant'Effro ma a legalizzarsi e a disintossicarsi poiché io lo vedevo sempre nel passeggio un tipo stravagante che andava sempre in cilio spesse volte che portavo questo gioppino a macchiare perché da lontano si vedeva e io gli dissi a Gudlo non presentiamo ma andiamoci un po' piano e mette più di una volta vedi che è renato così anzi è la stessa diffidenza nei miei nei suoi confronti l'aveva anche il compiante Albert Bergamelli che voi stavate di cielo e di fronte e non vi parlavate neanche perché Bergamelli ormai si fece un quadro della figura sguattera e c'è allora qual era e io con Gudlo e sentiamoci un po' piano è un giorno durante i passeggi non so perché lui ha parlato nel fervore del suo ragionamento ha parlato di lite non è vero non c'è stata mai una lite da Scrupicetti c'è stato uno schiaffo e uno schiaffo non vuol dire una lite Gudlo gli trova uno schiaffo che poi immediatamente l'idea voleva dargli un altro schiaffo non so se lo raggiungo su quello schiaffo un certo progettandori un ex affiliato di cartucci che poi passò con noi e Gudlo richiamò aspramente a questo progett gli disse guarda nelle mie faccende non devi metterci naso apposto quindi fu un giorno che il Gudlo disse lo voglio osservare ancora non voglio ancora averci contatto voglio vedere ancora questo bel René questo René chi è e un giorno mi dice che la parola quando me lo presento Cutolo uno dei tanti imbecilli io gli dissi questa è la parola lui dissi e voi sarete quel Valanzasca proprio questo cioè che lui non lo ha capito che gli volevo dire sul fatto è tutto l'opposto da quella figura di cartapesta che la fretta delle rotative o gli schiempi delle imprecisioni della stampa aveva costruito in sostanza era una botte vuota e infatti dopo un paio di giorni da questo dialogo così che si manteneva più o meno di carattere generico lui faceva circolare eccitetti se lei lo nega le posso anche dimostrarla poi delle fotografie della moglie addirittura nude che giravano in un stretto giro dei gutoliani fatte nella vasca da bagno fatte nel salotto fatte così e da là addirittura a quale dice ma chi mi vai a presentare per quanto riguarda signore un attimo per quanto riguarda la denuncia che loro vogliono vedete c'è il stefan cosa la checca lui non lo voglio offendere vedete Paolo ricamorrista una giornata da tutto del signore si chiama il signore tra di loro belle borse nel corso istruttore dichiarato voi si vede tutti i processi di camorra mi è accaduto sti fatti sembra ora nel corso istruttore dichiarato pian piano la camorra uscita dalla sfera gutoliana stai entrando in un'altra sfera senza fare insinuazione pian piano vuole un po' spolverarsi da questo fardello di tirato di cortello e anche lui nessun discorso mi ha dato dal pederasta mi ha chiamato cornuto mi ha chiamato ha cercato no io ripetisco ancora una volta confermo testualmente quando dichiarato nei confronti di questo verme perché è stato sempre un verme così l'ho considerata da scolipiceno chiedo scusa ma l'ha sollecitata ma l'ha sollecitata perché nel suo discorsetto una volta mi ha dato il cornuto per quanto riguarda il fatto di porterra che lui dice i fatti dei panografici qualcuno lo sa se sono avanti dei panografici o no qualcuno lo sa si può prendere indagini signori della corte addirittura stiamo ad asco di dicere che i fatti dei panografici si mettono in scopo ora andava a denunciare se mettendo in privato che premetto un particolare premetto un particolare che io l'ho notato questo fattore e i signori più informati me ne possono notare altro che tutte le tv private che trasmettono un film un po' spinto tolgono la sigla quindi a un certo punto dopo la mezzanotte ad asco di dicere dovevamo noi c'erano dei canali che a un certo punto se quel canale veniva firmato per di un ipotesi non si sapeva quale remittente privato che trasmetteva quel film non l'ho mai denunciato non l'avete mai denunciato ma 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 anzi poi chi ha dichiarato ha risposto se volete poi chi ha dichiarato che io ho denunciato allora andiamo facciamo una ma ma e la denuncia deve essere faccio attraverso il modello 2013 o attraverso la procura di Volterra di Pisa di Livorno non l'ha mai denunciato mai mai neanche neanche reclamato presidente faccio solo presente una cosa che a me dal momento che sono stato seduto mi è stato detto di essere conciso preciso e di porre delle domande a questo signore è stato permesso di fare una diatriba di offendermi per 20 minuti ma lei non è stato anche da fatto conciso e quindi ha parlato in abbondanza e ha risposto come bene bene allora dico ma siccome faccia la domanda domanda e risposta forse perfetto allora a parte che qua sempre il signor Pandico anche nei miei confronti continua a menzionare ogni tre minuti ma questo è nei confronti un po' di tutti di Marco Meda quindi se non sbaglio pure questo Marco Meda avrebbe pure legalizzato me alla Camorro lei mi deve opporre la domanda chiedo allora in quale situazione chi sarebbe la persona che mi ha legalizzato va bene senta signor Presidente mi scuso un attimo non si dimentica il termine fratelli e non si dimentica il termine la banda valanzasca cioè non si dimentica questi due termini che lui ha no no non ce lo dimentichiamo è la banda valanzasca la banda valanzasca fu assorbita già lo ha detto il risultore Pantico forza altra domanda sì sì dunque il signor Pantico parla di un una mia traduzione a Trani nella quale io insistei per rimanere isolato in base a una lite con bellicini queste sono parole sue e siccome lui ci avvale sempre di fare indagini io non ho bisogno di indagini basta che pigliate le registrazioni posso che cosa gli vuole dire no non puoi scusa una volta per uno sto parlando con gli uomini aspetta sì signora comunque volevo semplicemente chiedere questo se ribadesce che io a Trani avrei chiesto di rimanere isolato per non dovermi incontrare perché a Trani dovevano ammazzarmi e compagnia bella allora risulta che a Trani hai chiesto di essere isolato per evitare incontri e per evitare perché ricordo che prima che egli partesse per Trani venne a salutarci io gli regalai pure non so se è una scatola ho un po' di scatola di sigari vi il diavane questa roba qua e lui disse queste testuali frasi stavano a mio accuto disse Raffaele se io devo morire posso morire anche qua non a Trani poiché l'imbasciata a Trani era già stata mandata doveva ucciderlo Walter Senatore Raffaele Catapano e Sandro Fusco immediatamente mandammo un contrordine di annullare tutto però lui da buon polpicello così arrivò là chiese l'isolamento che infatti lui chiese l'isolamento quando giunse a casa ha risposto no a questo punto Presidente io chiedo che la Corte si accerti presso un fonogramma del Ministero un fonogramma del Ministero in cui ordinava non a Vallanzasca ma a tutti gli accoliti cosiddetti della banda Vallanzasca che dovevano recarsi giù per un processo di rimanere assolutamente isolati e quindi qua si parla di un fatto di carcere e può anche star bene quello che dice il signor Pandico a tuo favore però ha la stessa stregua ma ti fa riferimento però a questo fonogramma dico che voi dobbiate fare accertamenti e chiedere al Ministero se ha mai mandato un fonogramma ad Ascoli Piceno un fonogramma a Trani io personalmente ho letto una parte del fonogramma di Trani perché alle celle io e Cocchius Rossano abbiamo bruciato la cella non abbiamo bruciato la cella un momento ci è stato dato un fornello abbiamo messo i pagliericci davanti al cancello per bruciare la cella perché volevamo andare in sezione a che il maresciallo che non ci voleva ricevere ci ha chiamato entrambi nel suo ufficio ha detto sentite io a questo punto non sono il comandante del carcere perché non c'è il direttore non c'è ci sono io non so se fosse vero o meno ha detto questo è il fonogramma l'ultima parte dato che rientra in quelli che sono i motivi di sicurezza non ve li posso far leggere legga questo fonogramma firmato dal ministero se fosse falso non lo so altro fatto sempre in quella circostanza che lui mi parla di altra gente mi parla di Catapano o Compagnia Bella io non so nemmeno se fossero là comunque una cosa è certa che là c'era ed è insindacabile c'era Vincenzo Andraos Franco Rivellini che sono miei fratelli che di sopra in sezione hanno fatto casino per farmi salire a me ha chiamato il maresciallo ha chiamato noi e il maresciallo ha chiamato Andraos basta accertarvi e dal ministero e dalla direzione io questo non è questione per non fare brutta figura come Pandigo tenta di screditare chiunque perché chiunque butta fango addosso sto dicendo semplicemente per dimostrare e che il signor Pandigo non sa scusa per favore se vuoi una fango quella che avete asseminato non fa assolutamente non fa assolutamente non dice assolutamente vero e lui raccatta dei pezzi delle verità insondabili il fatto che io sono stato a Trani è vero e non si discute il fatto che a me non vi abbiano messo in sezione non si discute neppure quello perché è un dato di fatto e lui non l'ha saputo altrimenti l'ha saputo da me quando sono non a lui perché lui non avrebbe detto niente perché mi rappresentava meno che il 2 di picche però sto dicendo io tornando da Trani parlai con Medda che torna a ripetere mio fratello con Vito Pesce che oggi come oggi da lui sono accusati per essere facenti parte della NCO e a me non me ne fotte niente comunque dico io con loro parlai mi immagino quindi che lui sia venuto a conoscenza che io fossi stato alle celle però per stabilire se è vero o meno che io ho chiesto di stare alle celle basta vedere se c'è questo fonogramma e non solo per la permanenza nel carcere ma addirittura partimmo in due con due furgoni blindati da Ascoli Piceno e due furgoni blindati a tornare indietro tutti e due su un furgone con un altro furgone vuoto colmo di carabinieri con due auto civetta quindi questo mi fa supporre che a Vallanzasca non lo volessero ammazzare nel carcere ma ci fosse qualcosa eventualmente che non doveva essere un qualcosa che aveva a che vedere con la vita di Vallanzasca ma magari pensavano queste sono le parole visto che spesso lui parla di Ascoli e del direttore di Ascoli Piceno quando sono tornato fa Renato se arrivano le telefonate anonime che tu devi evadere in traduzione è normale che ti portino così quindi per quello che per me che mi risulta che ho sentito e qua non spendo la parola come la spende lui a me risulta e mi è stato detto e per quello che ho potuto leggere io che io dovevo rimanere isolato non certo per i motivi che dice lui ma per altri motivi ma non c'è bisogno di interpellare Pandico non c'è bisogno di interpellare Pandico se noi chiederemo informazioni perfetto vado avanti traduzione con i due furgoni passiamo alla discussione con Bellicini la discussione no no quella con Bellicini dice che l'ho messa in ginocchio Presidente qua non è la sua la sua l'abbiamo già l'abbiamo già scavalcata dunque chiedo scusa potrei rispondere a questa parte chiederemo noi informazioni al ministero circa queste no no il fatto del fonogramma il fonogramma mica lo fa lei no subendo un particolare vostra grazia Presidente ci mancavano i particolari mi pare mi pare di aver detto durante le mie deposizioni di Camorra voi estranei ne capirete qualche cosa tradiziale il fatto del fonogramma è vero perché perché prima di questo fonogramma ci giunse una lettera ad Ascoli Piceno una lettera scritta da Turatello di cui in questa lettera diceva nella maniera molto generica parteva dal carcere non mi ricordo se era da Cunio o da Nuoro se potete salvare questo ragazzo è un bravo ragazzo la direzione del carcere di dove partiva questa lettera era indirizzata a Marco Metta non sapeva di chi si trattava quel ragazzo per segnalarlo al ministero per segnalarlo al ministero e non poteva trasferire tutto il carcere fece una fotocopia della lettera la mandò al direttore del carcere di Ascoli Piceno il direttore del carcere di Ascoli Piceno chiamò Cutolo chiamò Metta e chiamò P dopo tanta stava cercando di farvi di non farvi sapere questo ragazzo chi è va Cutolo e glielo dice e nello stesso tempo gli dice è nato Cornuto che appartiene a questo qua ed allora quando lui è arrivato al carcere di Trani non è vero che ha incendiato la cella per salire l'ha incendiato per paura che attraverso qualche intrallazzo nostro lo potevamo portare in mezzo a un punto molto più migliore il telegramma c'è stato perché era un isolamento che lui ha chiesto come si dice non ti chiamo buttare perché mi denunci però e c'era questo fatto sotto verso la banda da Valanzasca che poi seppe il ministerio chi era il nome del detenuto lui isolò e tutto uno che appartiene anzi addirittura era suo cognato era suo cognato chi è suo cognato? e lui lo sa benissimo perché bisogna mi scusi e lui lo sa benissimo perché lui fa figlio di NN perché è una tribuna un po' impastata a noi ci risultava suo cognato lei lo sa benissimo non lo so io non ho cognati se me ne vuoi trovare qualche fratello fratello sorella a noi ci risultava come cognato ma a te ti risultano tante cose questo processo quello che è stato ucciso al carcere di di Pisa da Raffaele Gadapola ah è Claudio Gatti è un mio amico ero un mio amico a noi ci risultava il tuo cognato beh vabbè ma quello che ti risulta a te ti dimostra che quante cose ti risultano non si può dimostrare neanche la paternità ora figuriamoci cognati ha spiegato un modo suo credo che è il motivo dell'afferogramma no no presidente ha parlato di mio cognato questo qui come se io fossi pieno di cognati ma non ci interessa il fatto del cognato era una conoscenza mia andiamo avanti no presidente non interessa mi sembra che sorvogliamo quando questo dice una cosa inesatta non la si prende in considerazione come lo si prende in considerazione che cosa vuole condividere boh basta non parlo più non dico più niente apposto 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 non mi permetto di andare oltre perfetto veniamo alla discussione con Bellicini visto che io ero già passata la domanda e Pandico ha voluto fare una precisazione dunque a parte di questa discussione di questa discussione con Bellicini sembra insomma da tutte le carte che anche se io non ho letto il fascicolo che mi riguarda io ne ho sentito solamente parlare da Pandico in questi termini io questa discussione non l'ho mai avuta non mi risulta che Bellicini abbia mai fatto una dichiarazione del genere non mi risulta che tutta questa gente di cui avrebbe dovuto essere presente perché se non sbaglio lui dice che dovrebbe essere successa nel campo sportivo sbaglio? sì a posto a posto ecco quindi dato che al campo sportivo non ci andavamo a giocare gli Bellicini a pallone ma ci sarebbe stata giù tanta altra gente tra i quali vari pentiti d'amico e compagnia bella che però non menzionano questa lite saranno di memoria corta non a differenza di Pandico fatto sta di questa discussione io lo sono venuto a sapere da Pandico e una cosa in più ho voluto ho chiesto all'avvocato che chiedesse il verbale di Bellicini solamente per vedere se quest'altro era diventato talmente matto dato che questo se non è stato mio compare d'anello come lo stato Turatello era uno che era perché c'era è venuta mia suocera e la nonna di mia moglie perché diversamente lui e Albert Bergamelli che anche dice che Albert Bergamelli aveva una determinata considerazione di me Albert Bergamelli e Lino Bellicini avrebbero dovuto essermi con pari d'anello se non a me a mia moglie se non che all'ultimo momento mia suocera che era contraria al matrimonio si è convinta a ormai cosa diciamo cosa fatta o quasi il giorno del matrimonio mi sono visto arrivare mia suocera e la nonna di mia moglie al che dice guarda dice Renato mi ha detto mia moglie i testimoni per me lo faccio fare ovviamente a mia madre mia nonna quindi questo qui con Bellicini non ho mai avuto discussione non c'era motivo di avere discussione di tutte queste ragioni che ci sarebbero dovute essere non sussistono perché torno a ripetere il fonogramma dell'isolamento era dal ministero non era certo né partito né da me né tantomeno da Pandigo da Bellicini comunque si sta parlando appunto di questa anche perché non è tanto importante la discussione avvenuta non è avvenuta che al limite anche quando abbiamo trovato che invece di discuterci Vallanzasca ci avrebbe discusso perché sarebbe capace anche di fare tipo i giochi di prestigio di dire non era Vallanzasca c'è andato Coccis che era il suo il suo braccio destro per così via che braccia destra ne ha solamente Cutolo perché Cutolo è pieno di braccia destra Vallanzasca ce ne ha due e basta e gli sono sufficienti comunque dico si parla di questo solamente per arrivare a una discussione che ci sarebbe stata susseguentemente e in cui un certo Piancone avrebbe accoltellato un certo rovina confondendolo per il signor Bellicini allora mi spiace che questi due signori non siano in aula perché l'unica cosa che potevano avere in comune forse è solamente quello di essere maschi registrati all'anagrafe anche perché Bellicini è un elemento che è alto che è alto è un metro no ma non c'è problema come può sfogliare quello che vuole io parlo solamente di dati di fatto il signor Bellicini è circa alto un metro 80 un metro 85 è un ragazzo che pesa un quintale il signor rovina forse forse sarà alto qualcosa di meno non lo so comunque è un uomo che quando pesa tanto pesa 50 kg solamente a lui può venire in mente di dichiarare che il tizio si era confuso i due elementi i due elementi erano nello stesso piano lavoravano entrambi in cucina si conoscevano mangiavano assieme e hanno avuto da dire in cucina in cucina ma non lo sto dicendo io questo è lo stesso biancurre che lo scrive ma lei già ha risposto pure ieri non andiamo a finire è lo stesso biancurre che lo dice questo dopo mi risponde ha detto per il suo rapporto con la Bergamella dopo mi risponde è l'ottimale no io ho una lettera del morto mi faccio come la qualifica dopo ti do il microfono almeno parli con due dico lui ha semplicemente detto che in seguito alla discussione avvenuta tra me e Bellicini questo biancurre sarebbe stato incaricato dalla NCO di accoltellare questa rovina a questo punto chiedo se il signor Pandico conferma questo questo fatto questa cosa che lui ha dichiarato ma Presidente la pregherai una cosa siccome a questa c'è susseguente un'altra domanda che è attinente di dire sì no di dire sì o no perché magari ce la rimangia però di non dilungarsi com'è che va a trovare io non vengo qua né per mangiare né per rimangare va beh faccia lei la domanda la domanda l'ho fatta la domanda Presidente gliela rifaccio in sostanza abbiamo fatto tutta questa tarantella in sostanza qual è? se biancur ha accoltellato rovina convinto che fosse albera bergamelli si o no questo vuole sapere poi l'hai scritto il biancur se il biancur ha accoltellato il rovina convinto si bellicini perdona bergamelli non c'entra niente è morto in un'altra situazione si allora con te allora con te altra domanda si si ho capito allora a questo punto c'è un discorso molto semplice se noi andiamo a prendere un no 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 Presidente io gli sto facendo allora gliene faccio subito un'altra di domanda chi avrebbe ordinato a biancur di accoltellare bellicini da tenere presente che quando è successo il fatto come oggi il fatto delle docce è successo che solo ed esclusivamente c'era gente della NCO nuova camara organizzata no 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 Presidente potrete andare a chiamami Giovanni è la stessa cosa quindi qual è la domanda sto dicendo se mi interrompe sto dicendo la Presidente lui ha dichiarato questo e in questo frangente faccia la domanda nella sezione di sopra lo potrete constatare c'erano solo ed esclusivamente elementi della NCO quando è avvenuta questa presunta discussione fra me e Lino Bellicini e c'è un particolare lui se ne ricorda tanti o me ne ricordo uno in seguito a determinate discussioni il campo è stato tolto e quindi non ci saremmo più potuti incontrare quando loro non c'erano più perché quando loro sono andati via dopo il famoso blitz che hanno trasferito a Cutole hanno trasferito a tutti loro il campo di calcio non l'hanno più consentito ma posso parlare o deve parlare lui è stato tolto il campo di calcio a questo punto quando loro sono partiti noi al campo di calcio non potevamo più andarci quindi io discussioni con Bellicini non potevo più farne se la discussione è avvenuta deve essere avvenuta quando loro ancora erano lì poi mi parla di Piancourt che a coltella a coltella rovina questo tizio confondendolo per Bellicini però me ne parla e questo fatto succede tre, quattro, cinque mesi dopo quando non c'è più nessuno della NCO ma c'è solo ed esclusivamente gente della nuova famiglia adesso dico mi chiedo primo chi gli ha dato quest'ordine a questo signore da ammazzare secondariamente se questo era talmente pazzo visto che era già faceva parte della NCO a suo dire di ammazzare di accoltellare uno alle docce che poi ci sarà magari qualcun altro che era presente al fatto e verrà poi a parlare del fatto se lui era talmente pazzo questo tizio di ammazzare uno per la NCO sapendo che in quel momento non c'era Necutolo non c'era nel padrino Pandico non c'era più nessuno non c'era Marco Medda non c'era Vito Pesce non c'era Maria Storina non c'era tutti quelli da lui innumerati come gente della NCO non c'era più nessuno quindi volevo chiedere volevo chiedere ecco la domanda ha limite ad essere concisa chiedo chi avrebbe dato quest'ordine chi avrebbe dato quest'ordine a Piancù e se Piancù lo repita così pazzo diciamo così andiamo un po' piano piano no 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 voglio riuscire no 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 per cortesia chi ha dato l'ordine e come mai siamo buoni ma non fessi lui ha detto che il suo rapporto con Alberto Bergamele era abbastanza febrio ma Presidente scusi io ho fatto una domanda precisa non può questo particolare questo c'ha l'abitudine di raccontare ma questo mi racconta la mia crescita e la mia comunione io ti mostro una lettera di Alberto Bergamele e che è successo ma io dico un certo punto saluto tutti gli amici e lui mi dice non l'ho dato a nessuno perché nessuno è degno di questo tuo saluto anzi e molti amici stanno tenendo le mie distanze da me sapendo il rapporto che c'è con me e con Raffaele qua c'è la lettera del morto quando lui fa riferimento poi al fatto che stava a Biancura da Scolo Piceno il campo se lei ben si ricorda egregio signor Valanzasca non venne chiuso dopo la nostra partenza no venne chiuso per l'esattezza quando i carabinieri fecero la perquisizione e trovarono in Ascoli le pistole e tutt'altra roba e là si presumiva che veniva nascosta che poi infatti era vero nel campo sportivo sotto il terreno per quanto riguarda che diceva ad Ascoli Piceno c'era solo Biancur lei si e nel vabbè lui vuole sapere chi ha dato l'ordine c'era ad Ascoli Piceno in quel pezzo chi ha dato l'ordine questo vuole sapere l'ordine l'ordine è partito da da Cutolo partì e come è partito ma partito come partito tutti gli altri ordini in codice da dove eh ma attraverso i colloqui da Ascoli Piceno da dalla Sinara attraverso i colloqui con la nipote e a via di seguito l'ordine è partita là che poi il Biancur a un certo punto quando gli dette le cortellate perché doveva fare a Pedicini per causa del fatto che lui quando venne dal carcere di Trani che andò per un atto di giustizia gli domandammo a lui come venne a sapere di questa sua condanna a morte e lui disse me l'ha detto Matteo Pedicini allora si fa questa decisione di far fare un confronto a tutte e due lui lui non accetta questo confronto e allora dice se tu non accetti questo confronto devi darci la prova che veramente non l'hai detto devi uccidere a Pedicini era un mezzo che entrava accendevi il manzanastro lo metteva ad alta voce c'era qualcosa in pentola doveva dire qualcosa una certa profase c'è ti vedi che fra poco vada a nascere la criatura c'è che cos'è c'è che lo fate come parlate così così Valanzasco si ha pigliato l'impegno di cacciare a Pedicini va bene basta ma è solo fallarme non si sente il suo fatto non succede viene sopra e mi pare che riferisce prima che aggiunsesse lui Marco Metti che a questo Pedicini lui non l'ha più ucciso perché si è rincenocchiato ai suoi piedi a queste cose qua ecco il cutro anzi si commenta la cosa il solito basta il letto fa il fatto che lui sta dicendo della quando è quando è ritornato appena due o tre giorni dopo neanche è tornato da Trani ritornando da Trani fu fatto questo fatto con il Moffio Pedicini il fatto che ad Ascoli Piceno dopo che siamo partiti tutti i cutoliani sono rimasti i cutoliani è rimasto Biancourt è rimasto Nello Bruno signore si può constatare Nello Bruno stava là è passato è rimasto è rimasto è rimasto Stefan Cosa è rimasto Maria Storina vabbè l'ha detto pure ieri questo addirittura che la tua famiglia non sapevano che erano cutoliani che lavoravano in quel piano dei cutoliani vabbè l'ha detto a Giri Presidente però forse non ci siamo capiti qua ancora non mi ha spiegato una cosa questa gente si permetteva di mandare sentenze di morti in giro per mezzo Italia questo signore mi ha detto che visto che io non ho avuto le sfere per poter ammazzare Bellicini perché questo ha detto questo signore però visto che Bellicini bene o male aveva torto questo se non sbaglio hai detto a questo punto loro hanno detto o lo ammazzi tu o lo ammazziamo noi allora a questo punto mi deve spiegare perché non ho detto questo allora Presidente io aspettavo questo qui è un farlotto questo 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 è lei risposta no al confronto non lo voglio fare Presidente Presidente a questo punto allora l'istanza la farò fare dall'avvocato perché sarà più ascoltato di me non c'è altro siccome io non c'ho un buon udito però quello che mi riguarda lo sento molto bene mi registro ogni parola a picco della mirandola ditegli di andare a sentire quello che lui ha dichiarato nella situazione nella circostanza parlando di Vallanzasca parlando di Maffeo Bellicini parlando di questo fatto lui ha detto testuali parole se tu vai a fare il confronto a me manco fosse stato il pubblico ministero tu vai a fare il confronto se nel confronto ne esci vincente cioè che lui ammette di averti detto certe cose lo ammazziamo noi diversamente lo devi ammazzare tu quindi non l'avrebbe ammazzato lui perché andando giù Bellicini avrebbe ammesso di avermi detto determinate cose a questo punto toccava l'ora ad ammazzarlo no no Presidente sto dicendo semplicemente che vi dovete andare a sentire quello che lui ha detto per me possiamo anche chiudere il discorso dico semplicemente che a distanza di 4 mesi questo era vive il vegeto quando fu questa questione si chiedeva il confronto perché lui ci disse chi gliel'aveva detto noi chiesimo e lui disse Pedicini eh disse ma loro lo chiamiamo a questo facciamo un go perché Pedicini senza altro lui disse no allora faccia una cosa tu vai là al passeggio lui andò al passeggio al campo meglio dire neanche al passeggio al campo era questa questa questione ma scusa questo primo dopo la partenza no Presidente ritornando da Trania ritornando da Trania e lui si prese l'impegno che se il Pedicini non accettasse la cosa l'avrebbe ucciso che a un certo punto il Pedicini si incinocchiola gli dice perdoni ci ho sbagliato non lo faccio più queste cose qua venne sopra quando venne Medda che poi ce lo confermò anche lui disse quello mi ha fatto pietà ecco perché non l'ho ucciso che come mai sto ordine in ritardo Presidente se al momento la valutazione che dobbiamo fare se al momento era passata l'hanno perdonato stai risparrendo i fatti come sono andato e noi Presidente tra noi una valutazione apposta va bene quindi venne Medda venne Medda e ci dice aveva chiesto perdono cioè non sentimo l'allardo e ci dice questo così va bene può andare Valanzasca ha ancora da fare hai detto che non avevi volta da dire no io io no Presidente c'ho ancora qualcosa da dire perché ne ha dette tante di cose sto signore dunque qua faccia la domanda però si 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 sto chiedendo qui io mi trovo imputato con la NCO e ho già detto che sono quasi svizzero in cella con me ad Ascoli Piceno c'era Coccis Rossano mio fratello mio socio da sempre Daniele Lattanzio c'è stato Cristiano Antonio tutta gente che sono miei carissimi amici soci coimputati che sono gente di Milano lui dice che io sarei entrato praticamente questo che ha fatto capire prima nella NCO tramite Marco Medda allora a questo punto gli pongo questa domanda se lui sapeva che Marco Medda fosse mai stato in cella con me precedentemente ad Ascoli Piceno o addirittura in altri carceri allora solo una risposta mi pare che ad Ascoli Piceno Marco me ne accennò di questo fatto che era già stato ad Ascoli Piceno un altro particolare signor Presidente perché mi sono ricordato mi pare che abbia detto durante il fatto che il pedicino era il compagno di anello suo doveva essere vedi se ma si è dimenticato l'altro compagno di anello suo quando fu ucciso e poi abbiamo brindato ad Ascoli fa parte di un altro processo si è abituato a dirlo tu una volta tanto lo dico io le domande ha rivolto non ho capito se si ricorda che era quasi doveva diventare il suo compagno di anello e l'altro compagno di anello suo quando è stato ucciso lei ha partecipato con noi al brindio si si è regolare è normale è una cosa normale da te non mi aspettavo niente di diverso comunque mi pare che il medico che ha stato con lui e qual è l'altro compagno qual è l'altro compagno è francis turatello mio compagno ha tanta fratelli si si vabbò la con fratelli perfetto di fatti compare ce li ho io come ce li avevi tu dunque comunque dico questa gente era in cella con me con me e in cella con me precedentemente e anche in seguito a questo fatto qua ci sono sempre stati loro e c'è stato in precedenza più a più riprese anche nello stesso carcere di Ascoli Piceno il signor Marco Medda mio fratello tengo a sottolinearlo da sempre quando il signor Marco Medda parlando con me e Cocis ha detto sentite ragazzi io ho determinati problemi miei che non tengo a star qui a raccontare a voi anche perché non hanno nessun nessuna provanza giuridica devo andare in cella con Cutolo io e Marco Medda non ci siamo parlati per un mese e mezzo perché per uno che come lui va in giro a dire che il codice d'onore delle carceri e non le carceri delle carceri e non le carceri tengo siccome lui parla di codice d'onore di sapersi comportare in una cella quando si è a meno che non ci siano dei motivi di infamità cioè se uno non mi dà i motivi che mi potrebbe dare pandico in questo momento io da una cella non uscirò mai quando Marco Medda ha detto ci sono dei motivi importantissimi motivi molto gravi per i quali io devo andare in cella con Cutolo io e Marco Medda siamo stati un mese e mezzo senza parlarci e chi mi ha fatto parlare nuovamente a me con Marco Medda è stato Vito Pesce quindi dico e lì si nota quella che può essere la frattura fra me e Marco Medda che non siamo più stati a mangiare assieme non siamo più andati a passare sì al passeggio assieme ovvio quindi che domanda vuole rivolgere quindi che domanda vuole rivolgere se gli risulti no beh precedente questa non era una domanda era ma no era e lei sta facendo come va sì no però no però un momento mi dovete permettere anche una contattazione che per voi avete un stesso comportamento tutte e due è soltanto che lei abbia passato lei questo secondo ce l'ha detto anche quando è stato intervato no no presidente perché se no il signore si preparava perché sentiva quello che dicevo non si preoccupi lei ce l'ha detto anche quando è stato interrogato noi ci preoccupi lei faccia le domande appandico sì perfetto allora se gli insomma mi sembra che se volete che io giri la domanda quasi a prendervi in giro dirò le risulta che io sia mai andato a colloquio con i familiari quindi in compagnia del signor Marco Medda con qualcuno che veniva con lui e se sì e se no vuole rispondere e dirmi se gli risulti invece che io andassi a colloquio e con la madre di Rossano quando andava a colloquio la madre con Rossano Cocchis e con la moglie di Daniele Lattanzio quando nello stesso giorno alla stessa ora prendendo lo stesso treno o scendendo con la stessa macchina e se gli risulta che io andassi mai a colloquio insieme ad Antonio Cristiano con i familiari i parenti di Antonio Cristiano gente che veniva da Milano o se viceversa gli risulta che io andavi a colloquio non so con gente come Raffaele Cutolo o come Iacone o come tutti i suoi comparielli che ci poteva avere in che periodo Valazzasco? nel periodo in tutto il periodo che io sono stato ad Ascoli Piceno un momento io mi è capitato di incontrare Cutolo a colloquio come mi è capitato di incontrare no momento però il conto è a colloquio vengano anche registrati gli orari adesso questo signore dirà che ad Ascoli era tutto falso è vero solamente quando fa comodo a lui però dico vengono registrati anche gli orari degli ingressi se mia moglie arrivava faccio un esempio alla una e io trovavo Cutolo che era lì dalle undici e mezzo e beh i colloqui sono quelli mica potevo aspettare che uscisse lui per entrarci io però dico i colloqui che io invece io con Cocchis con Cristiano con Daniele Lattanzio andassimo venissimo chiamati al colloquio nello stesso momento dicendo Valanzasco Lattanzio Cocchis preparatevi che avete colloquio questo se è mai successo se a lui gli risulta e se invece è successo che abbiamo detto a me a Marco Metta a Cutolo o a tutta sta maraglia di napoletani qui se è mai successo io sia andato a colloquio con uno di loro allora a lei risulta questo fatto che? senta calma io l'ho capito la domanda mi sembra un autotredo di domande che a me mi risulta un attimo parliamo di tutte le cose che a me mi risultano andiamo più piano perché è andato a finire anche sulla marmaglia dei napoletani i marmaglia sono piuttosto non hai detto marmaglia hai detto maraglia non ho capito no maraglia maraglia è una cosa diversa comunque gli hanno un po' buono non c'è problema a me mi risulta tanto la sostanza non cambia mi risulta non è che vorrei fare offesa al nord per l'amor di non creiamo queste cose che Caripetta ha fatto tanto per agrupparla a me mi risulta che sua moglie per le armi tutte le risultanze andiamo per il prossimo colloquio la cosiddetta sua moglie delle armi ha passato una notte con al bar ma non ci interessa questo mi risulta questo Presidente mi risulta questo che i colloqui Cutolo lei ha potuto incontrarsi dopo i colloqui con Cutolo dopo che ha piegato la testa davanti a comunque non è questa la domanda che faceva lui grazie Presidente non interessa se aveva calato o meno la testa o se l'aveva alzata se facevi i colloqui con Cutolo prima con Cutolo con chi con chi faceva questi colloqui ma i colloqui dopo che lui entrò con noi li faceva insieme ai Cutoliani pur prima invece no prima li faceva Presidente prima li faceva con quelli controllate con gli amici suoi controllate vedete con le persone che lo fiancheggiano perché tutto quanto pesce passa con noi Maria Storino passa con noi Marco Metto passa con noi Stefano Cosi passa con noi Maurizio Rossi passa con noi e lui si vide solo a un certo punto incomincia un po' a infarinarsi intorno ai genotesi allora mi spiego questa questione prima che lui passasse con voi con chi faceva i colloqui ma li faceva prima che lui passasse con voi faceva i colloqui esclusivamente con chi esclusivamente con gli amici suoi con gente che con noi c'era il buon giorno e il buon giorno dopo che passò con voi quanto passò con voi dopo che passò con noi che dopo che avvenne il fatto ossia dopo pochi giorni dal fatto medicino che passò con noi che avvenne l'arte sotto missione da là si fece una fusione poi mi metto un particolare che il signore Balanzasca Presidente che accuto facciamolo precisare è giusto mi sembra giusto quando a me mi risulta per quanto a me mi risulta abbiamo fatto l'amore assieme per cortesia non diciamo colloquio forse poter salutare qualcuno in tuo colloquio cutro faceva i colloqui separati e se li facevi in compagnia li faceva con gli acone e basta se poi veniva nel colloquio mentre salutava un attimo i familiari non gli diciamo facendo i colloqui assieme è uno poi le direi un altro fatto che si può constatare dai giornali di allora che fece questo signorino allora quando si vide che non poteva far più nulla fece pubblicare una lettera sui giornali si può prendere il giornale di quel periodo il giornale di quel periodo che lui diceva cioè che fu ritorno per noi allora una provocazione una provocazione sottile io mi faccio il bagno nello champagne il giornale che sto parlando ora nel periodo di dicembre 81 gennaio 82 c'è pervenuta una lettera però non diceva che era la sua il giornale di cui Valanzaschi dichiara che ad Ascoli Piceno non si può permettere di fare il bagno nello champagne potrlo sulle gravatte di seconda mano cioè lui ha cercato di stuzzicarle certe cose che lui dice che ha fatto il colloquio a Cutolo fin quando sono stati ad Ascoli e fin quando lui stava all'opposto della barricata no quando ha partecipato al brindisi della morte di uno dei suoi tanti compari di anelli perché si sa quando poi si fece una fusione si fece tutto un erbo un fascio tutto un brodo come si faceva con il bar il caso è tutto un brodo Presidente ha risposto no possiamo quindi vabbè a questo punto vi docevo solamente dire controllate prima dopo lui l'avrà fatto con tutti gli egregi signori che aveva dall'altra parte i brindisi per Turatello io non li ho fatti allora non li ho fatti dopo e non li ho mai fatti Turatello indipendentemente sì sì Presidente altro dunque un'altra cosa visto sempre inerente io sono passato prima dopo da dove io sia mai partito quando io sono partito definitivamente lui c'era non c'era non lo so quanto meno fino a quando lui è stato lì in quale delle due sezioni io sia mai stato cioè se sia mai stato nella sezione dei cosiddetti tra virgolette cutogliani o sia stato con i cani sciolti che c'erano dall'altra parte risulta in quale sezione stava risponde la sezione era una sezione ve l'ho detto era solo divisa da due cancelli che di giorno in qualsiasi momento di notte attraverso questo che avevamo si facevano questi passaggi lei si lui si ricorda che le ho detto le ultime parole prima di partire a lui personalmente signor Balanzasco se le ricorda quando io sono partito senti stai divagando ancora in quale metà sezione ero delle due ha risposto che i cancelli solo di notte perfetto poi non c'erano posti a questa sezione al braccio dove stavamo noi si presidente però non mi si può dire altro quando lui mi risponde con delle domande che sono delle risposte inesatte io gli ho fatto una domanda lui mi ha detto semplicemente i cancelli erano aperti oppure non c'erano più posti allora chiedo è chiaro se erano presidente allora chiedo effettivamente non c'erano più posti dice così c'è ragione lui visto che non c'erano più posti io ad Ascoli Piceno sono arrivato prima gente come Raffaele Cutolo gente come Marco Medda gente come tutti gli accoliti non sono partiti in blocco sono partiti via via che sono partiti io sono rimasto lì fino ai primi di agosto quindi molto dopo che fosse partito Cutolo se a me mi è mai stato almeno chiesto non dico che poi abbia accettato meno di passare dall'altra parte perché io insomma bene o male a qua mi sembra di essere diventato il cappellino da pabuchi o sono o sono bene o male perché ci tengo e ci tengo la mia nomea che ne dica il signore dico io dico o sono quel quel buffone che va ripetendo sto signore o diversamente sono uno che quantomeno in apparenza mi si deve dare credito e quindi quantomeno in apparenza visto che hanno si tenevano assieme gente che fino ai giorni precedenti chiedeva i soldi per andare a prendere i pacchetti di sigarette non voglio menzionare troppa gente basta ricordarsi quello che andava in giro a portare il mangiare il tuo compariello non diciamo corbellerie quindi dico non diciamo corbellerie le mie sono corbellerie le tue sono cose serie non aveva bisogno di non intervenga quindi dico se gli risulta che io abbia mai chiesto o se loro mi abbiano mai invitato a passare in quella mezza sezione diversa dagli altri però combinazione presidente mi scusi c'è una cosa che tenendo presente che la metà di là era una cosa però era tutt'uno da tenere presente che nella parte dall'altra parte dalla mia c'era in cella con me nell'unico cameroncino del carcere nella quale addirittura quando ancora il signore non esisteva perché non era ancora arrivato o era arrivato era al piano di sotto ci fu un tentativo di sondaggio da parte di Cutolo per voler revenire nella sezione di lì perché voleva entrare nel cameroncino perché invece di essere a due posti aveva tre posti e questo è stato diciamo lo screzio iniziale che che ne vada dicendo lui che c'è stato fra me e Cutolo uno screzio dico e dico anche questo lui l'ha detto prima e non ho problemi ad affermarlo a confermarlo in questo caso che lo screzio tra me e Cutolo è sempre stato altamente mediato da Marco Medda però questo non è perché io fossi camorrista perché avessi delle guerre specifiche allora partiti in fretta rispondiamo a queste domande c'è stato mai qualche ha chiesto mai di andare e lui si hanno chiesto di passare con voi ecco vi rispondo che ad Ascoli Piceno si componevano le stanze in questo sistema o di posti o monoposto quando il primo partito è stato Cutolo la stanza occupata da Cutolo era col Palindo quindi lui neanche poteva passare perché la stanza occupata era sempre quindi in sostanza ad Ascoli fin quando siamo noi partiti tutti le stanze erano sempre occupate sempre o rimaneva un altro compagno in stanze eccetera per quanto riguarda questo screzzo che lui vuole inventarsi con Cutolo è tutta una sua invenzione è tutta una sua invenzione perché questo a Cutolo le ha leccato sempre i piedi sempre i piedi che si ha visto tutti i suoi se li ha vissi straticare da sotto e ha fatto il pecorone ma Presidente nessuno screzzo è meta non ha fatto mai la mediature comunque ha risposto mi sembra a questo punto però c'è una cosa dato che lui mi dice mi sono stati strappati da questa piovra che si chiamava Raffaele Cutolo dicono semplicemente dato che non vedo imputati né in questi né in altri procedimenti di Camorra torno a fare quei nomi quelli che erano i miei amici Cocchius Rossano Daniele Lattanzio Antonio Cristiano questa gente che sono miei coimputati da sempre da sempre perché Marco Medda non è mai stato mio coimputato è un'amicizia da vecchia data sempre di carcere l'unico mio coimputato che si trova imputato oggi come oggi nei processi di Camorra è Vito Pesce Vito Pesce una persona che in precedenza già da fuori e solamente in carcere sempre tramite Marco Medda ci si era pacificati era stato un elemento che a causa di droga non droga che poteva farne uso era stato allontanato dalla nostra batteria quindi le persone che ancora con me erano e sono sempre rimaste fino alla fine con me che oggi come oggi mi scrivo tuttora come fratello erano Cocchius Rossano Daniele Lattanzio queste persone che però mi erano state sradicate non le vede imputate in nessun processo di Camorra quindi però questa non vuole neanche essere una domanda a questo punto uno si deve chiedere perché Vallanzasca sì e Cocchius Rossano no e qui si torna al discorso delle armi perché Vallanzasca Renato ha fatto comodo al signor Pandico per la storia delle armi però visto che però è stata sottaciuta dai giornali dicendo che il signor Pandico ha fatto il K.O. ad Astorina l'autogogli a Astorina aveva distrutto con Cutelli con Cutelli no Presidente perché credo qualche professionista serio tra di loro c'è perché hanno scritto più o meno più o meno velatamente o più o meno calcatamente la realtà dei fatti mentre invece quando ha detto delle assolute corbellerie cose che sono riscontrabili documentabili ecco la domanda è questa allora volevo sottolineare ancora il fatto delle armi visto che il fatto delle armi è stato sottolineato vorrei chiederlo a questo signore un momentino che ho perso il filo se gli risulta se per caso Valanzasca Renato oltre ad aver avuto armi ad Ascoli le aveva mai ricevute precedentemente l'ultimo fatto di Spoletto è abbastanza recente per poterselo ricordare però se le aveva mai ricevute in precedenza le risulta qualche cosa in proposito va avanti se in precedenza stavo prendendo sonno sì è normale il fatto delle armi abbinate col fatto di Adamo è una brevissima Presidente ho fatto una domanda però ho fatto una domanda in precedenza le risulta che ho avuto armi a noi non ci risulta perfetto Presidente a questo punto vi dico semplicemente ha detto che non gli risulta prima di quelle armi all'organizzazione no ah ecco allora tengo a precisare che in precedenza io ho tanto di tentato evasione che ha fatto uno scalpore della Madonna no lo dico perché magari qualcuno che leggi giornali siccome questo qui si è solamente documentato con i pezzi di carta che ne hanno passato fino a dopo io ho parlato di Ascoli se vuoi tentare evasione di Faspoleta a Milano o da Campobasso dove non ci interessa comunque Presidente cioè tengo a precisare che quindi Valanzasca se ha ricevuto le armi e le ha ricevute Valanzasca ad Ascoli che cavolo di camorra e NCO e Quito e Pandico non esiste proprio le pistole erano mie domanda si ho chiesto semplicemente se aveva se gli risultava che altre volte avessi ricevuto già ho disposto perfetto allora se le risulta che cosa è stato portato insieme alle due pistole che cosa se gli risulta che due pistole quante pistole c'erano a proposito dimmelo tu perché le hai avute in mano tu innanzitutto il tu se lo tenga per lei perché li fa comodo eh quante pistole le hai avute in mano ricordo e anche il voi viate lei ha detto che il voi non le piace che sono remissivo eh signor Pandico mi scusi quante pistole sa che sono state sono state introdotte al carcere di A un attimo perché se io rispondo io rispondo a questa domanda il signor Balanzasca deve anche dire che ci ha portato le pistole poi le pistole non entrano così Presidente ma le domande le fa anche una no lei fa delle domande qui non confronto e poi eventualmente io chiedo semplicemente se no lei non dirige niente lei eventualmente gli fa qualche domanda e vediamo se è possibile se ha metto io gli ho fatto questa domanda quante pistole gli risulta che sia entrata ad altri hanno a me e allora da metà ci risultano quel smith a tampuro 32 e ci risultano 4 7 65 basta allora altro niente altro che cosa intende per niente altro bo no perché volevo comunque già è stato sentito anche i risultori non ho capito altra domanda no no Presidente ha risposto ha risposto perfetto allora non sono mai lui visto che gli risultava tutto glielo ho chiesto perché questo qui non passava niente senza bisogno del suo avvallo per questo chiedevo se aveva quindi le pistole non sono mai esistite 5 pistole ad Ascoli Piceno no basta vedere i i i perfetto chiedevo se c'era un'ulteriore cosa perché magari il brigadiere di servizio in una non so come si chiama perché io non ho la memoria di Pandico in una perquisizione antecedente al ritrovamento delle armi ha ritrovato un coltello nuovo di zecca che è stato non attribuito ma dato che l'hanno trovato nel Cameroncino che non erano tutti a due a un posto ma il Cameroncino era a tre posti è per quello che Cutolo voleva entrarci quindi dico in questo frangente smontando i tavoli tutti i tavoli che sono attaccati bullonati dentro uno di questi tavoli avevamo un coltello nuovo di zecca al che e si può venire benissimo la data perché se le se le ha collato Cocchis Rossano nessuno della NCO dicendo che lui l'aveva portato giorni prima tornando dal processo di Firenze per questo dico accertando quando è stato trovato il coltello il processo di Firenze si vede quanto distacco c'era questo coltello era e risulta ad Ascoli insieme al pacco che sono state portate le armi le armi non erano cinque erano quattro se gli risulta oltretutto che una pistola dal momento dell'ingresso è stata rimandata fuori e per quale ragione visto che lui sapeva tutto c'è una è stata rimandata all'armiera sì all'armiere l'abbiamo mandato fuori no ce lo dica Pantico sa tutto e risulta quel qualche armi è stato mandato indietro signor Presidente qua non si deve fare questo il fatto di Cocchi che si è presentato col cortello in galera si usa fare spesse volte questi fatti quando si hanno determinate armi si hanno eccetera viene trovato per dire un cortello se si dà la direzione subito un responsabile cioè che va là dicendo si frena e non va cioè si manda a posto un responsabile lavandie la si indusse a questo Cocchi poiché c'era tutta questa roba sotto io ho detto se non vado errando durante il corso istruttorio che le pistole a tasco di Piceno erano 4,7,65 e un Smith,38 e lo confermo tutt'ora perché io ho anche dichiarato che quando il Di Matteo fu ucciso il medda mi disse una dell'arma un'arma la trovò addosso a Di Matteo o sotto al cuscino cioè nel punto dove stava il Di Matteo lei ricorda anche benissimo che all'atto della mia partenza da Ascoli Piceno signor Balanzasca le chiese scusa dalle armi che alla fine che erano fatte le disse queste testuali frasi io chiedo scusa a mia persona dell'organizzazione perché siamo arrivati qua come pionieri stiamo partendo come profughi lei disse no sono cose che accadono sono cose pazienza vabbè 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 ho la già scalta sì sì presidente io ho la possibilità di vedere in faccia chi mi accusa io non ho fatto confronti precedenti in istruttoria è la prima volta che ho l'opportunità di vedermelo davanti quindi lasciatemi togliere lo sfizio almeno di di farmi sapere tutti gli interrogativi che io mi sono posto fino a questo momento prima di arrivare qui qual è l'altro? eh? non ho capito sì stavamo parlando del coltello di cocchi su un attimo che io dovete scusarmi non ho la sua memoria io quindi devo leggere quindi ci sono oltretutto sono vabbè a proposito dei soldi che la NCO mi avrebbe dato tutti questi milioni qua che viaggiavano tra la NCO che regalava e largiva milioni come fossero non lo ha ricevuto lei no 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 siccome però non lo ha ricevuto niente ha ricevuto dei soldi dall'organizzazione non era stipendiata ma al caso di bisogno le ha avuti eh no Presidente un momento momento Presidente prima di aggiungere un particolare ho chiesto i soldi delle armi lui ha detto che mi sono stati dati 5 milioni per le armi mi riferisco fa Presidente mi scusi posso dire da dietro alle gappi posso da dietro alle gappi posso dire una cosa Presidente un attimino no 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 facciamo completare Presidente mi scusi qui c'è è assodato che soldi a secondo il signor Pandi gli hanno ricevuti tutti non venivano stipendiati a secondo il bisogno quindi io su quello non gli chiedo nemmeno niente perché andrebbe a finire che li ha dati a mio padre a mia madre mi farebbe carcerare pure loro quindi non ne voglio nemmeno parlare dico semplicemente nel caso specifico delle armi il signor Pandi ha qui dichiarato di avermi datoci o lui o chi per lui o chi per lui le armi sono state pagate 5 milioni a testa è una notte d'amore da sua moglie perfetto questo lo faceva tua mamma e allora si è abituato perché a chi sono stati dati questi soldi come? a chi sono stati dati questi soldi a chi sono stati versati a lui a me dal pesce lei personalmente li ha versati? no putolo ne abbiamo parlato di questi fatti che poi se andiamo vedendo forse l'ha fatta da brutta a palillo li prendete da quel buco dietro a testa letto sì sì quella caverna che c'era in cielo altra domanda? sì no Presidente è una notte d'amore con la guappa al panno mi sembra l'hanno capito tutti e quindi non c'è bisogno che lo dici andiamo ancora avanti sì no Presidente lui l'altra volta ha anche spiegato che gli ha dati a me ma non è finita la storia lui deve dire che fino hanno fatto questi soldi lui ha detto e lì io mi riferisco sempre a quello che ho sentito a quello che ci è registrato lì rispieghi per favore alla corte il signor Pandico oggi che è davanti a me che fino hanno fatto quei 5 milioni quali? quelli delle armi? ancora te lo devo ripetere un'altra volta se ne ha comprato Brossolini che ne so mi sono stati dati i soldi i soldi e uno le spendo come vuole poi quindi sono stati dati a me allora non esiste che lui abbia fatto passare dei soldi in una scatola di cioccolatini per mia moglie non è vero questo fatto che hai affermato non più di 4-5 giorni fa innanzitutto il tusolo d'anca per l'ele ribadissimo signor Pandico i 5 milioni che sono stati versati a me sarebbero usciti in una scatola di cioccolatini per mia moglie è vero o non è vero ho detto che gli sono stati dati 5 milioni a pistola anche da parte dell'NCO e lei di collaborazione su quelle armi ha dato una notte d'amore di sua moglie ancora ma Presidente sto chiedendo Presidente siccome io non mi invento niente a me risulta qualche cosa in più come sono usciti non mi risulta allora Presidente allora devo ripetere al Presidente alla Corte e al Signor Pubblico Ministero di andare a verificare che Pandico ha dichiarato che gli avrei mandato fuori 5 milioni ce lo farà poi il suo avvocato nel corso della discussione si farà rilevare tutte le differenze che ci saranno le divergenze beh no Presidente mi scusi io qua non vuole essere non vuole essere non vuole essere una mancanza nei confronti della Corte ma evidentemente ci sono avvocati che sono un tantino intimoriti dal processo e magari non dicono o non si impongono mettiamola così questo non è giusto ebbè non può fermare una cosa signor direttore se ci sono delle discordanze le potevamo rilevare questo non mi sembra proprio no questo non mi sembra io vedo che io in più di un'occasione io ho l'avvocato Baccioli che mi sembra uno di quelli battaglieri quando gli dico senti fai questa domanda al pandico perché vedo che mi tira in mezzo mi dice Renato lascia perdere perché tanto mi mettono a sedere questo è un discorso ma può essere battagliero fino a un certo punto insomma può essere battagliero fino a un certo punto lui si rende conto fino a che punto no no e comunque stavo cercando siccome lui l'aveva spiegato tanto bene l'altra volta il fatto dei cioccolatini non lo ricordo oh Presidente questo è di che costante prego dico poi vedremo se ci stanno delle discordanze bu siccome adesso c'è una cosa che per me è la conclusione è la conclusione però non è una conclusione in ordine cronologico di tempo ma bisogna è una conclusione che faccio la dovevo fare all'inizio però ho lasciato che prima fino a domani mattina no 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 è per cortesia domani domani eh Presidente scusi domani si si posiamo Presidente 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 per favore il discorso è questo prima di tutto le torno a ripetere se mi deve far star zitto mi faccia star zitto lei e non un essere del genere primo secondariamente secondariamente lei faccia la domanda non mi faccia così fino adesso ha detto che io vendo mia moglie perché lui l'ha ripetuto 30 volte non mi avete fatto signor di star zitto quindi torno a ripetere siccome qui spesso e volentieri gli è stata proposta la domanda e la mia domanda ha un fine ben preciso chiedo al signor Pandico visto che lui ci ricorda giorno mese ora di ogni situazione di ogni circostanza in quale circostanza che giorno quantomeno che mese lui è arrivato ad Ascoli e abbiamo stabilito che è l'8 di agosto perché me l'ha ripetuto fino a diventare l'8 di agosto mi sembra l'ha detto diversamente quando è salito al piano di sopra quando lui si è messo nel piano di cutolo con i cutogliani anche questo ha detto avvocato un colo valanzasca allora lui ci ha detto questo eh avvocato un colo valanzasca allora Pandico Pandico quando è salito al piano di sopra eh l'ho detto eh vabbè se lo ripetete non potiamo togliere i graviccioli imboccioso che viene qua per fortesia si caldi eh no ancora lei ha parlato tanto per favore è giusto che ci sia ma eh Presidente l'ho ripetito fino alla monotonia Pandico ma per vostro favore sono arrivato lo ripeto come una bemmaria la devo ripetere il mesogiorno dell'8 agosto del 1909 quando è salito di sopra Presidente la mia domanda esigea solamente una risposta settembre ottobre novembre dicembre una risposta questo mi sta raccontando nuovamente la storia della sua vita la risposta quando è salita al piano di sopra ma salita al piano di sopra è stata dopo un mese un mese e mezzo ma col cutolo il contatto è stato subito no eh Presidente ci sono documenti di cura ma non c'è altro perché io dico e dico a questo punto come dice lui verificate io dico che il signor Pandico è salito solamente dopo le feste di Natale dell'ultimo dell'anno momento Presidente siccome però lui per giustificare questo dichiara dicendo posti di sopra non ce n'erano allora gli chiedo i due suoi coinputati imperatrice ed amico quando sono arrivati al carcere di Ascoli Piceno e questi due signori se sono arrivati prima o dopo di lui e se sono saliti o meno al piano di cutolo mi sembra piuttosto chiara la domanda e d'amico quando sono arrivati imperatrice e d'amico quando sono arrivati se lo ricorda Pandico se lo ricorda perché anche lei può dipendicare qualche cosa diciamo che non lo ricordo qualcosa così no come? noi chiediamo che la circostanza sia accertata questa circostanza va bene questo si accerta perché abbiamo il diputato va all'anzato perché la riteniamo importante va bene è terminato possiamo Presidente io solamente visto che Pandico ogni tanto giustamente la defaianza allora glielo ricordo io i signori imperatrice e i signori eh d'amico sono arrivati dopo l'otto agosto eh sarà stato settembre sarà stato ottobre ma per gente di cutolo il posto c'era per uno scoppino il posto non l'ha mai trovato va bene ha terminato con un'office insomma bravo finalmente lei stia zitto allora sospettiamo un attimo già si bene cosa ti credo beh potremmo se se può rimanere chiudiamo con Pandico quali ne abbiamo la difesa stanca io e così ci leviamo pensi va bene va bene ebbè soltanto abbiamo oltre che siamo arrivati all'ottosio non fate domani eh a me li fatti fa 800 km 24 ore non fate domani ma c'era una cosa un momento solo l'avvocato Lavalle mi pare che volesse sentire prima qualcuno che lei non voleva più tornare perché mi chiese e ancora Pandico e poi gli altri abbiamo facciamo vedere incarnato se viene se viene ma non viene Pandico incarnato Catapano ma noi speriamo di chiudere perché la volta è chiuso con Pandico è finito io vi faccio i giorni a tutti se vogliono e poi dopo di che andiamo a fare due giorni e cinque anni di testimoni possiamo fare va bene allora a questo punto dice che lei è pure battagliere quindi deve stare allora si rinvia che è 21 mi pare presidente se ritiene che debba fare quelle due richieste istruttorie una quella già annunciata si faccia prima la richiesta dunque io chiederei che siano accertati si è accertato appunto presso il carcere di Ascoli il momento nel quale è arrivato Pandico e la sua collocazione in particolare con riguardo alle celle e alle sezioni dove erano risposti i cutoliani e che si è risposto anche l'accertamento del momento in cui sono giunti d'amico e imperatrice e del momento del loro trasferimento invece nelle sezioni dei cutoliani questa è la prima richiesta la seconda richiesta su un punto è un punto di confronto il quale la chiederei fra Leonardo e Pandico mi sembra un punto rilevante fra Pandico e Leonardo ossia sono due sono stati ascoltati è ammissibile il confronto la circostanza è la collocazione in modo chiaro e implicito che tutti gli affiliati vengono collocati su una certa zona e ha raccontato una serie di altri aspetti in relazione alla collocazione a zona ha detto oggi Leonardo che invece non è vero finché si era in carcere non si veniva collocati in nessuna zona siccome io sono valuto per i miei imputati oltre che per la veridicità in generale di Pandico per la questione dei miei imputati le collocazioni in zona hanno una significatività di riscontro io riterrei che questa circostanza sia di particolare importanza potremo anche sentire poi fra gli stessi una circostanza mi sembra che un'età rilevante anche se un po' meno sulla questione degli ad honorem Pandico crea una struttura dove vi sono appunto dei affiliati all'onorem che hanno una figura specifica Leonardo ha detto di non saperlo poi ha detto mi sembra addirittura di escluderlo su una domanda appunto della difesa quindi oltre la prima circostanza che per me è di particolare rilievo riterrei se si dovesse porre i due a confronto di porli a confronto anche sulla questione dell'affiliazione all'onorem il pubblico mistero su queste richieste non si oppone e il tribunale si riserva sempre di proseguo tanto noi vabbè voi vi associate allora inviamo al 21 maggio ad ore 9 no è un momento ah già un momento solo avvocati prima di chiudere dice che c'è Melluso che vuole la parola gli passate un attimo il microfono presidente posso parlare si sono Melluso si io quanto prima devo fare di confronto con Tortere giusto non lo so quanto prima dicono non sono stato ancora disposto non lo so gli volevo ti chiedere se come il ministro degli interni si sta interessando a spostarmi la famiglia la prego di aspettare che si stanno interessando la procura e il ministero di spostare la mia famiglia altrimenti qui mi succede un altro guaio se faccio queste confronte ma io non lo so se farei confronto lei mi ha fatto una richiesta no io gliela chiedo ufficialmente la richiesta no e vabbè non lo so dipenderà il tribunale stabilirà se lei dovrà fare sì lei io mi sto chiedendo a lei presidente d'accordo lì mi ha scritto una lettera in proposito io l'ho messa gli altri oggi qui non c'è un problema un punto sulla verbalizzazione d'accordo ho capito un punto sulla verbalizzazione siccome va bene c'è la registrazione della quale risulta tutto però appunto nel caos dell'andare sembra questa circostanza non sia stata verbalizzata invece c'è una circostanza che per me per altre considerazioni è particolarmente rilevante se non è stata verbalizzata perché il cancellare non ricorda la comitazione che pandica a un certo punto ha detto noi conoscevamo come tuo cognato Claudio Gatti che vorrei che fosse verbalizzata senza come io siedo che venga verbalizzata se l'ha già verbalizzata non l'aggiunge se non è stata verbalizzata invece l'aggiunge su richiesta mia se il tribunale ritiene di consentire signor Presidente mi scusi sono Catapano signor Presidente potrei parlare? potrebbe? potrei parlare? come? senta signor Presidente io vorrei fare dato che qui sono state fatte molte richieste no? che dai detenuti per l'articolo 90 il bacetto dalla morte e tutto no? io a nome dei pentiti di Campobasso vorrei che lei gentilmente la corte si interessasse per la protezione delle famiglie dei pentiti perché non tutti come me possono avere la fortuna di avere la famiglia al sicuro come D'Amico come Marra e tanti altri pentiti che purtroppo si trovano in una situazione che credo che se ci avrebbero dell'escorto sarebbero protetti penso che non ci sarebbero più problemi cioè a mettere a loro agio a loro agio questi pentiti di poter parlare di poter confermare tante accuse che noi stiamo facendo noi le stiamo facendo ma tanti di noi dicevano anche delle minacce cioè lo Stato fino ad ora non ha fatto nulla noi stiamo andando avanti nonostante tutti i rischi e abbiamo pagato con il sangue ci sono molti pentiti che hanno pagato con il sangue signor Presidente non ce lo scordiamo come il fratello di Mari Incarnati il fratello di Mellusi il padre di D'Agostino e tanti altri cioè che lo Stato dà stai segni di qualche cosa nei nostri confronti non chiediamo non so la luna chiediamo solo di avere le famiglie protette cioè questa è una richiesta io faccio il nome di tutti i pentiti cioè non tanto per me perché io come ho detto la mia famiglia è al sicuro le mie accuse andranno fino in fondo sto accusando e continuerò a accusare grazie signor Presidente allora quindi al 21 maggio si dispone la ritraduzione la difesa resta tolta Giuliazio è tolta allora dovevano venire due persone grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti